Come di consueto con le interrogazioni a risposta immediata consiglio giunta, primo prenotato oggi a calendario il consigliere Villa, qui darò la parola a brevissimo, interrogazione per l'assessore Picciocchi, risponde lei assessore Maresca, poi mi direte voi, in merito alla perdita del campionato nazionale di pesca sportiva a Genova per la prima volta nella storia di questo sport, lei la parola consigliere Villa. Grazie Presidente, grazie Assessore, ma già nei primi giorni del mese di ottobre i pescatori genovesi e chiaramente anche la FIPS, che è la federazione che riunisce tutti gli appassionati e gli sportivi della pesca sportiva, avevano manifestato disappunto e amarezza perché per la prima volta nella storia di questa città si era perso la una tappa del campionato nazionale di pesca sportiva. Tale campionato non si poteva realizzare perché appunto erano interdette alcune zone, alcune aree, compresa la diga foranea dell'area portuale, per poter appunto realizzare questo campionato. La protesta insieme a quella di tanti appassionati, le migliaia di appassionati sportivi e pescatori genovesi era sfociata poi in una manifestazione che si era fatta appunto a De Ferrari, sempre per lamentare questa cosa e anche l'impossibilità durante tutti i giorni di potere appunto utilizzare quegli spazi. Ora successivamente erano usciti alcuni articoli sui giornali e già in allora appunto avevano fatto presente che il comune si potesse attivare nei confronti appunto di autorità portuale perché appunto queste cose si potessero realizzare. Tra i me la tappa di quest'anno oramai è stata chiaramente realizzate in un'altra città perché sono comunque occasioni importanti per Genova per far venire tanti appassionati e ma si spera davvero che questo non accada anche il prossimo anno. E quindi bisognerebbe sollecitare ulteriormente autorità portuale o comunque gli enti preposti per far sì che si ritorni a poter innanzitutto pescare in maniera dilettantistica ma certamente anche in maniera sportiva e si possano realizzare altri eventi che oggi non sono avvenuti. In una città dello sport dove appunto si cerca di promuovere tutte quelle attività sportive anche la pesca sportiva risulta essere un fatto decisamente importante. Ecco io invito quindi e lo ringrazio il sindaco ed eventualmente l'assessore che mi risponderà su questa iniziativa perché queste cose non accadono più e successivamente tenere aggiornati tutti i pescatori genovesi perché appunto abbiano notizie certe in merito a quando poter ritornare. Ricordo che soltanto dopo e in occasione della pandemia gli spazi erano stati chiusi ma non si capisce quali siano le ragioni perché attualmente ancora non si possa andare. Grazie. Grazie consigliere Viglia. Assessore Maresca, prego. Grazie consigliere. Grazie presidente. Allora questo è un problema che sta andando avanti circa da due anni perché da quando c'è stata la pandemia prevalentemente è insorto un po' la difficoltà e anzi il divieto da parte di autorità di sistema portuale e capitaneria di far arrivare i pescatori nella diga appunto per pescare. Oltre a questo purtroppo c'è stato anche un motivo riguardante appunto i lavori strutturali, cioè l'imposizione strutturale della diga che ha necessitato di lavori. Diciamo che queste erano un po' le due ragioni che da qualche annetto circa autorità di sistema portuale nelle nostre riunioni che facciamo ogni mese ci diceva. Per quanto riguarda i lavori ci hanno rassicurato proprio i funzionari di autorità di sistema portuale che sono stati ultimati quindi la diga ora è pronta per essere per riaccogliere i pescatori quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Si è superato anche il problema ovviamente relativo all'emergenza covid perché anche da quel punto di vista si prenderanno appunto le misure necessarie che derivano dalla normativa nazionale e in materia. Per quanto riguarda invece la responsabilità, l'assunzione di responsabilità e poi degli stessi pescatori e della loro incolumità all'interno della diga c'è in corso un dibattito tra autorità di sistema portuale e capitaneria. Un dibattito a cui noi come Comune di Genova stiamo partecipando anche attivamente senza ingerire ovviamente nelle competenze di altri enti che non sono ovviamente le nostre per cercare appunto di risolvere questa assunzione diciamo di responsabilità. Visto che come ha detto ben lei abbiamo già perso i campionati di pesca non vogliamo poi ridurci e perdere anche altre cose. Per noi la pesca comunque sia sportiva che non sportiva è molto importante per la città, è importante per l'indotto che reca nella Blue Economy e quindi come Comune stiamo non soltanto monitorando ma facendo un'azione ovviamente legittima di pressione verso le suddette autorità per far ritornare i pescatori nella pesca. Io confido che nel giro di pochi mesi, io spero che in uno o due mesi si risolva la situazione anche perché ora la stagione della pesca ovviamente è a un capolinea. Di conseguenza sarà mio onere e mio dovere appunto rispondere eventualmente nel momento in cui ci sarà appunto una richiesta da parte vostra a questo Consiglio Comunale, alla Commissione nel momento in cui appunto abbiamo risolto questo problema. Da parte nostra comunque c'è il lavoro e la volontà di far ritornare i pescatori a pescare nella diga come è sempre successo negli anni passati e succede anche in altre città in Italia come Livorno e Trieste. Grazie. Grazie Assessore Maresca. Consigliere Villa, prego. Sì grazie, terrò monitorato appunto anche in riferimento all'assessore stesso, lo ringrazio per far sì che davvero si ritorni comunque alla realizzazione di nuovi eventi sempre appunto in prossimità dell'autorità portuale. E' un fatto sicuramente di possibilità da parte di autorità portuale a concederlo e chiaramente poi mi attiverò ad avere nei confronti appunto dell'amministrazione per far sì che questi eventi appunto si realizzino. Grazie. Allora passiamo all'interrogazione della consigliera Brusoni per l'assessore Picciocchi. Sicurezza e degrado nella delegazione di Ponte X zona rimessa dove i cittadini segnalano alcune criticità riguardanti sia il degrado della zona con strade e marciapiedi con asfalti ammalorati e giochi per bambini abbandonati sia la mancanza di controlli su aree dismesse le quali soprattutto nelle ore notturne vengono usate in modo improprio. Si chiede quindi all'amministrazione come intende risolvere questi problemi per ristabilire una situazione decorosa per i cittadini della zona. A lei la parola consigliera Brusoni. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Innanzitutto il mio articolo 54 è abbastanza complesso e quindi Assessore so che lei è sempre disponibile per fare dei sopralluoghi e quindi quando lei potrà forse la cosa migliore sarà organizzare una visita a Ponte G a Ponte G decimo in questa zona appunto chiamata la rimessa perché così potrà vedere meglio quanto io voglio esprimere. Ricapitolando ci sono varie problematiche che non riguardano solo ed esclusivamente il suo assessorato però ci sono invece anche alcune situazioni come giochi che sono in forte degrado e in condizioni obiettivamente precarie poi c'è una zona, un'ex scuola dove anche lì ci sono grandi criticità tombini sulla strada che non sono fissati e sono molto pericolose per le moto e le biciclette, varie buchi nel manto stradali e sui marciapiedi. Però è un discorso indubbiamente più ampio Assessore, è un discorso che deve riguardare anche la sicurezza e anche una questione di protezione dell'ambiente. Quindi spero che attraverso questa segnalazione si possano già fare qualche interventi anche come per esempio nell'alvio del fiume c'è una vegetazione molto rigogliosa e quindi anche particolarmente pericolosa in caso di forte piagge. Come le ripeto attraverso la mia segnalazione penso che si possano già fare degli interventi ma se potrà naturalmente potremo andare a fare insieme un sopralluogo insieme anche ad alcuni cittadini della zona. Grazie. Grazie consigliera Brusoni, Assessore Picciocchi per la risposta. Grazie Presidente, buongiorno consigliera Brusoni. Intanto confermo assolutamente la mia disponibilità ad effettuare un sopralluogo insieme a lei, insieme ai cittadini per verificare le varie criticità. Ponte Decimo è una delegazione che conosco bene, nella quale sovente mi sono recato, ho eseguito vari sopralluoghi e stiamo anche facendo interventi importanti, ripristino dei giardini con Izzugna piuttosto che notevoli interventi nella scuola Gallino. Abbiamo recentemente licenziato le opere compensative del terzo valico che vedono proprio degli interventi importanti in quel di Ponte Decimo. Questo per dire in premessa che è una delegazione che è assolutamente oggetto dell'attenzione dell'assessorato in questo periodo. Quindi rispetto a quello che lei ha chiesto, confermo la disponibilità ad organizzare e predisporre un piano di azione con specifico riferimento all'edificio in amianto, l'ex fabbricato scolastico, è un titolo che abbiamo inserito nel piano triennale dell'opera pubblica la demolizione di questo fabbricato. Adesso mi coglie impreparato perché non ricordo esattamente l'annualità, lo stiamo definendo il piano insieme ai municipi l'abbiamo parlato anche con il municipio 5 della necessità di questo intervento che cercheremo di realizzare al più presto. Grazie. Grazie Assessore, Consigliera Brusoni, breve replica, prego. La ringrazio per le sue precisazioni, quindi organizzeremo il sopralluogo. Grazie. Passiamo ora alla terza interrogazione, ma non... ecco, ho sbagliato come al solito postazione. Chiedo scusa, Consigliere Pignone, per l'Assessore Maresca, si richiede informativa relativamente all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affido in subconcessione degli spazi e del personale del settore merci dell'aeroporto di Genova, Cristoforo Colombo. A lei la parola, Consigliere Pignone, con il silenzio in aula, per cortesia. Grazie. Grazie, Presidente. Scusate. Sì, la nostra interrogazione è relativa al fatto che si è saputo appunto che c'è questa manifestazione di interesse, questo bando, per dare in subconcessione un'ulteriore parte del nostro aeroporto, Cristoforo Colombo, nella questione, in questo caso, del settore merci. Dato che, come sa l'assessore, da molto continuiamo a provare a fare un ragionamento sulla parte logistica di questa città, e spesso la parte dell'aeroporto è assolutamente trascurata. Nell'ultima commissione con presente il Dottor Righi, c'era stata esposta tutta una serie di desiderata da parte dell'aeroporto, ma nessun progetto, nessuna visione generale era stata esposta. Dopo aver dato in concessione, in subconcessione, addirittura i parcheggi dell'aeroporto, ora vedo un altro pezzo strategico alla città stessa, ma non necessariamente dell'aeroporto, ma del contesto logistico, e per cui quello che era legato anche alla movimentazione merci, io vedo qui che senza una dichiarazione di intenti, perlomeno, trovo un bando per questa subconcessione, un tentativo per cui dare a terzi la gestione del merci stesso, tra l'altro anche con la possibilità di esternalizzare, cioè di dare il personale anche a questo ipotetico, voglio dire gestore, per cui si chiede qui un'informativa su quello che si sa da parte dell'amministrazione, su quello che sta avvenendo. Grazie. Grazie consigliere Pignone. Assessore Maresca, prego. Grazie consigliere, grazie presidente, quello che lei pone ovviamente è un obiettivo importante per tutta la città, lo sviluppo della logistica, soprattutto in quelle aree, in quelle zone, che magari hanno una maggiore necessità di essere implementate con nuovi posti di lavoro. Io ovviamente ho parlato con Aeroporto, sempre nel rispetto ovviamente di due amministrazioni differenti, però che sono in un quadro complessivo di sviluppo della città, questa manifestazione appunto è tesa ad individuare appunto un soggetto, un soggetto che è in grado di valorizzare sia sul piano occupazionale, sia sul piano appunto della logistica integrata, un soggetto appunto che possa magari riqualificare dal punto di vista lavorativo e della logistica determinate aree dell'aeroporto che potrebbero essere ancora più, diciamo, messe a reddito di sviluppo economico per lo stesso aeroporto. A me l'aeroporto di Genova ovviamente mi ha descritto alcune ovviamente condizioni, sempre nel rispetto delle normative che loro hanno indetto, che hanno inserito in questa manifestazione, per esempio l'obbligo dell'impiego del personale attualmente operante presso una struttura merci, in regime di distacco da Aeroporto di Genova nel rispetto appunto della normativa vigente, quindi c'è anche ovviamente una garanzia per i posti di lavoro attuali. Poi una garanzia di normale operatività nella fascia oraria dalle 9 alle 17 dei giorni feriali con disponibilità ad assicurare i servizi negli orari non coperti previo o preavviso e un obbligo all'applicazione delle tariffe ai vettori aerei ed operatori merci non superiore a quelle pubblicate ed attualmente in vigore. Diciamo che queste tornano tre delle condizioni poste all'interno appunto della manifestazione. Io credo che siano molto importanti alcune aree su Genova, ma alcune aree sempre sull'aeroporto che a mio parere, sempre nel rispetto delle amministrazioni, potrebbero essere utilizzate ancora meglio sempre per lo sviluppo dell'aeroporto, ma anche per lo sviluppo della logistica in città. Io credo che la cosa più utile da fare sia nel momento in cui questa procedura sia chiusa, poi promuovere anche delle commissioni che spieghiano appunto lo sviluppo dell'aeroporto in questo senso, senza ovviamente andare a togliere già quello che l'aeroporto produce per Genova e non soltanto per Genova. Qua si parla di funzioni comunque logistiche connesse con l'aeroporto, quindi tutte funzioni che vanno a implementare il flusso logistico dell'aeroporto non vanno a diminuire. Quindi questo è quello che ovviamente nel rispetto delle procedure siamo in grado di dire. Grazie Assessore. Consigliere Pignone, prego. Vedi Assessore, comprendo perfettamente le intenzioni che l'aeroporto mette in campo, ma secondo me manifestano comunque un timore mio, cioè quello dell'incapacità della direzione di aeroporto di inserire questo in un contesto più globale. Noi continuiamo a vedere delle attività, pezzetti diciamo, delle varie attività, compresa questa che addirittura, come si dice qua, per 100.000 euro all'anno, perché stiamo parlando di questo volume, in più una royalties sui volumi d'affari, esternalizza per incapacità di inserire l'aeroporto in un discorso più complessivo, delega per cui a terzi eventualmente questa possibilità. Anche il personale, nessuno nega infatti, che dal punto di vista sindacale, voglio dire, questo va a difendere anche i posti di lavoro, però si continua a non vedere qual è il disegno di insieme. Ricordo qui che questa settimana c'è solamente una commissione, io ho già chiesto, e grazie per la disponibilità, una commissione che non parli solo però dell'aeroporto, ma come l'aeroporto può essere inserito in un complesso, in un discorso più generale e complesso delle attività logistiche della città, che sia questo anche quella del porto, ma dell'aeroporto, cioè non si continui a spezzettare quello che è strategico per la città, e non è un'altra attività, non è un'altra istituzione, è l'aeroporto di Genova e in questo caso del settore merci. Grazie, grazie consigliere Pignone. Passiamo ora alla consigliera Paglialunga per l'assessore Picciocchi, si richiedono informazioni in merito al cantiere in piazzetta Tiglio Firpo a Marassi, presente da vari mesi senza cartelli, cantiere che occupa circa 10 osteggi del quartiere. Lei ha la parola. Grazie presidente, buongiorno assessore. Il mio articolo 54 è appunto su piazzetta Tiglio Firpo, è una piazzetta, come lei sa, vicino a Via Canevari, è strategica per quel territorio, perché ci sono le poste, la ASL, e parecchi negozi di vicinato, e la zona è molto popolosa. Da qualche mese c'è questo cantiere delimitato, diciamo da una sorta di ponteggi, di transenne, ma non si vede mai nessuno lavorare, e non ci sono cartelli intorno a questo cantiere. e è, come ripeto, una piazzetta strategica, perché questo punto, diciamo, questo cantiere, sottrae circa 10 posteggi della zona. Quindi la mia domanda è appunto avere informazioni in merito, sia per i tempi di smantellamento, che per sapere quando i cittadini potranno riavere questi posteggi. Grazie. Grazie, consigliere Paglialunga. Assessore Picciocchi, prego. Grazie, Presidente. Buongiorno, consigliere Paglialunga. Abbiamo verificato che l'area in questione non è un cantiere di Aster, ma è un'area operativa che in questo momento viene utilizzata dalla Sidi Greenlight, che è la società che, come sa, si è giudicata l'opera di efficientamente energetico cittadino con la sostituzione di tutti i punti luce della città che è in corso in questi mesi, lo sappiamo, e conseguentemente quest'area viene utilizzata per deposito di pozzetti, chiusini, cavidotti, tubazioni, materiale di risulta. Chiaramente è un contesto provvisorio, ultimate le lavorazioni, l'area sarà liberata. Ora non ho esattamente i tempi predefiniti, però cercheremo di sollecitare perché al più presto possano restituirsi questi posti auto. Grazie. Grazie, Assessore. Consigliere Paglialunga. La risposta? Comunicherò ai cittadini ecco questa informazione, i quali sono in attesa e sperano di veder liberato al più presto questi posti. Grazie. Allora passiamo alla successiva interrogazione proposta dal Consigliere Giordano. Risponderà l'Assessore Tamporao Picciocchi. Picciocchi, grazie Assessore. Si chiedono aggiornamenti circa progetto e bando relativi alla cabinovia dei Forchi. A lei la parola. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Dunque, la realizzazione di questa cabinovia come lei ben sa è stimata per un importo tra i 22 e i 27 milioni di euro di cui circa 2 milioni per la progettazione. Rientra nel programma degli interventi del Comune di Genova per la valorizzazione dei forti che saranno raffidenziati con le risorse del PNRR più 2 milioni di manutenzione anno. La prima domanda che ne faccio è come pensate di affrontare l'argomento molto complesso quali i forti, le loro connessioni come previste dalle norme che regolano il parto urbano dei forti e delle mura genovesi pubblicando in anticipo su tutti un bando per la progettazione e la realizzazione della nuova cabinovia stazione marittima Forte Begato. La risposta che abbiamo chiesto alla soprintendenza nel merito del progetto ha avuto una risposta ben precisa. La soprintendenza non ha mai ricevuto nessuna documentazione in merito. Ha avuto solo incontri preliminari nei quali abbiamo sollevato le nostre perplessità per la posizione e l'altezza dei pilloni, l'impatto sia alla base che all'arrivo in quota. Come mai il progetto oral bando non è mai stato sottoposto formalmente al parere della soprintendenza essendo tale che abbia una via non prevista nel PUC? Una struttura che passa in un'area vincolata dal punto di vista paesaggistico, storico e patrimoniale? Come pensate di rendere compatibile un progetto di questa portata con la normativa del piano regolatore? Noi assessori non siamo contrari a un potenziamento dei sistemi di risalita dalla costa ad insediamenti sulle colline del parco urbano, dei forti e delle mura genovesi, ma deve essere compatibile con il paesaggio storico e l'ambiente. Ma riteniamo che il progetto della Gabinovia Stazione Marittima Forte Begato sia assolutamente incompatibile con i vincoli patrimoniali e paesaggistici esistenti da cui parte, come l'Evensa Stazione Marittima passando sul sedime del Palazzo del Principe quando arriva il Forte Begato attraversando le colline genovesi la zona del Lagaccio mediante l'insediamento di una struttura lineare lunga circa 2,5 km costituita da 14 piloni con un'altezza massima che varia da 83 a 75 metri di altezza la lunghezza delle campate che variano da 500 a 200 metri con la capacità di trasporto di 2.000 persone all'ora la velocità di 5 metri al secondo e 250 persone trasportate massima per ogni linea la stessa comporterà demolizioni di volume annessi ai piloni avete analizzato le infrastrutture esistenti e la loro potenzialità avete fatto un'analisi su un ipotetico investimento economico sulle infrastrutture presenti atto a migliorare le condizioni di trasporto considerato che ad esempio la funicolare Zeccarighi risulta chiusa per il 30% dell'anno per problemi tecnici la funicolare di Granarolo idem non sarebbe stato opportuno condividere questo percorso in commissione con i cittadini evitando l'ennesimo ricorso al TAR grazie Assessore Picciotti prego grazie Presidente buongiorno consigliere Giordano evidentemente il bando che è stato pubblicato non è stato compreso nel senso che lei pone tutta una serie di domande rispetto alle quali non solo le risposte non ci sono in questo momento ma non è neppure coerente con la natura dello strumento che abbiamo attivato che le risposte ci siano in questo momento perché abbiamo pubblicato una procedura di dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 64 del codice degli appalti che è una procedura per la quale l'amministrazione esprime un certo desiderata non ha un progetto perché non ha al proprio interno le capacità di progettarlo non è neppure in condizione di affidare un incarico esterno per una progettazione proprio perché parliamo di un'opera assolutamente inedita si rivolge al mercato secondo le norme del codice aprendo una procedura di dialogo con gli operatori specializzati che saranno quelli con cui ci confronteremo nelle fasi che sono previste da questa procedura che è piuttosto articolata perché c'è un dialogo preliminare l'amministrazione si confronta contestualmente con i diversi operatori sulle soluzioni e da questo dialogo nasce il progetto che presenteremo alla soprintendenza oggi non è stato presentato alla soprintendenza semplicemente perché non c'è un progetto perché abbiamo attivato una procedura che ci deve aiutare così è stata concepita dal legislatore a definire questo progetto quindi lei pone dei temi delicati noi siamo invece fermamente convinti che questo sistema di connessione che si inserisce perfettamente nel quadro di una serie di investimenti che lo ricordo è il Mibact ad aver approvato tra l'altro con un decreto che è pervenuto proprio nella data di ieri quindi ovviamente lei sa benissimo che c'è come dire una organicità tra la soprintendenza e il Mibact sono interventi che abbiamo discusso l'attuazione l'andremo a definire nei modi nei tempi previsti da questa procedura e con i confronti con i momenti di partecipazione previsti da questa procedura ripeto non è perché questo è il punto di rimente forse fonte della confusione non è il classico appalto di opera pubblica dove noi abbiamo un progetto e lo mettiamo in gara è una procedura voluta dal legislatore per soluzioni complicate come sono queste dove indubbiamente abbiamo la necessità di superare una molteplicità di interferenze per arrivare nel confronto con gli operatori ad una soluzione soluzione che l'amministrazione doveva fare propria lei ha citato dati di uno studio di fattibilità che probabilmente è eccessivo definire studio di fattibilità perché è un esame a livello direi super preliminare della questione quindi quanto saranno i pali dove ci sarà il transito quali saranno le interferenze sono tutti aspetti che dovranno essere definiti proprio nell'ambito di questa procedura quindi spero che sia chiarito diciamo l'equivoco che probabilmente questa nuova modalità di gara che non avevamo mai sperimentato perché è la prima volta che facciamo un dialogo competitivo che io ho ritenuto e ringrazio anche la stazione appaltante che si è prestata di attivarlo stante la particolarità dell'oggetto grazie grazie a lei Assessore c'è replica consigliere Giordano prego grazie Presidente allora mi sa che vi mettete d'accordo Assessore perché questo è il sito del Comune di Genova pubblicato il bando per la progettazione della realizzazione della nuova gabineria stazione marittima Forte Vegato le faccio uno screenshot e poi io lo mando così magari parliamo della stessa lingua secondo io l'ho fatto delle domande a cui non mi ha risposto cioè avete preso in considerazione le infrastrutture preesistenti potenziando evitando di fare l'ennesima diciamo l'ennesimo indirizzo su una struttura che assolutamente non è compatibile con l'ambiente il paesaggio storico e quant'altro avete preso in considerazione le osservazioni della soppretendenza in questo percorso io e lei scrolla la testa ma c'è scritto questo bando per la progettazione della nuova gabineria stazione marittima Forte Vegato questo c'è scritto sul Comune di Genova quindi non è che sto parlando una lingua diversa poi le do in contemporanea poi una fotocopia di quello che scrivono i cittadini su questa gabineria che avete proposto così magari ne prende anche atto e prende coscienza di quale sia il percorso di condivisione visto che sono tre mesi che chiediamo alla Commissione su questo e ci viene legata perché gli assessori non sono disponibili a parlarne in aula grazie allora passiamo alla successiva interrogazione presentata dal consigliere De Benedictis per l'assessore Picciocchi su vari temi che riguardano la via di Santa Zita le do la parola per illustrazione consigliere prego grazie presidente assessore via Santa Zita una delle zone più centrali della nostra città da parecchio tempo offre delegaticità a tutti i cittadini al di là dei posteggi selvaggi tra via Santa Zita via Rivale al di là dei bidoni nella rumenta messi un po' così ecco là come si dice il problema fondamentale può sembrare ridicolo ma è fondamentale è un lampione un palo della luce che da tre anni è stato rimosso poi sostituito con uno temporaneo ma da almeno sei mesi anche il temporaneo non è male più luce conseguenza la zona ormai che alle 4 e mezza è già buio rimane praticamente al buio fino alla sera anzi fino alla mattina successiva ecco io chiedo se esiste un programma per un intervento manutentivo che risolva in modo definitivo questa situazione oppure se vogliamo continuare in questo modo che direi che però sia i cittadini sia gli abitanti sia i commercianti non la vivono certamente bene grazie Assessore Picciocchi prego Presidente buongiorno consigliere da Benedictis lei pone un tema che abbiamo affrontato molto recentemente venerdì scorso con il Presidente del Municipio che io ho convocato insieme ai vari municipi per le nostre riunioni di preparazione del piano di manutenzione operativa annuale municipale previsto dal nuovo stratuto uno dei temi trattati è proprio quello delle vie limitrofe a Santa Zita a Piazza Santa Zita e anche diciamo a seguito degli interventi che ci sono stati in via le Brigate Partigiane che oggi viene rimessa a nuovo come dire sono in situazioni oggettivamente precarie questa precarietà questa situazione di degrado è ben visibile quindi abbiamo fatto un piano operativo anche di asfaltature di quelle aree c'è il tema delle intercapedini e delle grie sulle intercapedini questo è un problema che abbiamo in tutta la città perché riguarda di fatto spazi che sono di competenza dei condomini e non è semplice trovare le giuste forme di collaborazione con gli amministratori di condominio per quanto riguarda il tema dell'illuminazione pubblica come sa dell'illuminazione pubblica si occupa City Green Light che è la nuova società che sta realizzando l'efficientamento energetico in città con la sostituzione di nuovi punti luce nell'ambito del contratto che abbiamo fatto con City Green Light abbiamo previsto un polmone finanziario per interventi di potenziamento dell'illuminazione in alcune aree dove chiaramente non è sufficiente sostituire il punto luce ma occorre rafforzare i punti luce quindi prevedere l'inserimento di nuovi punti luce questa potrebbe essere una delle aree in questione so perché ne ho evidenza che sia attivato anche il Presidente del Municipio quindi la questione è monitorata cercheremo di dare risposte nel senso da lei auspicato in tempi rapidi grazie grazie a lei Assessore Picciocchi Consigliere De Benedictis prego Signora Assessore come sempre la ringrazio per le sue puntuali risposte farei un piccolo riepilogo sono certo che con l'aiuto anche del Presidente Vesco si riuscirà a risolvere questo problema però il discorso dei punti luce non è una cosa da poco perché non riguarda solamente la zona di Santa Zita ma direi tra grandi punti della città perché io riscontro ad esempio nella via dove avevo detto io via Longhi ci sono delle serate che la luce è giusta non dico forte altri momenti che invece non si vede niente come se ci fosse un abbassamento della tensione questo crea dei problemi di visibilità soprattutto anche nei pressi dei trasportamenti pedonali perché come lei sa molto spesso i punti luce non sono neanche collegati non posizionati nello stesso punto del trasportamento pedonale ma abbiamo attraversamento pedonale poi abbiamo un punto luce poi abbiamo un altro punto luce in un'altra parte detto questo quando riguarda la rinominazione di via Santa Zita io credo che si possa risolverlo con buona volontà e anche con un accordo con Green Line quindi mi auguro che quanto prima questo accordo venga messo in pratica e sia nella zona di Santa Zita sia in altre zone della città torni veramente la luce grazie grazie consigliere De Benedicchi passiamo al consigliere Aveniente che è collegato da remoto eccomi il precedente immediatamente la parola risponderà l'assessore Viale a questa interrogazione che mi fa segno di sì il tema è quello della zona del risveglio di pedi della fruibilità da parte delle persone diversamente abili prego consigliere Aveniente la ringrazio presidente auguro buongiorno e buon lavoro a tutti ci vediamo costretti a ritornare per l'ennesima volta su questo argomento perché già in precedenza era stato segnalato ma le risposte come posso dire rispecchiano un po' una modalità difficilmente accettabile soprattutto delle persone che sono in prima persona portatori di disabilità e hanno delle grosse difficoltà a transitare in quel punto di dove parliamo? parliamo di via Pegli zona risveglio a pochi metri dall'ingresso del cancello della villa Banfi quel marciapiede quando furono fatto quando furono fatti gli abbattimenti delle barriere architettoniche eliminando lo scalino fu fatto cercando di andare incontro le esigenze dei soggetti che si muovevano con la carrossina ma la luce del risultato è stato un autogol anche abbastanza clamoroso perché in quel modo le macchine con lo scalino alto prima ci pensavano un po' a salire sopra adesso con la rampa che abbatte la barriera architettonica è una meraviglia non corrono nemmeno il rischio di rovinarsi i pneumatici e costantemente posteggiano in quel punto avevamo già chiesto più volte di mettere qualche paletto per consentire ai disabili stiamo parlando di disabili quindi io sono certo voglio essere certo che c'è una sensibilità tale da parte di questa amministrazione che non ne parleremo più in futuro perché questo problema sarà risolto a queste persone poco importa se la competenza è del comune se è del municipio il municipio dice che non ce la fa perché è colpa del comune il comune dice che è competenza del municipio a questi signori che sono costretti ad attraversare quel punto della strada invadendo la corsia delle automobili rischiando di finire sotto le macchine tutti i giorni le questioni di competenze interessano poco per cui io chiedo davvero col cuore in mano l'assessore Viale di risolvere una volta per tutte queste cose e poco importa se la direzione mobilità si rifiuta per efficacemente di porre in opera i paletti al centro del bordo del marciapiede se vuole l'assessore facciamo il soprano insieme cento metri più avanti lungo tutto il lungomare di Pegli e lato monte ci sono i paletti di ghisa conficcati al centro del bordo quindi con un po' di buona volontà per il rispetto delle persone che hanno difficoltà di ambulazione io credo che sia un'opera che vada portata a compimento senza ulteriormente tergiversare e ultima cosa l'attraversamento pedonale che proprio sulla sommità della salita che poi porta a Peglilido viene lamentato dai cittadini che è scarsamente illuminato e chiedono se è possibile di mettere un corpo illuminante sulla falsariga di quelli che sono stati messi con grande successo nel poco distante rettilineo di Prado dove ci sono dei corpi illuminanti che illuminano direttamente con luce piuttosto intensa led l'attraversamento in modo che i pedoni possano essere salvaguardati da qualsiasi pericolo grazie grazie consigliere avvenente assessore viale prego grazie presidente grazie consigliere beh visto il tema mi perdoni se la prendo un po' non soltanto nel risponderla in quell'area specifica della città ma se mi dilungo un po' su tutta la città la prima cosa che voglio comunicare è questo che come polizia locale si è avviata una campagna in favore e a tutela dei nostri concittadini disabili volta appunto a contrastare tutti questi comportamenti una campagna che ha portato più in generale le sanzioni diciamo da quelle che possono essere le violazioni dei posteggi o della mobilità dei disabili portandole appunto dalle circa duemila del duemilaventi alle più di tre mila cinquecento di quest'anno ma non è questo il dato veramente interessante ma è bensì il fatto che rispetto alle circa seicento sanzioni effettuate l'anno scorso per quella che è la sosta in tralcio a proprio quello che citava lei c'è le rampe di discesa per disabili tutte quelle realtà che servono appunto ai disabili per la loro mobilità le dicevo da seicento del duemilaventi siamo passati per un certo verso purtroppo devo dirlo alle millecento fino ad oggi quest'anno quindi un pesante incremento che testimonia l'impegno della polizia locale a controllare questa realtà ma dall'altra anche un monito per noi amministratori a ricordarci che purtroppo c'è uno zoccolo duro di inciviltà di nostri concittadini che pensano appunto di andare ad occupare degli spazi che in realtà servono e sono proprio necessari ad altri concittadini portatori di disabilità nell'area specifica che lei citava mi fa piacere constatare che la polizia locale già da tempo abbia affermativamente dato assenso ai dissuasori che lei citava quindi da parte della polizia locale c'è la massima la massima collaborazione in questo senso e siamo assolutamente d'accordo e che in quell'area sono state effettuate 40 di queste sanzioni appunto contro chi intralcia il passaggio dei disabili perciò sarà poi il mio compito interfacciarmi con i miei colleghi affinché venga portata a termine tutte le lavorazioni necessarie appunto a mettere in opera dei dissuasori che possano evitare e stroncare del tutto questo fenomeno nell'area da lei indicata grazie grazie assessore consigliere De Benedetti c'è replica una breve replica se possibile chiedo scusa consigliere Avenente brevissima replica tanto ringrazio l'assessore anche per i dati statistici che ha fornito che da un lato testimoniano l'intensificazione della presenza scusi consigliere Avenente prima di dare la parola per la replica l'assessore Campola voleva integrare la risposta credo che sia se lei è d'accordo mi scusi ma non mi era stato preannunciato prego assessore Campola puoi poter replicare ad esito dell'intervento dell'assessore grazie presidente ringrazio consigliere Avenente credo che sia opportuno comunque poi fare anche un visto che le questioni che sono state segnalate sono diverse penso che sia più che utile fare poi un accesso in loco per verificare sul campo con i tecnici le diverse situazioni che ha segnalato come noto ci sono alcuni interventi tipo gli interventi dei paletti sono interventi che sono di competenza del municipio so che il municipio aveva assunto una una decisione il 26 maggio del 2001 e credo che possa essere utile già prima di Natale direi nelle prossime settimane andare insieme coinvolgendo i tecnici coinvolgendo il comune e anche il municipio in maniera tale da dare una diciamo una risposta concreta ad una diciamo ad un diritto che le persone hanno le persone disabili che è quello di poter percorrere già nelle difficoltà però liberamente in marciapiedi e quindi giusto l'intervento del collega del collega Giorgio Viale giusto l'intervento della polizia locale naturalmente l'auspicio è che ci sia anche una sensibilizzazione anche da parte nostra nei confronti di tutte quelle persone che pur non rendendosene conto attraverso i loro comportamenti danneggiano altri altri concittadini alla fine non permettendoli di vivere liberamente la città quindi al più presto sono disponibili insieme al collega al collega Viale di fare un accesso in loco grazie ecco consigliere Avenente ora stavo dicendo che aggiungo i miei ringraziamenti all'assessore Campora e colgo la disponibilità a fare un sopralluco congiunto che non può altro che essere utile per tutti dicevo i dati statistici che ci ha fornito l'assessore Viale testimoniano di un incremento di presenza della polizia municipale in loco che non può altro che essere il benvenuto dal punto di vista dei soggetti disabili però testimoniano altrettanto un incremento della maleducazione perché a tutte le persone che si fermano anche Brumotti gli fa un regalino ma tutti dicono un minuto ma se 500 macchine si fermano un minuto durante la giornata sono 500 minuti e se quando un disabile passa di lì c'è una macchina per quel minuto ecco che è costretto a scendere dal marciapiede di rischiare la propria vita quindi benissimo benvenga ogni iniziativa confido davvero in maniera raccorata sulla disponibilità degli assessori poi si sciolga questo nodo delle competenze e andiamo a vedere chi deve fare che cosa e poi cerchiamo di essere operativi perché nel frattempo questi disabili rischiano ogni giorno la loro incolumità grazie a tutti e due gli assessori buon lavoro a tutti bene veniamo al consigliere Mascia interrogazione per l'assessore Campora sul passo carrabile dei civici 2, 3, 4, 5 e 6 e 7 di piazza Rimondini le do la parola per l'illustrazione consigliere prego grazie ecco perfetto grazie grazie presidente l'oggetto di questa interrogazione è l'annosa questione della pedonalizzazione di piazza Rimondini dove ahimè hanno diciamo a transitare anche i soggetti residenti si parla di cento nuclei familiari per almeno 400 residenzi i civici di piazza Rimondini coinvolti sono il 2 il 3 il 4 il 5 il 6 il 7 capisce bene che è difficile sostenere che nella contemperare gli interessi in gioco in quella piazza si debba tenere conto per carità doverosamente solo ed esclusivamente della degli interessi e delle giustissime peraltro pretese di garanzia della sicurezza degli alunni della scuola di Mitrofa e dei bambini che frequentano l'area gioca attrezzati per i quali appunto il transito veicolare ove fosse di intensità accettuata e fosse ovviamente tipo Corse Europa tanto per essere chiari non darebbe garanzia di sicurezza e certamente addirittura sarebbe pericoloso ma mi permetto di rappresentare visto che stiamo parlando di un'avvertenza che ha anche raggiunto i vertici dell'autorità giurisdizionale amministrativa di fronte alla quale ovviamente mi inchino che proprio nella sentenza del Consiglio di Stato si dà atto che in realtà il transito veicolare implicato è un transito veicolare privato e quindi di intensità ridotta non si dà atto nella sentenza che c'è nell'ambito dell'utenza non ci sono solo gli alunni della scuola di Mitrofa e i bambini dell'area gioca attrezzata ci sono anche gli utenti che sono i residenti di cui facevo poc'anzi cenno dei civici di piazza Remondini e poi ci sono anche cinque aziende che comunque con i loro lavoratori hanno a che fare gioco forza col passaggio da quella da quella da quella piazza ora io penso che visto che nella stessa sentenza del Consiglio di Stato si evoca l'articolo 7,9 del codice della strada e quindi il fatto che la pedonalizzazione e la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato debba venire con delibera di giunta ma tenendo conto c'è scritto l'articolo 7,9 degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione sulla salute sull'ordine pubblico sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio allora siccome interessi in gioco non sono solo quelli dei bambini che non mi risulta che giochino per tutto per tutta la giornata ininterrottamente e non mi risulta tra l'altro che vadano a scuola e entrino e entrano dalla scuola ininterrottamente dalla mattina alla sera forse sarebbe l'occasione forse si potrebbe lo dico come suggerimento mi permetto di farlo conoscendo la disponibilità e anche diciamo la preparazione giuridica del collega Campora che fa l'assessore sarebbe forse il caso se è possibile di coinvolgere l'avvocatura e ripensare la delibera adottata da una precedente amministrazione di totale pedonalizzazione in modo tale da renderla compatibile proprio in corrispondenza col fatto che le fasce orarie interessate dall'utenza dei bambini che giocano nell'area attrezzata e nell'ambito e vanno e entrano e escono dalle scuole le fasce orarie non sono sicuramente continuative e non coprono l'intero arco della giornata quindi si potrebbe sicuramente fare in modo di conciliare le esigenze sacrosante che sono state preservate anche dalla sentenza del Consiglio di Stato con l'esigenza altrettanto sacrosante dei residenti di poter accedere anche per un trasloco senza dover prendere una multa oppure l'esigenza dei lavoratori delle cinque aziende implicate di entrare nelle loro aziende e di uscirne magari con la merce al seguito grazie grazie consigliere Mascia assessore Campo grazie grazie presidente grazie consigliere Mascia per diciamo per l'ampia l'ampia illustrazione che parte da questa sentenza della giustizia amministrativa come sappiamo l'area era stato oggetto di un'opera di riqualificazione diciamo di pedonalizzazione chiamano semi pedonalizzazione in quanto attualmente diciamo la strada che arriva al cancello del complesso del supercondominio del complesso immobiliare c'è ancora il cancello può essere percorso attualmente soltanto da velocipedi da persone con disabilità e questo si ritrova nella sentenza è vero è che questo supercondominio aveva due accessi un accesso quello da Raimondini e attualmente l'unico accesso è l'accesso tra via la Gustina io ho avuto modo qualche tempo fa di andare a fare un accesso in loco per verificare la situazione certo vi è una situazione di difficoltà legata anche alla presenza di attività e legata quindi alla necessità di uscire entrare da un unico ingresso è vero che nella scorsa consigliatura era partita la riqualificazione del piazzale una riqualificazione molto apprezzata è stato poi un contenzioso e quindi una serie di ricorsi da parte dei condomini che hanno portato poi una sentenza del Consiglio di Stato che di fatto ha respinto il ricorso dei condomini e ha confermato l'impossibilità di fatto di accedere da piazza da piazza remondini attraverso il vecchio accesso detto questo credo che sia doveroso comunque riprendere in mano il dossier che riguarda piazza remondini che è un dossier che è composto da molti documenti sia documenti progettuali era un provvedimento di progetto di rigenerazione urbana sia tutta una serie di provvedimenti successivi sia del municipio che aveva poi revocato il passo carrabile sia da parte di altri uffili e quindi ritengo che sia opportuno come lei diceva approfondire nuovamente la questa la problematica di piazza remondini coinvolgendo la giu la l'avvocatura per capire in concreto in che termini in concreto formalmente se è possibile andare a trovare una nuova disciplina motivando ovviamente le scelte e nello suo tempo poi invece in concreto e quindi non dal punto di vista formale andare a vedere quale potrebbe essere la disciplina migliore che possa da una parte venire incontro alle esigenze dei condomini e dall'altra naturalmente non vanificare comunque l'intervento di riqualificazione di rigenerazione urbana che è stato grazie grazie consigliere mascia c'è replica così passiamo ancora alla successiva interrogazione grazie presidente solo per ringraziare l'assessore effettivamente la sentenza del consiglio di stato è una delle più alte ovviamente autorità giurisdizionali non ci sfugge il fatto che comunque è una sentenza che va a dirimere una controversia e di conseguenza nel contemporare gli interessi tiene conto del ricorrente e dell'appellante in questo caso e del convenuto per contemporare gli interessi si aspetta ovviamente che lo faccia non una sentenza e non autorità giurisdizionale ma nell'ambito della divisione dei poteri che ben conosciamo tutti lo faccia proprio chi ha il potere politico di farlo in base all'investitura democratica e nella fattispecie appunto è anche la giunta quindi volgo con favore questa apertura da parte dell'assessore Campora che parla a nome della giunta perché un migliore equilibrio degli interessi in gioco forse questa vicenda lo meriterebbe grazie grazie ebbene affrontiamo anche l'ultima l'interrogazione successiva del consigliere Pandolfo per l'assessore Picciocchi risponde lei assessore Picciocchi mercato Tre Ponti a San Pier d'Arena operatori residenti continuano a lamentare la lentezza chiedo scusa del cantiere con conseguenti danni economici e problematiche logistiche l'ultima previsione della giunta comunale fissava la conclusione lavori entro il mese di novembre tale previsione risulta confermata punto di domanda questo un quesito dell'interrogazione a lei la parola consigliere Pandolfo grazie presidente si molto dettagliata e precisa perché purtroppo del mercato dei tre ponti di San Pier d'Arena ne abbiamo parlato un sacco di volte un argomento antico che questa amministrazione ha ereditato positivamente da una volontà della precedente amministrazione che ha scelto grazie al bando delle periferie di investire sul quartiere di San Pier d'Arena non solo in quel luogo ma anche in altri spazi penso sempre lì nell'intorno alla parte del Campasso è dicevo però un cantiere che è tormentato quel mercato rappresenta e ha un grandissimo potenziale per la rivitalizzazione del quartiere nell'immediato ponente del centro cittadino e credo possa portare delle opportunità sia dal punto di vista commerciale che urbanistico però i lavori sono sempre andati avanti molto ad agio sono cambiati anche gli interlocutori ricordo che il taglio del nastro fu fatto ancora quando l'assessore lavori pubblici era l'assessore Fanghella il presidente del municipio era un altro presidente insomma si sono avvicendate molte figure che avevano secondo mio giudizio l'onere di portare a casa quel risultato ma quel risultato stenta ancora ad arrivare è chiaro quindi che oltre alle peripezie che ha visto quel cantiere c'è molta attesa da parte dei cittadini che lì vivono dai parte dei cittadini che lì lavorano che lì operano come commercianti ma non solo di vedere la nuova luce del mercato tre ponti a San Pier d'Arena lei assessore recentemente quest'estate aveva dato come previsione quella della fine del mese di novembre siccome ormai per il termine del cantiere siccome ormai ci siamo arrivati mi domando delle domande per dare rassicurazione a quei cittadini che vivono intorno al mercato dei tre ponti ma a tutti quelli di San Pier d'Arena se questa previsione è confermata e se si potrà finalmente rivedere operativo il mercato dei tre ponti grazie colleghi buon pomeriggio ben ritrovati vi chiedo cortesemente di prendere il posto e osservare un po' di silenzio apriamo i lavori di questa seduta di consiglio comunale martedì 23 novembre 2021 la parola alla segreteria generale per l'appello dottor Bisso prego Pini Anzalone Ariotti Avvenente presente Barone presente Bernini Presidente c'è Buongiorno Coleri presente Brusoni Pucci Campanella presente Cassibba presente Ceraudo Corso Costa presente Crivello De Benedictis Ferrero presente Montana Gambino Giordano Grillo presente Immordino presente Lauro assente giustificata Lodi Masha Ottonello Paglia Lunga Pandolfo Pignone Pirondini Putti assente giustificato Remuzzi Rossetti Rossetti Rossi Salemi Santi Terrile Tini presente Vacalebre Villa 37 consiglieri comunali presenti la seduta è valida allora cortesemente un po' di silenzio terminiamo le interrogazioni è rimasta a metà quella del consigliere Pandolfo la parola all'assessore Picciocchi per la risposta prego grazie presidente intanto voglio rassicurare il fatto che siamo insieme all'assessore Bordilli costantemente in contatto con tutti gli operatori con i quali abbiamo parlato che abbiamo anche deciso di indennizzare per i disagi che hanno dovuto subire a motivo di questo ritardo che in realtà si è protratto anche a seguito della necessità di apportare alcune variazioni progettuali importanti detto questo i lavori procedono speditamente verso la conclusione il termine che non sarà assolutamente prorogato da parte dell'amministrazione è quello del 30 di novembre quindi se l'impresa non riuscirà a traguardare questo termine andrà automaticamente in penale questo l'abbiamo chiarito molto bene abbiamo chiesto di rinforzare le maestranze e quindi insomma l'obiettivo conferma quello di chiudere il più velocemente possibile sicuramente per l'amministrazione entro il 30 di novembre il contratto scade e i lavori devono essere conclusi grazie 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 a lei assessore consigliere bandolfo per la replica prego con il silenzio in aula grazie sullo speditamente ho qualche dubbio nel senso che le osservazioni che mi derivano anche con fotografiche delle segnalazioni che ricevo dai cittadini ho qualche dubbio è chiaro poi che le penali rispetto a quelle c'è anche un limite rispetto a quelle che possono essere erogate all'amministrazione quindi bisogna vigilare affinché i cantieri proseguano speditamente a maggior ragione laddove ci sono delle situazioni così complesse e dove sono stati fatti investimenti così importanti quasi due milioni di di denaro è stato speso è importante che questi arrivino a una soluzione per dare soddisfazione a chi lì lavora a chi lì opera a chi lì risiede per cercare di guardare un futuro migliore per il quartiere di San Piero d'Arena grazie bene allora colleghi per cortesia prima di mettere in discussione i documenti oggi all'ordine del giorno abbiamo due ordini del giorno fuori sacco che la conferenza capigruppo ha licenziato per l'aula però vi chiedo visto che li devo leggere andiamo ora a dare lettura e osservare un po' di silenzio sono stati distribuiti a ogni consigliere il primo in ordine cronologico è quello recante organico dei vigili del fuoco vado a dare lettura premesso che le carenze di organico dei vigili del fuoco in Liguria sono così rilevanti da mettere a rischio la qualità del servizio e la salute dei lavoratori tenuto conto che secondo le stime elaborate dalle organizzazioni sindacali in Liguria mancano 130 vigili del fuoco di cui 86 solo a Genova constatato che le recenti assunzioni rischiano di non coprire i posti vacanti a seguito dei pensionamenti preso atto che i vigili del fuoco della Liguria sono costretti ai doppi turni e agli straordinari a rinunciare alle ferie al riposo psicofisico per non lasciare scoperti i turni del servizio di soccorso che a causa del dissesso idrogeologico della regione Liguria e dei cambiamenti climatici sono diventati sempre più frequenti e intensi considerato che risulterebbero in assenza di autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del Ministero per la Pubblica Amministrazione circa 800 assunzioni già finanziate e inoltre 250 i donne risulterebbero in attesa di assunzione grazie alla proroga della graduatoria prevista nel decreto incendi nonché la procedura di stabilizzazione del personale volontario considerato altresì che in atto l'assunzione tramite la procedura di stabilizzazione del personale volontario ritenuto necessario intervenire tempestivamente per colmare le carenze di organico dei Vigili del Fuoco di Genova e della Liguria ritenuto altresì che risulta prioritaria l'apertura della nuova sede dei Vigili del Fuoco nel Levante genovese impegna il Sindaco della Giunta ad attivarsi presso Regione Liguria e presso il Governo affinché sia posta in essere ogni azione volta a colmare nel più breve tempo possibile le carenze di organico dei Vigili del Fuoco di Genova e della Liguria si vota di Genova e di Genova dei Vigili del Fuoco e giallo che basketball a volte che erano attivare di Genova una Nacht nel più grande vera esito votazione in presenza 29 consiglieri 29 voti favorevoli da remoto consigliere avvenente favorevole consigliere brucoleri favorevole consigliere campanella favorevole consigliere cassibba favorevole consigliere costa consigliere ferrero favorevole consigliere grillo favorevole consigliere immordino favorevole consigliere attini favorevole 37 voti favorevoli consiglio comunale approva l'ordine del giorno fuori sacco sull'organico dei vigili del fuoco vorrà dare lettura del secondo ordine del giorno fuori sacco licenziato dalla conferenza capigruppo avente ad oggetto l'emergenza abitativa donne vittime di violenza considerato che per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne un obiettivo urgente è arrivare a garantire un'abitazione alle donne che hanno avuto il coraggio di denunciare il compagno violento tenuto conto che la questione dell'emergenza abitativa per le donne vittime di violenza è sempre stata messa in evidenza dei centri antiviolenza genovesi rilevato con il 2018 un dato statistico infatti metteva in evidenza che in italia ben 6 milioni e 700 mila donne e bambini sono vittime di violenza tra le mura di casa e se si confronta questo numero con la percentuale del solo 7 per cento che rappresenta la cifra di questi crimini che viene processata si può facilmente comprendere come quello abitativo sia un problema molto sentito dalle donne vittime di maltrattamenti soprattutto dopo l'avvenuta denuncia tenuto conto che dal 1 febbraio del 2018 è stata pubblicata la legge numero 4 che statuisce che chi viene condannato per una serie di reati che rientrano nel più ampio genere di violenza familiare incesto maltrattamenti omicidio anche preterintenzionale lesioni sequestro di persone violenza sessuale decade dalla relativa assegnazione dell'alloggio di residenza pubblica e che al caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto considerato che presso le case rifugio le case accoglienza che ospitano nell'emergenza le donne maltrattate non possono in molti casi dimetterle per mancanza di soluzioni abitative e registrano spesso una situazione di esaurimento dei posti e l'impossibilità di poter procedere a nuove accoglienze rilevato che serve un'assunzione di responsabilità immediata da parte dei sindaci che sono chiamati a provvedere anche attraverso l'utilizzo dei beni confiscati che si ricorda sono appena titolo parte del patrimonio di edilizia residenziale del comune si impegna al sindaco raggiunta ad attivarsi al fine di garantire adeguata assistenza allogiativa alle donne unitamente ai loro figli minori che vengono a trovarsi nella necessità adeguatamente documentata dagli operatori dei centri antiviolenza e o dagli operatori comunali di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di violenze abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria dovrebbero avvalersi una riserva di alloggi due alle donne che concludono un percorso presso le case rifugio o accoglienza si vota grazie grazie allora esito votazione in presenza sul secondo documento fuori sacco 29 consiglieri presenti 29 voti favorevoli da remoto consigliere avvenente favorevole consigliera brucoleri favorevole consigliere campanella consigliere campanella favorevole consigliere cassibba favorevole consigliere costa consigliere ferrovole grazie consigliere ferrovole consigliere grillo favorevole consigliere imordino favorevole consigliera tini favorevole 38 voti favorevoli, il Consiglio Comunale approva anche il secondo ordine del giorno fuori sacco. Allora, in discussione, il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio odierno, la proposta di giunta al Consiglio numero 39, 20 maggio 2021, adozione variante al PUC ai sensi dell'articolo 44 legge regionale 3697 per l'introduzione della disciplina ARPA 6 delle norme di conformità da applicarsi in specifiche aree comprese nell'ambito ARPA appositamente perimetrata nell'assetto urbanistico, site in località Vesima, municipio 7, ponente. Allora, su questa proposta è stata presentata una richiesta o meglio due richieste di sospensiva che in conferenza capigruppo abbiamo deciso di accorpare e verranno illustrate ora dai due primi firmatari e rispettivamente 39 ordini del giorno e 36, scusate, ordini del giorno e emendamenti numero 246. Allora, partiamo come sempre dalla sospensiva, consigliere Bernini e poi consigliere Giordano. Prego, consigliere Bernini, ricordo che ai sensi dell'articolo 22, se nessun consigliere si oppone, la proposta viene sospesa, altrimenti sono ammessi due interventi a favore e due contrari. Prego, consigliere Bernini e poi consigliere Giordano. Grazie Presidente, ma in una città europea evoluta, una delibera che ha, di variante del piano urbanistico, che ha un peso così rilevante in termini ambientali, di fronte alle criticità che sono emerse, avrebbe perlomeno sottoposto ad un secondo passaggio di verifica e alla presentazione di argomentazioni che andassero in qualche modo a mitigare queste criticità, risolvere, a offrire delle altri percorsi. Invece questa delibera, dai verbali che abbiamo potuto ottenere, non ce li ha presentati la Giunta, nonostante ci sia stata una richiesta, delle riunioni dello scoping ambientale, veniamo a sapere che la Regione dice, guardate ragazzi, così com'è, è un aumento chiarissimo del consumo di suolo, quindi contrario a quelle che sono le strategie nazionali e regionali di sviluppo sostenibile, dovete fare qualche cosa per compensare questo consumo. Il bello è che, non vi sto a leggere, c'è scritto sulla richiesta di sospensiva, quali sono i passaggi della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che vengono in qualche modo lesi. Il fatto è che in riunione di commissione e in riunione di conferenza dei servizi, si dice, ma guardate che non c'è un incremento del consumo di suolo, perché anche prima era possibile costruire. Peccato che nella delibera c'è scritto esattamente il contrario, cioè c'è scritto facciamo questo provvedimento perché, come era fatto il piano urbanistico, non poteva il proprietario costruire e quindi non ci sarebbe stato quel consumo di suolo che invece adesso c'è. In più, sempre la regione dice, guardate ragazzi, non fate i furbetti, la VAS è una norma europea che poi è stata ripresa dallo Stato e dalla regione che dice che non si possono fare diverse VAS frammentando di fatto gli interventi di una pianificazione urbanistica. Il PUC fece la VAS su tutte le aree agricole. Invece cosa fa questa delibera? Lo dice chiaro e tondo, fa quello che la regione dice che non si può fare e che l'Europa dice che non si può fare, che le normative sulla VAS dicono che non si può fare. Cioè dice, questa stessa delibera poi in futuro può riguardare anche altri territori e questi territori faranno di volta in volta una singola VAS, cioè frammentazione delle VAS che è vietata dalla normativa comunitaria. Poi abbiamo il giochino sulla rispondenza alla pianificazione sovriordinata. Sia la regione sia la città metropolitana dicono, ragazzi, così com'è, non risponde, la cosa che ci proponete, a quelli che sono invece gli obiettivi tipici del piano territoriale di continuamento paesistico, sia regionale che della città metropolitana. Allora, risolviamola questa questione. Nella delibera non c'è la soluzione, perché si dice che si costruisce, stando alle norme del piano territoriale di coordinamento paesistico, ma si dice contemporaneamente, e ci date voi la documentazione in questo senso, che si fa un errata corrige che è stato consegnato a tutti i consiglieri per quanto riguarda il rapporto ambientale, in cui si dice, chiaro e tondo, no, guardate, chiediamo alla regione di cambiare quelle che sono le caratteristiche del PTCP di quell'area, in modo tale che non sia più insediamento diffuso, ma sia insediamento sparso, ma sia insediamento diffuso. Cioè si dice, chiaro e tondo, guardate che tutto quello che abbiamo detto, allora, sia chiaro, lo si dica, lo si dica esplicitamente, che il meccanismo è quello di arrivare all'ammutamento della delibera. L'altra questione è quella legata alle garanzie. Vent'anni quando in realtà una pianificazione urbanistica dura, magari anche meno di vent'anni, perché quando si fa un nuovo piano urbanistico la maggioranza decide come definire quell'area. Dare vent'anni invece significa praticamente porre un limite alla stessa pianificazione urbanistica che non è proprio il caso di mettere dentro, non si può mettere dentro una pianificazione che deve essere generale, che deve comunque dare le indicazioni su tutto il territorio per un periodo che è tale fino a quando non c'è un diverso piano urbanistico. In più non ci sono le garanzie. Si dice, lo faccio perché così faccio agricoltura, ma si elimina l'unica garanzia che c'era, l'imprenditore agricolo professionale, che peraltro può essere anche una società, addirittura può essere una società di capitali dove l'unico ad avere questo titolo è il direttore, il fattore di una volta per essere chiare. E questo sarebbe sufficiente per garantire il fatto che è un imprenditore agricolo professionale. Il problema è che qui questa doveva essere una delibera fatta come norma speciale per favorire il cittadino Cattani Adorno, che è proprietario a tanti anni di quest'area, che in 50 anni non ha mai fatto quello che dice di poter fare adesso, cioè grande estensione, e l'incoerenza di questa delibera per quanto riguarda la giustificazione sull'intervento agricolo è drammatica, perché si dice, questo così potrà fare. Sono 50 anni che aveva tutta quella proprietà. Per essere chiari ragazzi, siamo vicini a Natale, ci sono, sapete io sono un non credente, e concludo, ma ci sono molti più elementi a sostegno dell'esistenza di Babbo Natale, di quanti elementi ci siano a sostegno del fatto che Cattani Adorno da domani diventa uno che trasforma Vesima in un territorio agricolo, quando per 30 anni l'ha abbandonato con la volontà esplicita di costruirci delle case. Allora, io chiedo che questa delibera venga sospesa, e che questa delibera venga riproposta, almeno risolvendo le contraddizioni con la normativa regionale, la normativa della municipalità, della città metropolitana, e la normativa europea. Allora, consigliere Giordano, sui punti aggiuntivi, perché ricordo che da regolamento è ammessa per ogni proposta una sola, quindi voglio essere preciso su questo punto, una sola richiesta di sospensiva su ogni pratica, quindi in capigruppo abbiamo deciso di sostanzialmente accorparle, quindi le chiedo cortesemente di andare in illustrazione sui punti ulteriori che erano sottesi alla vostra richiesta originale. Prego. Grazie, penso che sia la prima volta in Consiglio Comunale che vengono depositate due sospensive. Partiamo dalle premesse, insomma, la suscitata delibera non è ammissibile in quanto in contrasto i principi e le norme del PUC. Non essendo la stessa ammissibile, abbiamo depositato una proposta alternativa di un piano di recupero pubblico di Vesima, con il quale si intende chiedere al Comune di Genova di affrontare i fenomeni di abbandono, degrado ambientale, territoriale, fisico e demografico del territorio stesso, impiegando lo strumento del piano particolareggiato in attuazione del PUC vigente, in termini di piano di recupero del paesaggio agrario e rurale di Vesima. A questo fine proponiamo un piano di recupero di iniziativa pubblica per Vesima, in alternativa alla nuova edificazione residenziale, sparsa prevista dalla variante 39-2021, in quanto la stessa è inammissibile in termini di cultura urbanistica del paesaggio e in legittima in palese contrasto con il PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, dalla Regione Liguria con il carico di iniziativo del PUC, con il relativo cambiamento delle distanzioni d'uso da agricolo a residenziale, con i corridoi ecologici e i vincoli paesaggistici di tutti gli elementi violati senza ritegno. Alla variante edilizia di Vesima del Comune, che aggraverà ancora di più i fenomeni di squilibrio e degrado territoriale, contrapponiamo lo strumento attattivo del piano particolarizzato e i costi pubblici di intervento potranno essere coperti con i finanziamenti del PNRR o altri finanziamenti pubblici. Quindi si tratta di un piano di recupero del paesaggio agrario e rurale storico di Vesima. Con tale strumento urbanistico pubblico, il Comune di Genova, con il concorso anche di privati, può avviare un piano di intervento per la sicurezza dei nuclei e degli insediamenti agrari di Vesima, avendo la possibilità di poter usare appropriatamente lo scroppio per pubblica utilità, perché è assolutamente impossibile, irragionevole e irrealistico che il proprietario privato delle nuove residenze a Vesima, così come propostano la delibera, sia in grado con le proprie forze o voglia o possa fare qualsiasi operazione di risanamento ambientale, paesaggistico e di messa in sicurezza del territorio di Vesima, se non relativo a scopi personali. Le operazioni di intervento che noi proponiamo saranno mirate adottare i nuclei e le case agricole attive di tutte quelle operazioni di cui hanno bisogno. Urbanizzazioni e attrezzature, servizi primari, sistemazioni idrogeologiche, verde e produttivo, risanamento ambientale, restauro delle preesistenze storiche del paesaggio storico, nuclei agricoli esistenti e erudili annessi. Lo scopo è quello di creare un nuovo ripopolamento agrario, valorizzazione del relativo paesaggio storico rurale di Vesima. Tale proposta alternativa è coerente con le osservazioni generali e particolari della soprintendenza nel metodo e nella forma che alleghiamo alla sospensiva. La nostra richiesta di sopraluogo aveva lo scopo di analizzare i contenuti della delibera, ma anche di approfondire la fattibilità della nostra alternativa del piano di recupero di Vesima, cosa che ci è stata assolutamente negata, in barba alla democrazia. Quindi chiediamo che sia sospesa la discussione e conseguentemente le espressioni di voto sulla delibera proposta dalla Giunta di Consiglio 230, numero 39 di oggi, avviando un confronto tramite commissioni dove ci sia la possibilità di illustrare la nostra proposta alternativa di un piano di recupero per Vesima in coerenza con i principi fondativi del PUC e senza ulteriore cemento. Per favore, grazie. Ci sono richieste di intervento? Allora, partiamo dall'eventuale intervento in opposizione. Immagino il consigliere Mascia. Prego. Si è prenotato anche il consigliere Campanella da remoto. Prego, consigliere Mascia. Mi scusi, noi siamo contrari alla sospensiva. In realtà ci sono state già quattro commissioni, ci sono stati anche dei separaluoghi, degli incontri bilaterali tra il diretto interessato e il Presidente del Municipio di cui siamo venuti in conoscenza nell'ultima commissione, per cui dal punto di vista almeno procedurale riteniamo che questa sospensiva non abbia, diciamo, un fondamento. Dal punto di vista del merito, poi ci saranno gli emendamenti e le votazioni. Grazie. Allora, consigliere Crivello, in adesione. Immagino. Prego, decisamente. Sì, non abbiamo voglia di sorridere. Lo farò. Però oggi è un evento, perché per la prima volta abbiamo sentito il centro-destra esprimere, non del merito, naturalmente, esprimersi a favore, perché per quattro commissioni il centro-destra, la maggioranza, non ha aperto bocca. Allora, noi siamo naturalmente d'accordo in questa sospensiva. I documenti che sono stati presentati sono assolutamente puntuali e hanno messo in evidenza e mettono in evidenza le contraddizioni che sono emerse in barba alle regole e diciamo che, naturalmente, gran parte dei temi che sono stati illustrati bene, molto bene, dai nostri colleghi che sono stati sottoposti da parte di tutti noi in commissione, le risposte sono state inadeguate, insoddisfacenti, le risposte sono state, peraltro i nostri interlocutori sono stati i tecnici, questo è un altro aspetto estremamente negativo e contraddittorio. L'assessore all'urbanistica non pervenuto, l'assessore all'ambiente, devo dire che erano temi che lo riguardavano, non si è mai presentato in commissione. Gli auditi hanno tutti dimostrato un grande senso di responsabilità, di civiltà, così il municipio, dimostrando, come dire, un ruolo di governo, ma in maniera anch'esso argomentata, ha espresso tutte, tutte le perplessità e i dubbi. Abbiamo fatto la votazione surreale, dove ci è stato impedito di fare un sopralluogo. Vorrei ricordare al mondo intero che questa settimana questo Consiglio riunisce una sola commissione. Ditemi voi se non era possibile fare un sopralluogo. Quindi io credo naturalmente che sia assolutamente importante rinviare questa commissione, anche perché questa è una delibera che non pone una scelta all'attenzione dell'interesse della città, ma esclusivamente all'interesse di un bene privato e di un privato. Consigliera Lodi, per cortesia, prego, lei ha la parola. Grazie, Presidente. Ma noi riteniamo, l'abbiamo detto in commissione, e riteniamo utile, importante sospendere questa pratica, perché Genova non ha bisogno di 65 billette in più. Non ha bisogno che Vesima venga distrutta e data la cementificazione, non ha bisogno di perdere tutto quel verde e quell'area, ponente preziosa. Il ponente non ha bisogno di altre servitù, il ponente ha bisogno di rispetto, il ponente ha bisogno di capire meglio in maniera approfondita tutto quello che era contenuto nella documento fase preliminare di confronto scooping, dove non c'è punto in cui non ci sia una criticità, perché nel momento in cui passiamo a parliamo di paesaggio urbanistica, di biodiversità, di elettromagnetismo, di rumore, di difesa del suolo, di acque superficiali e di quello che è la messa in sicurezza di quella parte non c'è un tratto di quel documento che dica che questa cosa va fatta in sicurezza ed è importante e soprattutto che quel territorio ne trarrà beneficio. Da questo documento è evidente che quel territorio non ne trarrà beneficio e non ne trarrà beneficio la città e non ne trarrà beneficio il ponente. Quindi vi preghiamo di sospendere questa pratica immediatamente di approfondire e soprattutto di fare vostre tutte quelle osservazioni rispetto alle quali ci vuole un'assunzione di responsabilità soprattutto sulla messa in sicurezza ma sul futuro di tutta la città non c'è municipio diciamo che non ha posto delle questioni importanti su queste aree vi chiediamo e davvero con forza rimandiamo alla decisione di sospensione perché questa cosa non deve essere fatta per il bene della città per il bene del potente per il bene dei cittadini questa cosa si deve fermare qui. Allora per favore ve lo dico per l'ultima volta gli applausi non sono messi in aula cortesemente grazie. consigliere Baroni grazie presidente non ho capito prima l'osservazione del collega Crivello sul fatto che il centro-destra non ha parlato in commissione e roba del genere penso che abbiano il diritto di parola in quest'aula a prescindere da quello che uno fa o dice in commissione per cui chiaramente noi siamo contro la sospensiva sia della proposta dal PD sia quella proposta ai 5 stelle e riteniamo sia giusto e doveroso andare in fondo a questa pratica che mi sembra sia stata abbondantemente viscerata in diverse appuntamenti in diverse commissioni e siano state anche recepite moltissime osservazioni tra l'altro anche con una montagna di documenti presentati in data odierna proprio su questa proposta che secondo me invece vanno esaminati vanno attentamente attentamente esaminati e messi in votazione per cui la pratica è tutta da discutere ci sono 222 emendamenti e vuol dire che è stato un bel lavoro ringraziamo chi ha fatto questo lavoro e andremo a discuterlo insieme oggi senza bisogno di tante altre premesse tante altre argomentazioni la democrazia è anche quello chi propone chi ovviamente vota una proposta chi invece dice sempre di no mi è sentito dire prima che sono 50 anni che è così no io veramente però allora mi domando ma in questi 50 anni no che questo signore qua era proprietario di quest'area dove non è stato fatto assolutamente niente potevate anche probabilmente provare a far qualcosa noi noi proviamo proviamo a trovare delle soluzioni e a fare altri fanno 222 emendamenti per cui per cortesia però il dibattito sarà lungo quindi se iniziamo così io per cortesia vi chiedo vi chiedo a tutti di far parlare il consigliere che parla ci sarà ora illustrazione dei documenti se la proposta verrà di sospita rigettata per cortesia c'è spazio per tutti ognuno potrà dire le sue considerazioni e formularle all'aula e al pubblico prego consigliere baroni puoi terminare l'intervento visto l'insofferenza dell'opposizione della sinistra compresi 5 stelle al fatto che uno possa anche esprimersi chiudo qui dicendo chiudo qui chiudo qui dicendo no alla sospensiva andiamo avanti allora terminati gli interventi sulla questione si consigliere campanella sono già si era cancellato in ho sbagliato prenotazione in chat e mi spiace però sono già intervenuti sono già stati fatti due interventi il regolamento non ne ammetto ulteriori ci sarà modo successivamente quindi pongo in votazione la richiesta di sospensiva ai sensi dell'articolo 17 settimo comma del regolamento accorpata per tutte le ragioni che sono state esposte nei due testi si vota di sospension esito votazione in presenza 29 consiglieri presenti 12 voti favorevoli 17 contrari da remoto consigliere avvenente vorrevole consigliera brucoleri favorevole consigliere campanella fare la delibera di sospensioni contrario consigliere cassibba contrario consigliere costa contrario consigliere ferrero contrario consigliere grillo contrario consigliere immordino favorevole consigliere attini favorevole 16 voti favorevoli 22 contrari il consigliore spinge la richiesta di sospensiva allora possiamo iniziare l'illustrazione dei documenti partiamo dagli ordini del giorno per favore cortesemente per favore per favore per favore non mi costringete a sospendere la seduta per favore chiedo cortesemente ai vigili di intervenire ai cursori giù il cartello giù il cartello ve lo chiedo per l'ultima volta per cortesia per cortesia chiedo cortesemente ai corsori i vigili di intervenire anche abbastanza rapidamente se no devo sospendere la seduta per favore per favore per favore per favore grazie grazie cortesemente grazie ora potete abbassare ora potete abbassare grazie grazie bene possiamo andare all'illustrazione dei documenti consigliere terrile prego grazie grazie presidente grazie presidente perché per organizzare i lavori perché ovviamente come diceva già lei sono stati presentati centinaia di emendamenti quindi poi non sappiamo se la giunta sarà presente a tutta la seduta e in particolare sarà presente il sindaco ne approfittiamo dalla presenza del sindaco perché visto che stiamo parlando di 10 mila metri quadri di villette da costruire e visto che il sindaco diciamo sempre difende l'ambiente anche sabato a firenze ha dimenticato di tirare il premio cazzuola 2021 per la più grande c'è il favore consigliere terrile per favore lasci perdere consigliere terrile per cortesia no per favore siamo in un'aula di consiglio consigliere terrile per cortesia per cortesia per cortesia per cortesia per cortesia consigliere terrile lo metterà sotto il suo banco insieme ai cartellini al camion allora per favore per favore allora riassumendo e procedendo poi l'illustrazione anche se prima chiedo se ci sono rilievi da parte della segreteria generale sono stati presentati sulla proposta 39 37 ordini del giorno e 246 emendamenti procediamo con gli ordini del giorno prima consigliera lodi grazie grazie presidente volevo riguardami la segreteria generale chiedendo se c'era stata comunque una valutazione rispetto agli eventuali conflitti di interesse faccio nello specifico il conflitto di interesse di possibile valutazione del dottor dolmetta che era prima a cui va curato prima di diventare dirigente del comune attraverso lo studio con sua moglie della proposta di variante urbanistica come studio privato volevo capire se queste valutazioni rispetto a questi conflitti di interesse sono state prese in esame visto che stiamo parlando di un dipendente comunale e se il segretario generale può no ma non l'assessore perché non è l'assessore scusi è presidente io chiedo che sia la segreteria non stavo chiamando l'assessore per rispondere a questo perché dato chiedendo se erano pronti per dare eventuali se ci sono inammissibilità prima di andare all'illustrazione e rispondere anche eventualmente a questa questione quindi prima di procedere con l'illustrazione dei 37 ordini del giorno chiedo alla segreteria generale se tutti i 37 gli ordini del giorno possono essere illustrati o se ci sono già dei rilievi su qualche documento parlo degli ordini del giorno gli ordini del giorno non ci sono rilievi preliminari con i documenti possono illustrare ora io su questa su questa sua richiesta consigliera Lodi non so se la segreteria ha valutato non mi pare che sia una mozione d'ordine una questione non credo non so neanche se è compito la segreteria generale consigliera Lodi comunque mentre illustriamo mi riservo di verificarlo con la segreteria generale e eventualmente le farò dare una risposta consigliera Lodi no mi scusi presidente forse non mi sono spiegata bene cioè vorrei solo se basta un sì o no cioè non è che allora se la segreteria generale che è qui presente quindi non è che la segreteria generale ha l'autonomia per rispondere a un consigliere comunale se la segreteria generale ha valutato dato che stiamo parlando di un dipendente pubblico dirigente del comune architetto Dolmetta se ha valutato c'è stata valutazione di un eventuale sendo dipendente comunale eh di eventuale conflitto di interesse basta dire sì o no cioè non è che poi ognuno procederà di sua conseguenza possibile è una risposta sì o no non so eh c'è un problema che la segreteria generale risponda a un consigliere comunale sì o no eh va bene cioè anche questo è un problema ecco poi mi puoi dire no eh cioè mi pare che la risposta sia no però se è no andremo avanti poi con le nostre valutazioni dicono la delibera non mi risulta firmata dall'architetto Dolmetta quindi mi sembra che sia sì ora aspettiamo che rispondano consigliera Lodi stanno verificando il suo quesito e la risposta è questa allora la delibera da dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e tutta la documentazione è firmata dal dottor berio per quanto riguarda la parte tecnica della delibera grazie allora possiamo procedere con l'illustrazione dei documenti primi tre ordini del giorno sono stati presentati dal vicepresidente grillo a cui do la parola per l'illustrazione secondo i tempi concordati in conferenza capigruppo prego vicepresidente grillo cercherò colleghi di essere molto sintetico anche perché i miei documenti ovviamente sono a vostre mani il primo ordine del giorno richiama molte iniziative consigliari relative all'abbandono dei terreni boschi e degrado ne cito alcuni mozione del 26 gennaio 2016 riciclo fasce terreni e boschi da parte del comune mozione banca della terra approvata nella seduta del consiglio del 10 luglio 2018 ordine del giorno sulla mozione destinazione d'uso dei terreni in via di trasferimento dell'agenzia del demagno al comune di genova ordine del giorno del consiglio comunale del 16 giugno 2020 sostegna la proposta di legge enorme per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati ordine del giorno approvato nella seduta del consiglio del 21 dicembre 2020 recupero terre incolte per quanto richiamato e rispetto agli ordini del giorno che ho allegato impegno sindaco e giunta di inviare entro dicembre di quest'anno una relazione ai consiglieri comunali relativa agli addempimenti svolti e quelli eventualmente programmati. Ho messo la data del 21 dicembre considerato che ovviamente nella primavera del 22 scadrà l'attuale ciclo amministrativo. l'ordine del giorno numero 2 richiama l'ordine del giorno che il consiglio comunale ha approvato il 4 marzo 2015 sulla proposta approvazione delle contradduzioni alle osservazioni e adozione del progetto definitivo del piano urbanistico comunale. Cito poi che nel corso delle commissioni del 2015 tra le molte associazioni audite vi era anche quella divesima e colleghi vi ho riportato il loro contributo in quella sede ed in particolare evidenziavano l'area della vesima negli ultimi 30 anni ha subito un lento ma inesorabile processo di degrado che ha coinvolto 16 vecchie cascine, terratte, sentieri, rini oltre a edifici di pregio storico come il vecchio ospitale per Pellegrini e Villa Grande. ho citato in particolare questo punto considerato colleghi che io sono in consiglio comunale a partire dalla giunta Pericu e poi le altre giunte seguite e quindi su questa situazione di degrado dell'area divesima sarebbe opportuno anche capire quali provvedimenti sono stati adottati ma in me nessun provvedimento è stato attivato, finalizzato a risanare l'area della vesima ovviamente instaurando un rapporto anche con la proprietà per le parti di sua competenza. Ciò detto, tutto il resto dell'ordine del giorno mette in risalto ciò che la documentazione e la relazione viene specificato in delibera quindi la descrizione d'ambito, il patrimonio edilice esistente, la proposta di variante, il recupero edifici rurali e nuove polarità insediative, eccetera. Quindi colleghi, avete a vostre mani i passi rilevanti di questa relazione e di questa delibera per cui con l'impegnativa impegniamo sindaca e giunta prima del rilascio delle sottolencate autorizzazioni informare previa riunione di commissione consigliare ovviamente in particolare sui sottolencati obiettivi che riguardano recupero edifici rurali e nuove polarizzanze viattive edifici esistenti inclusi gli attuali edifici testimoniali ricostruzione ricostruzione edifici ruderi funzioni ammesse per agricoltura e allevamenti con residenza collegata complementari per l'agriturismo esercizi di vicinato pubblici esercizi parcheggi privati per finanziari e inoltre altri interventi che riguardano la messa in sicurezza del territorio a rischio orofrane e incendi recupero superficie boscata da destinarci in agricoltura rimessa in transito delle strade carrabili che collegano il borgo con crebari elenco aree da recuperare per attività agricole e di queste quali collegate con residenza ricollocazione e volumi nell'ambito delle sovraficie agibili demoliti a seguito della realizzazione e ampliamento del nodo stradale autostrade da destinarsi a residenza libera ecco ho molto evidenziato la parte finale del documento in quanto ritengo che prima delle autorizzazioni che riguardano ovviamente tutti gli obiettivi che vi ho elencato è opportuno che in commissione consigliare vi siano informazioni peraltro deve evidenziare che l'assessore Cenci in sede di commissione consigliare aveva già evidenziato che dopo questa pratica e rispetto alle procedure che poi dovranno seguire aveva già dichiarato la sua disponibilità come giunta a tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari l'ordine del giorno numero 3 richiama colleghi anche in questo caso ne evito la lettura richiamo la relazione geologica idrogeologica e sismica richiamo il rapporto ambientale che riguarda i contenuti della variante richiamo dall'allegato rapporto ambientale aspetti geologici le conclusioni cito poi l'allegato rapporto ambientale aspetti idraulici gli interventi previsti cito inoltre la compatibilità idraulica dell'intervento cito poi l'allegato studio di incidenza e le relative conclusioni ci ho detto ovviamente con questo ordine del giorno è un rapporto molto corposo ma che riprende i passaggi rilevanti di questa delibera di impegno sindaco e giunta a monitorare gli interventi in fase attuativa onde verificare siano conformi ai pareri nelle premesse richiamate ho ritenuto opportuno con quest'ordine del giorno richiamare anche i pareri degli uffici competenti perché i consiglieri comunali nell'analizzare una delibera devono considerare anche il parere che è stato espresso dagli uffici preposti ad esprimere pareri sulla delibera e quindi anche che in questo caso credo che il monitoraggio degli interventi in fase attuativa sia un atto dovuto nei confronti del Consiglio Comunale grazie grazie a lei Vicepresidente ordine del giorno da numero 4 al numero 9 consigliere Terrile a lei la parola come facciamo perché vedo che c'è un termine a 5 quindi lei se si ricorda lei quanto tempo manca poi dovrebbe essere indicato il tempo complessivo credo che non vada credo che non vada oltre se non ricordo male ecco l'ora la teniamo noi la teniamo e andiamo a scalare dunque abbiamo presentato un po' di documenti tutti diciamo purtroppo provengono dalla minoranza e quindi questo da un altro segno del fatto che non solo non abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare la voce di nessun consigliere di maggioranza durante le quattro commissioni ma è molto probabile che non ci sarà nessuna possibilità di modificare il testo che oggi ci viene proposto dalla giunta perché il tema è quello del prendere o lasciare molto tipico del modo di fare e di questa giunta ora noi stiamo parlando di un'area privata molto estesa sono 150 ettari 65 in zona agricola per i quali il comune di Genova intende applicare questo nuovo principio il principio è per sviluppare l'agricoltura e per combattere lo spopolamento bisogna costruire villette guardate che è un principio meraviglioso io mi domando come mai il sindaco Bucci e l'assessore Cenci non siano stati invitati a Glasgow al COP26 a spiegare al mondo che per sviluppare l'agricoltura si possono costruire si debbano costruire villette perché questo ci viene detto io credo che sia davvero essenziale perché io penso che sia giusto domandarsi perché è spopolata la Vesima penso che sia giusto dire perché in quelle case non ci abita più nessuno allora basta andare all'aberio e si va all'aberio si cercano i giornali 1983 Vesima un'intera frazione a rischio sfratto Corriere mercantile la Gazzetta del lunedì 17 ottobre 83 su Vesima incompe la minaccia degli sfratti Repubblica 12 ottobre 83 Vesima 11 famiglie senza casa allora lo spopolamento è derivato dal fatto che il proprietario del signor Catanadorno gli ha sfrattati quelli che ci abitavano e oggi ci viene a dire che non avendo fatto la manutenzione che doveva da proprietario non avendo fatto i lavori di contenimento delle acque che doveva fare come proprietario usso alla porta del comune e chiede ma perché non mi fate costruire una quarantina di billette e il comune gli dice di sì e perché il comune gli dice di sì il comune gli dice di sì perché la pianificazione in questa città prescinde da ogni giudizio di merito la pianificazione in questa città che sia un supermercato che siano 40 billette che sia una piscina sopra il tetto di un supermercato che sia la rotonda di Carignano che diventa un supermercato è a fra che te serve è questo il principio uno va dal sindaco e gli dice io vorrei ho una bella idea non c'è problema cambiamo il piano urbanistico dove si poteva fare dove c'era verde diventa cemento dove c'era una scuola o un housing sociale diventano abitazioni perché è così che stiamo andando avanti e noi abbiamo cercato con fatica di lavorare per mitigare ma non è semplice non è semplice perché ovviamente l'interesse che sta coltivando questa amministrazione non è sviluppare l'agricoltura della Vesima ma è fare un favore a questo imprenditore privato che guadagnerà da questa operazione una cifra che sta intorno ai 70 milioni di euro facciamoli questi calcoli il signor Catania Adorno da questa delibera guadagnerà circa 70 milioni di euro ha una bella sommetta ha una bella sommetta poi magari scopriremo che sarà un finanziatore della campagna elettorale del centrodestra ma come è successo come abbiamo visto anche nel passato che molto spesso ci sono imprenditori privati che magari aprono grandi belle iniziative in città che diventano finanziatori della fondazione Change ora andando sul tema degli ordini del giorno sono sei quelli che illustrerò poi lascio la parola alla collega Lodi che mi seguirà e vogliono mettere il punto sul tema proprio dello sviluppo agricolo perché noi stiamo al gioco stiamo al gioco stiamo al gioco del fatto che il comune voglia davvero sviluppare l'agricoltura ma allora perché la residenza è residenza libera perché i proprietari futuri o gli utilizzatori o i locatari di queste nuove villette possono essere persone qualunque e non c'è più l'obbligo dell'essere imprenditori agricolo questo per esempio è un tema perché se davvero si vuole sviluppare l'agricoltura ci sono molti modi di farlo e negli ordini del giorno lo diciamo per esempio il comune acquista o prende in concessione come ordine di urbanizzazione una parte di queste abitazioni e lì concede in locazioni in uso a imprenditori agricoli che poi si obbligano a fare l'agricoltura questo è un modo per sviluppare l'agricoltura facciamo costruire a Catena Adorno una trentina di villette perché ci siamo messi d'accordo con Catena Adorno e perché quell'altro che era l'architetto che prima era di Catena Adorno perché in giunta c'è qualcuno che fa l'avvocato di Catena Adorno e poi magari si astiene quando non partecipa al voto quando passa la delibera io non voglio entrare nei modi c'è la volontà di fare un favore a Catena Adorno però almeno realizziamo anche l'altro obiettivo cioè l'agricoltura almeno possiamo c'è un ordine della giornata che dice il comune acquista o comunque prende in concessione una parte di queste abitazioni e poi fa dei bandi e ci sieda dei giovani agricoltori che si obbligano con una convenzione particolare a fare agricoltura con un piano di colture dicendo che cosa fanno e che cosa non fanno e se non lo fanno vanno via e ne mettiamo un altro questo è un modo per sviluppare l'agricoltura ma non c'è mica scritto una delibera no, si fanno 35-40 villette poi vedremo come sono e ognuno poi non è che possiamo andare a chiedere a quello lì se coltiva il basilico oppure no non lo coltiverà le frane verranno giù come venivano prima ma abbiamo 40 villette che sono servite a Catena Adorno un altro ordine del giorno è quello della collaborazione con gli istituti agrari ecco ma perché allora se davvero c'è un tema di decadimento dell'agricoltura all'avesima anche per ragioni probabilmente di costi perché è molto più facile coltivare in pianura padana o nel basso di Piemonte che non all'avesima e non c'è bisogno che starda il tempo per spiegarlo ma allora perché non possiamo prevedere che una parte di quelle aree agricole non possono essere oggetto di una collaborazione con gli istituti agrari della città metropolitana di Genova perché effettivamente ci sia una sorta di rilancio tra la parte formativa che poi può diventare anche parte di agricoltura industriale e produttiva e questo per esempio è un ordine del giorno lo direi giorno numero 5 poi c'è il tema degli edifici di Ruti e qui lo dicono tutti basta leggere quel documento che peraltro non ci è stato consegnato per carità ce lo siamo andati a scaricare dal sito della Regione Liguria perché ci mancherebbe altro che noi potessimo avere accesso ai documenti ma questa delibera è oggetto anche di una procedura di VAS valutazione ambientale strategica nella valutazione ambientale strategica ci sono Regione, Città metropolitana e Sopraintendenza per i beni culturali che dicono che questa variante fa schifo praticamente non lo dicono fa schifo ma dicono che questa variante non corrisponde agli obiettivi della documentazione sovraordinata allora la Sopraintendenza per carità qualcuno può dire dicono sempre di no ma la Regione e la Città metropolitana non mi risulta che siano governati dal partito comunista cinese ma sono invece diciamo a guida diciamo di una maggioranza politica molto simile a quella del Consiglio di questa maggioranza anzi la Città metropolitana vedo al vertice la stessa persona che è Sindaco di Genova eppure nonostante questo la provincia la ex provincia la Città metropolitana si è espressa in modo molto duro dice in generale con riferimento a tutti gli strumenti di pianificazione di livello metropolitano si segnala che particolare attenzione viene posta alla riduzione del consumo di suolo rispetto alla quale la variante non risulta tenere conto dovendosi in tal senso effettuare le opportune valutazioni e modificazioni da parte della civica amministrazione. Allora, le presidente presieduto da Bucci a 400 metri da qui a Corvetto ha scritto a Bucci diceva guarda che non si può fare così perché tutti i documenti di pianificazione salvardinata dicono che bisogna ridurre il consumo del suolo lo hanno detto anche a Glasgow ma non c'è bisogno di andare da Glasgow perché lo dicono tutti i documenti della regione, della Città metropolitana lo diceva anche il nostro PUC fino a che non avete cercato di violentarlo ecco, nonostante questo come dire la risposta del Comune qual è? nessuna, andiamo a votare la stessa delibera che è oggetto di queste valutazioni la regione persino lo ripeto, la regione diciamo che non è che ecco non ci siamo gli ebernini a governare la regione in base al regime paesistico vigente l'azione di presidio del territorio deve configurarsi attraverso il recupero degli edifici, dei rustici, delle infrastrutture esistenti posto che in generale non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione di correlato urbanizzazione se non in misura episodica qui costruiamo 6.500 metri quadri di nuova costruzione e in più gli edifici di ruti e qua è un altro grande tema perché abbiamo 2.300 metri quadri di edifici di ruti che diventeranno anche quelli residenze e poi abbiamo 4.800 metri quadri di residenze esistenti che potranno ottenere l'aumento del 20% quindi se sommiamo l'aumento del 20% gli edifici di ruti e nuova costruzione arriviamo a quasi 10.000 metri quadri di nuova edificazione residenziale in una collina che è in ambito ISMA CPA che vuol dire insediamento sparso, mantenimento agricolo, corridore paesaggistico io davvero mi chiedo se davvero la voglia di fare un favore a Catania d'Orno è così forte rispetto alla necessità di governare la città perché poi ognuno sarà giudicato io mi auguro dai cittadini ma poi può darsi anche da qualcun altro dagli organi di controllo ma davvero per fare un favore a Catania d'Orno noi dobbiamo violentare il nostro piano urbanistico dicendo che in zona agricola la residenza funziona essenziale ma in quale paese al mondo al mondo la funzione essenziale della zona agricola è la residenza ma davvero pensiamo che il tema del fatto che sia difficile coltivare la vesima è funzione del fatto che non ci sono le villette e quando ci saranno le villette allora tutti torneranno a coltivare le fragole perché è questo che ci raccontate credo che non sia così credo che non sia così lo scopriremo nei prossimi anni chiediamo inoltre che venga con l'ordine del giorno l'ordine del giorno numero 9 di essere informati sulla valutazione ambientale strategica chiediamo che le convenzioni per chi costruisce chi utilizzerà la residenza libera e chi le costruisce nelle convenzioni ci siano obblighi precisi relativi alla conduzione dell'attività agricola secondo piani agronomici particolareggiati e inoltre il il fatto che ci siano come dire un piano di redditività delle culture per fare in modo di capire effettivamente poi che cosa ci verrà la vesima e inoltre chiediamo che gli edifici di ruti vengano conteggiati con l'ordine del giorno numero 6 vengano conteggiati come inseriti già in quei famosi 6.500 metri quadri cioè che non possa il proprietario costruire 6.500 di nuova costruzione più recupero degli edifici di ruti ma se si vuole destinare a residenze questi edifici di ruti bisogna sottrarli dai 6.500 e questo non c'è bisogno di spiegare perché per tentare di contenere questa colata di cemento che con grande come dire con grande semplicità oggi ci proponete come se fosse la soluzione ai problemi di vesima, non è la soluzione ai problemi di vesima questa purtroppo è un favore enorme a un imprenditore che ha tutto il diritto di fare di fare impresa però lo dico qui non è neanche un problema tra pubblico e privato perché la pianificazione urbanistica si occupa dei privati se non ci fosse la proprietà privata tutto fosse pubblico non ci sarebbe bisogno della pianificazione urbanistica perché il pubblico decide e decide cosa fare ma visto che c'è e difendiamo la proprietà privata ci mancherebbe altro ci vogliono delle regole lo dice anche la costituzione la proprietà privata viene tutelata nei limiti della funzione sociale e qual è la funzione sociale? è la funzione che la proprietà privata deve dare alla società e ogni comune insieme alla provincia alla regione stabiliscono quali sono le funzioni se voi tradite questa destinazione fate un danno ai cittadini dell'avesima un danno ai genovesi un enorme favore al signor Catania Adorno non si capisce perché ma davvero non si capisce perché e questo silenzio che abbiamo sentito in questa ci fa pensare che ci sia qualcuno che abbia detto guardate signori silenzio bisogna provarlo e ci fa ancora più paura perché se non c'è discussione su un tema così drammatico evidentemente ci sono degli interessi che non si possono dire in quest'aula ma che da qualche parte ci sono allora io sono preoccupato io sono preoccupato in tutta la discussione che faremo quest'oggi loro sottolineeremo siamo preoccupati del fatto che non conosciamo quali sono i veri interessi quali sono i veri interessi che oggi portano il comune a dire che il quadrato è tondo e il tondo è quadrato che abbiamo tutti scritto il giocondo che il problema della Vesma non sono gli sfratti che ha fatto il Catania Adorno prima di fuggire in Brasile da condannato ma non sono il fatto che non ci sono le fogne non ci sono e là c'è la luce elettrica c'è la difficoltà di avere la rete internet no quello non c'entra è che mancano una quarantina di villette allora visto che tutti quelli che sono datati di un minimo di seno sanno che non è così c'è un altro interesse e questo altro interesse cercheremo oggi nell'aula e da domani fuori dall'aula di farlo venire a galla perché credo che i cittadini genovesi abbiano il diritto di sapere quali sono le vere ragioni che muovono la Giunta Bucci a compiere un crimine urbanistico un crimine urbanistico una colata di cemento immonda sulla collina verde di Vesima che è un corridoio paesaggistico tutte le altre grazie documenti da 10 a 23 consigliera Lodi prego grazie presidente ma eh io ho provato a mettere giù alcuni pensieri perché oggi è una delle fasi più difficili secondo me che si è affrontate in questo consiglio comunale perché non solo si ehm sottolinea come questa Giunta abbia di fatto stracciato apparentemente anche se profondamente il piano urbanistico attuale facendo finta di non farlo ma oggi va ad approvare una variante che colpisce l'atto fondativo cioè il PUC come se niente fosse e credo che questo momento sia un momento terribilmente grave per la città tutta mi scuseranno i cittadini di Vesima e del Ponente che amplifico come dire in qualche modo il danno che evidentemente loro avranno maggiormente ma che tutta la città avrà rispetto a questa operazione e la cosa incredibilmente pazzesca che ho visto e ho sentito nelle commissioni consigliari è l'assoluto silenzio di un centrodestra che assiste a quest'operazione senza dire praticamente una parola se non di valutazione positiva chiunque conosce passeggia frequenta percorre quella zona si rende conto che questa operazione è drammaticamente un'operazione di cui la città pagherà conto per anni se non per sempre e la cosa che più davvero mi colpisce di tutto questo è che tutta questa operazione determinerà un danno profondo per la città che non si potrà più recuperare perché quando si va a toccare il suolo quando si va a toccare le aree verdi quando si va a toccare la preziosità di una regione di cui tutti ci invidiano le caratteristiche quando si va a toccare quello come se nulla fosse vuol dire che qui c'è un'operazione politica precisa che da quattro anni e mezzo a questa parte va avanti e con Vesima trova la sua va a dire presentazione apicale perché infatti molto spesso si assiste alla variazione totale o parziale dello strumento urbanistico comunale attraverso la procedura di una variante voi non avete il coraggio non avete avuto il coraggio di dire che per questa città volevate tutt'altro avete fatto finta che quel PUC per voi era il PUC di fatto con le varianti siete andati a colpire continuamente la città nella sua profondità e oggi con questo date una mazzata totale e definitiva a tutto quello che è la difesa del suolo eh la difesa idrogeologica la valorizzazione del suolo e soprattutto quei fenomeni di partecipazione di ascolto della cittadinanza che vi ha detto fermatevi i cittadini genovesi che vivono il ponente soprattutto vi hanno detto fermatevi ma voi continuate come se nulla fosse variare una singola zona destinata peraltro ad agricoltura permettendo di triplicare la volumetria edificatoria grazie a degli interventi edilizi che modificheranno in maniera irreversibile dell'ambiente non vuol dire appunto fare una variante ma programmare un trasloco ma soprattutto ai sensi di quella che voi parlate no? la città europea allora al punto undici dell'agenda ventitrenta quando si parla delle città europee non si dice costruite sessantacinque billette distruggete tutto il verde e poi chi si è visto si è visto ma anzi ti dice bloccate il consumo di suolo non ce lo dice il PD non ce lo dice la minoranza che peraltro oggi ci prova a farvi capire che questo è un errore profondo e drammaticamente profondo per la città ma lo dice l'Europa avesima non si stanno cambiando gli indici bensì il numero e la tipologia delle persone che la abiteranno ma solo d'estate però una perdita di un presidio umano insostituibile che nessun custode a pagamento potrà mai sostituire degnamente e questa variante incide fortemente sul territorio soprattutto a parte il fatto che bisognerebbe capire come faranno ad arrivare diciamo i nuovi abitanti fuori Genova perché ultimamente Genova è sempre più isolata e chiusa ma poi glielo direte dopo che avete costruito le billette allora oggi vorrei provare a fare una valutazione un po' più ampia perché davvero credo che questo sia un momento drammaticamente importante e profondo per la città soprattutto perché quello che sta accadendo è qualcosa che non è mai accaduto su una zona e su aree così profondamente varie nel 1970 si era dato fine all'appropriazione all'invasione delle colline perché quello che era avvenuto era avvenuta per dare spazio a persone abitanti che esistevano cioè le persone abitavano a Genova avevano bisogno di un posto dove abitare fin qua ci sta ma tutto questo che sta avvenendo sta avvenendo in una città che sta morendo perché perde i cittadini e quindi non solo perde i cittadini non solo invecchia ma noi andiamo a fare le billette per quelli che verranno da fuori perché non ci trassa nulla di quello che dicono i cittadini che per ora sono rimasti ad abituare la Liguria e che per ora credono ancora in Genova e che per ora nonostante i dati continuano a credere che questa città valga la pena di essere vissuto no no invece che rilanciare sull'agricoltura invece che rilanciare sul territorio invece che rilanciare sulla valorizzazione invece che andare a fare delle foto e dire come potrei rivalorizzare ascoltando i cittadini ascoltando gli agricoltori ascoltando gli antichi contadini che magari hanno delle idee e se questo non è avvenuto prima ma come guardate quando parlavo dell'autospurgo no? non c'entra niente allora l'ultimo autospurgo è stato acquistato nel 2015 cosa succede? per dimostrare che poi bisogna dare ai privati non si comprano più autospurghi poi si dice eh ragazzi però non ci sono più autospurghi dobbiamo dare ai privati è uguale cioè voi avete permesso che il proprietario non facesse nulla in quella zona a tal punto che ora dite ma beh però meglio che vada che faccia due casette che sistemi che faccia le fogne no? e no ma non funziona così eh la scelta che voi fate è esattamente il contrario di quello che dice l'Europa la scelta che voi fate nel 2021 è esattamente quello che contrarialmente a quello che dice l'Europa va fatto in quelle città in cui i cittadini l'abitare e la valorizzazione sono al centro il territorio è una risorsa a rischio e qua entriamo in un campo molto minato molto ampio che i cittadini hanno provato a mettere in evidenza ma non hanno messo in evidenza il municipio l'hanno messo in evidenza tutte le associazioni anche di livello nazionale che hanno provato a spiegarvi qual è il profondo errore per la città per il suo futuro i boschi e le foreste per esempio concorrono alla tutela idrogeologica e alla sicurezza allora tutti sappiamo che avere degli alici no perché la collina sta franando banalmente dici cosa devi fare devi piantare degli alberi o fare murretti a secco allora tutti sanno questo e sanno anche che per limitare il rischio di frane di smottamenti e valanghe per migliorare la salubrità dell'aria per dare la capacità di ridurre l'anidride carbonica principale al fatto serra bisogna mettere boschi e foreste bisogna implementare il numero degli alberi bisogna fare questo lavoro di protezione a monte per proteggere la valle no, qui no perché qua non c'è un'altra cosa perché qua anzi facciamo in modo di farla tutta la collina così se frana viene giù tutta e va sul mare cioè non c'è nessuno sotto no? quindi quello che è drammaticamente ulteriormente e profondamente neanche surrogato da come diceva prima mio collega che ha preceduto nel documento dello scoping nella frase preliminare di confronto vi invito io ho fatto ordini del giorno col gruppo dove abbiamo preso pezzo pezzo queste diciamo tutte le parti che riguardano come dicevo prima alcuni punti centrali il rumore il discesso idrogeologico le biediversità addirittura le biediversità non avete valutato perché c'è una valutazione sulla protezione di alcune specie che viene detto di stare attenti e di valutare nemmeno queste avete valutato che per dire no? cioè poi quando uno vuol fare l'animalista il rispettoso dell'ambiente cioè ecco bisogna che cominci anche dalla bcd poi abbiamo il tema del rumore anche l'intersecazione con le infrastrutture con la gronda niente ci sono tutta una serie di osservazioni e le acque superficiali sotterranee il ciclo integrato cioè tutti i settori hanno posto degli elementi di criticità dicendo noi ve lo diciamo noi con questi ordini di giorno diciamo bene prendiamo atto e vi chiediamo però di superare tutte queste criticità perché sono tante perché le criticità che sono state messe in evidente soprattutto sul tema della sicurezza del territorio sono tantissime ma sono profondamente vere e profondamente e drammaticamente pericolose se non vengono affrontate quando si parla di vincolo idrogeologico lo scopo è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno a interagire col territorio non compromettono la stabilità dello stesso né inneschino fenomeni erosivi con possibilità di danno pubblico e questo anche se i territori sono privati anzi anzi quando sul territorio privato l'amministrazione comunale autorizza se ne assume la responsabilità vi state assumendo una grossa responsabilità fermatevi perché quella responsabilità è una responsabilità che per sempre sarà sulle vostre spalle nel momento in cui permetterete con molti masse boh attenzione però rimandiamo a questo documento non certificano che quell'operazione è sicura per la città sicura per il territorio non c'è alcun documento che scriva andate avanti così non c'è nessun settore che scriva fate bene non c'è nessun scrittore che scriva siete in linea con l'Europa anzi invito perché appunto come si diceva prima questo documento se abbiamo dovuto cercare perché non l'avete neanche messo immediatamente negli atti della cartella comunale questo documento dice così ma lo sono letto riletto e ancor più mi è salita angoscia perché ho detto ma l'avranno letto no ovviamente non voglio anzi sono sicura che i consigli di maggioranza l'avranno letto ma è veramente un documento significativo una dettagliata documentazione dello stato reale per un intorno rappresentativo e una valutazione della possibile futura trasformazione che l'intervento stesso può determinare è importante che stabilisca delle prescrizioni e delle cose fondamentali mi dispiace che vede il sindaco ha altro da fare ma in effetti poi si procede poi riprenderemo per la valutazione mi dispiace anche questo no perché noi dobbiamo rimanere in aula ma il signor sindaco no il territorio che deve rimanere integro e fruibile anche dopo l'azione dell'uomo è quel territorio di cui noi ci dovremmo innamorare e di cui un'amministrazione comunale che evidentemente però se glielo si dice si indispettisce e poi anche poco rispettoso dei cittadini che stanno seguendo in aula ma pazienza tanto ormai siamo abituati a tutto il territorio è il centro e il cuore di una città gli interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente senza attenzione ce lo dicono tutte le norme alterare in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui vengono inseriti ed arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali alle comunità animali e ai cittadini che le vivono quindi quando si va come dire a intervenire in maniera pesante sull'aspetto idrogeologico di un territorio si va a distruggere qualcosa che non si potrà più recuperare il concetto di oggi gravissimo è che questa operazione determinerà una frattura nella città con il suo territorio che nessuno mai più potrà recuperare nemmeno se cambiassimo amministrazione nemmeno se arrivassero maggiori e più attenti amministratori al discesso idrogeologico e l'attenzione all'ambiente scusate la documentazione tecnica progettuale a corredo delle istanze come questa deve dimostrare l'avvenuto rispetto oltre che degli indirizzi e delle prescrizioni espresse dalla normativa anche di tutti gli aspetti relativi all'equilibrio del territorio stesso in quella normativa e soprattutto nella documentazione allegata a questa pratica di tutto questo non c'è ombra anzi ci sono una serie di dubbi ci sono una serie di punti interrogativi ci sono una serie di questioni che non vengono affrontate allora quello che ci hanno voluto dire le associazioni che sono state udite gli esperti è il richiamo alla importanza strategica di questa operazione una questione che poteva avere un risvolto completamente diverso perché non è solo guardate un'opposizione di quelle vabbè ma se avete sempre il no dite no tutto no qualsiasi cosa che facciamo no non è questa la questione la questione significativa è che ci sono delle proposte ci sono delle alternative ci sono percorsi città all'avanguardia che se avessero un'area così verde si leccherebbero le dita ci sono città che le vorrebbero delle aree verdi Milano ha dovuto piantare alberi sui tetti per ricostruire le aree verdi Milano ha dovuto fare una strategia per riuscire a rispondere a quelli che erano i requisiti di una città nel 2030 nel 2030 no noi no ce l'abbiamo ma vabbè ce l'abbiamo ma sta lì no tra l'altro quest'area verde non sta al centro che magari poi fa brutto no sta bella scostata a Ponente così non la vede nessuno non la vede nessuno peccato che la vedranno anche come veraccia e ventificata tutti quei turisti che erano invece interessati magari andare a Vesima passeggiare farsi una bella gita e guardare quest'area verde e magari scoprire che una città come Genova in quell'area verde può fare delle cose pazzesche può riqualificare e rilanciare il territorio può pensare di fare delle delle attività relative al rimboschimento per carità non parliamo dell'imboschimento perché ora va bene a rivervi eh ma mettere degli alberi in più sia mai sia mai che se facciamo quello che decide e prevede la legge sia mai che diamo un po' di alberi in più eh poi però la sensazione è che come dire dell'Europa se ne freghi cioè ce ne freghiamo di quello che dice l'Europa io però mi sento la responsabilità oggi di dirlo in aula quello che dice l'Europa perché poi non vorrei assistere domani facendo finta che tutto questo non sia successo a delle relazioni su quella che la città europea di Genova farà nel 2030 ma perché cioè è possibile eh allora io oggi voglio prendermi un po' come dire la responsabilità di dire cosa succede in Europa che cosa farà l'Europa guardandoci l'Europa guardandoci dirà cioè non hanno proprio capito niente perché l'Europa ha posto alcuni obiettivi importanti fondamentali che richiamano attenzione alla tutela del suolo attenzione al patrimonio ambientale attenzione al paesaggio mamma mia che paesaggio sarà fantasticamente costruito con sessante più villette poi l'Europa che sono un po' tignosi no in Europa dice che bisogna riconoscere il capitale naturale di una città porca miseria tignosi veramente cioè il capitale allora facciamo una valutazione del capitale naturale della città eh non sappiamo bene dove guardare allora l'Europa ci chiede anche un azzeramento attenzione azzeramento del consumo di suolo qua siamo proprio assolutamente fuori con questa delibera no? e dice che gli obiettivi sinteticamente perché a me appassionano questi argomenti ma purtroppo se ne parla solo nei convegni poi quando si entra in quest'aula ci si dimentica uno è l'azzeramento del consumo di suolo netto entro il duemilacinquanta Parlamento Europeo e Consiglio del duemilatredici la protezione adeguata del suolo con l'adozione di obiettivi relativi al suolo in quanto risorsa essenziale del capitale naturale entro il duemilaventi Parlamento Europeo e Consiglio del duemilatredici allineamento del consumo alla crescita demografica entro il duemilatrenta non ne abbiamo crescita precipitiamo ma noi lo consumiamo al suolo eh perché sia mai che magari facciamo esattamente come una città europea deve fare e poi il bilancio non negativo del degrado del territorio entro il duemilatrenta l'obiettivo è l'azzeramento del consumo di suolo per sintonia di una strategia tematica per la protezione del suolo e soprattutto per un'Europa che entro il duemilaventi ci chiede rafforzando quello deciso nel duemilatredici di aderire al settimo programma di azione ambientale attenzione perché con la sottoscrizione dell'agenda tutti i paesi compreso l'Italia hanno accettato di partecipare a un processo di monitoraggio di quegli obiettivi gestito da una commissione statistica e soprattutto questo monitoraggio è legato a precise azioni che le città e le regioni stanno per fare quello che negli ordini del giorno abbiamo provato a dire e che chiediamo da una parte l'assunzione di responsabilità guardando la documentazione di tutto ciò che è elencato è scritto ed è messo in evidenza che la città venga superato ed è un'assunzione di responsabilità perché non è che si possa far finta che vada tutto bene anzi una grande e davvero preoccupazione grossa adesso stavo cercando perché c'era un interessante ordine del giorno che parlava proprio del tema delle biodiversità e parlava appunto di una eh di un rischio profondo che l'incisività di questa azione andasse a toccare proprio questo tema io credo che questa operazione rappresenti esattamente cosa sia oggi il centro-destra Genova purtroppo diciamo che le operazioni fatte fino ad oggi sono operazioni che erano molto circoscritte noi però in tutte le commissioni lo abbiamo detto abbiamo detto occhio perché ci stiamo accorgendo che questa operazione voi state facendola facendo varianti su varianti per non avere il coraggio di dire che quel PUC lì è superato e lo abbiamo detto in tutte le salse abbiamo provato a dirlo i cittadini hanno manifestato i cittadini hanno detto di no i cittadini ma io poi mi chiedo ma perché non li ascoltate i cittadini ecco c'è una cosa che mi stupisce anche un po' questa cosa perché all'inizio di questa amministrazione soprattutto in campagna elettorale io vedevo lotte di cittadini chiamate le vostre assemblee pubbliche poi primo anno ne avete fatto un pochetto ancora perché eravate ancora nella scia di dire che avevano sbagliato tutti quelli di prima e voi avevate fatto tutto giusto adesso invece i cittadini che possono dire o possono non dire a voi non me ne frega niente la cosa pazzesca diciamo che purtroppo questa terribile pandemia ha anche aiutato questo processo perché i cittadini avrebbero voluto dire di più ma non potevano venire non potevano manifestare non potevano opporsi e quindi questo sicuramente vi ha un po' agevolato ma la cosa pazzesca perché da quando avete preso un po' il ritmo dell'amministrare questa città dei cittadini non vi porta più nulla io non faccio altro che vedere comitati cittadini che vi dicono fermatevi e voi andate avanti non vi faccio altro che vedere attività commerciali che vi dicono fermatevi e voi andate avanti con la sensazione di fare sempre bene allora credo che una grande amministrazione debba dimostrare a se stessa e alla città una grande capacità che è quella anche di dire ah forse sto sbagliando perché l'umiltà di accettare e capire che si sbaglia non è una conquista politica della minoranza guardate è una capacità politica di cogliere alcuni elementi che possono non essere in linea con interessi dei privati ma con il benessere della città questa operazione questo distinguo tra l'interesse privato e il bene della città mi spiace ma dimostra e ha dimostrato in tutta una serie di vostre operazioni il fallimento di quella che voi chiamavate partecipazione che chiamavate attenzione al territorio e che è sparita molto velocemente la cosa che davvero ci tengo a dire oggi in aula perché per me l'aula è sempre un luogo sacro è un luogo che esprime la democrazia esprime la capacità di un'amministrazione di ascoltare esprime la capacità di un'amministrazione di costruire una democrazia partecipata ed esprime anche la capacità di avviare percorsi diversi da quelli che si prevedevano ecco io oggi voglio dire in quest'aula che la democrazia rispetto a quanto accaduto nelle commissioni consigliari a quanto addirittura accaduto nel leggere la partecipazione a enti estani come la regione e la città metropolitana che tra l'altro governate col centro-destra tutte e due voi quindi neanche diverse neanche poi faziose ecco tutto quello che è stato detto in democrazia nella commissione consigliare non è servito a nulla non è servito a nulla perché non solo non vi ha affermato ma ha affermato il principio che voi che a voi di quello che dicono i cittadini non interessa nulla e che a voi la cosa più importante è l'interesse del privato perché quell'operazione lì non è che non sia già capitata nel banco delle aule il municipio più volte ha combattuto e si è contraiato e esposto ma c'era una grossa differenza c'era una grossa differenza quando in amministrazione comunale arrivava un parere negativo di un municipio gli si dava peso ah già però voi i municipi li avete distrutti no questo infatti è un piccolo particolare quindi ancora ancora ci sono dei pareri che ve li fate dare perché non potete proprio che non c'era proprio possibilità di levarli perché erano obbligatori costitutivi però la cosa pazzesca è che sui pareri negativi dei territori mentre noi ci fermavamo e dicevamo alt il presidente di municipio dice di no la sua giunta dice di no il consiglio dice di no caspita sono persone elette dai cittadini caspita con gli stessi genovesi che hanno eletto me allora forse mi fermo e dico forse no poi ai cittadini non date segno ma non date neanche più valore alle istituzioni che rappresentano i cittadini quindi nonostante un parere negativo del municipio nonostante e addirittura mi risulta che alcune forze politiche in quest'ala si siano rastenute non è che ci sia stato il voto contrario e quindi a favore ci sono state delle importanti astensioni io speravo in questo perché dimostrava un'attenzione che va di là poi della logica perché guardate qua non si parla di partiti eh qua non si parla di far vedere chi è più forte qua non si parla di vincere un braccio di ferro qua si tratta di agire in maniera definitiva determinante profonda e irreversibile su un'area importante di valorizzazione ambientale paesaggistica di qualità della vita della città mi dispiace che purtroppo ancora una volta tutto questo avvenga tra l'altro in zone già colpite da forte infrastrutture da forti servitù a voi non interessa niente basta vedere come si gira oggi per la città cioè se uno viene da Ponente a Valpocevra a Valbisagno non ci arriva più a Genova al mattino ma non importa l'importante è che chi è in centro si muova velocemente e riesca a arrivare a dove deve arrivare quindi è evidente che questa azione così dirompente così diragante guardate io ancora l'altra sera percorrevo la strada sotto guardavo queste colline e mi veniva come si dice a Genova il magone e guardate non era un magone dettato a un'opposizione come spesso viene detta non costruttiva perché noi le proposte ne abbiamo fatte le associazioni le hanno fatte i cittadini le hanno fatte non era un magone che prova anche un po' oggi pazioso ma era un magone di pensare che quella roba lì non ci sarà più ma come potete assumervi la responsabilità di questo come potete certo forse voi non ci andate molto magari a Vesima nemmeno al mare preferite altre location per voi forse più prestigiose ma guardate che lì in quell'area esistono anche ancora delle spiagge libere esiste la possibilità di molti ragazzi di andare al mare di godere il verde di godere la spiaggia di godere tutto quello che è un paesaggio che ripeto tutti ci invidiano vado alla conclusione dicendo questo ho presentato col mio gruppo questi ordini del giorno per richiamare delle responsabilità politiche e purtroppo però credo questo credo che tutto quello che sta avvenendo in quest'aula e conferma profondamente come questa giunta nel confermare se stessa sia sempre oggi più che mai sorda lo chiamerai a un grido di dolore di una città che sta morendo soffocando irraggiungibile e purtroppo da domani anche meno bella allora il turno della lista Crivello poi mi direte voi come intendete dividere l'illustrazione consigliere Crivello mi rivolgo a lei come capogruppo dall'ordine del giorno 24 al 36 procede lei per primo prego se lei è d'accordo presidente noi ci alterneremo una premessa che col collega Pignone facciamo che potremmo avremmo potuto fare diamo per scontato che lo sia per ogni emendamento ed ogni ordine del giorno nel senso che noi in più di una circostanza in questa aula abbiamo rinunciato mi viene in mente le aree di Exvilva e mi viene in mente Erzelli e da potremmo fare un lungo elenco col collega Pignone col gruppo abbiamo rinunciato perché anche quest'oggi abbiamo abbiamo riflettuto su questo aspetto che può sembrare contraddittorio contraddittorio perché perché la delibera con questa variante e altre mascherate da qualcos'altro per quanto ci riguarda non sono migliorate ma proprio per niente sono impresentabili come questa sarebbero da cestinare punto la verità che in questa circostanza abbiamo pensato che segnalare segnalare alcune contraddizioni ma alcune molte contraddizioni palesi sia anche un nostro dovere come dovrebbe essere un dovere della civica amministrazione cercare di tutelare la comunità del ponente ma tutta la un diritto sacrosanto dei cittadini genovesi quello di essere tutelati e un'amministrazione seria fa gli interessi collettivi non fa gli interessi di un soggetto individuale lo dico questo lo voglio ricordare perché adesso ragioniamo di questa pseudo disgrazia di vesima ma la verità che che questa delibera riguarda tutta la città riguarda tutta la città oggi discutiamo di 647 mila vado a memoria mi pare metri quadrati partendo da un principio perché nessuno se ne abbia male ma che almeno bisognerebbe conoscere la realtà aver letto la delibera perché io ho avuto proprio la sensazione se non qualcosa di più che qualche d'una che ha sostenuto il non rinvio questa delibera non l'abbia letta il primo ordine del giorno moltissimi ordini del giorno ma così anche gli emendamenti ovviamente fanno riferimento non soltanto come è stato ricordato anche dal collega Bernini dal collega Giordano fanno riferimento in particolare al piano territoriale di coordinamento paesistico e il primo in particolare fa riferimento a un aspetto importante ce ne sarà dei muretti a secco che sono un patrimonio dell'UNESCO che è stato riconosciuto nel 2018 e inserito appunto nel patrimonio culturale dell'UNESCO sappiamo cosa rappresentino i muretti a secco come in qualche modo è un'arte che consiste nel tutti i coloni è più inutile che vi dica quale sia il procedimento gli articoli 15 e 16 del piano naturalmente affrontano anche anche questa questione il primo ordine del giorno va in questa direzione cioè il sito possiede oltre a tutta una serie di valori ambientali molti elementi storico-artistici e in questo caso noi facciamo riferimento appunto a questo aspetto a prevedere un censimento di tali elementi e la programmazione degli interventi di restauro che dovranno essere rispettosi delle tipologie tradizionali prevedendo interventi materiali che non modifichino le caratteristiche esistenti di terreni ed edifici anche questo se non ricordo male era un elemento sottolineato tra i tanti dalla sovrintendenza grazie prego consigliere Pignone procedere all'illustrazione da che numero giusto per avere dal 25 sì anche alla luce e a seguito di quello che è emerso delle commissioni ci sembrava opportuno a questo punto visto che nelle commissioni non ci sono stati approfondimenti necessari per trovare un filo logico degli intendimenti di quello che poi avrebbe portato alla delibera allora noi ci siamo rifatti alla legge regionale del 10 agosto del 2002 già la 32 che sono le disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica in quanto nell'articolo 1 proprio come finalità di questa legge si garantisce perché questo serve per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente promuoverne lo sviluppo sostenibile nella regione Liguria eccetera questo ovviamente riprende la direttiva CE la 42 del 2001 ma nella fattispecie noi richiamiamo nell'articolo 11 cioè l'inchiesta pubblica e su questo punto dato che l'autorità competente su richiesta motivata da parte dei comuni interessati dei comuni interessati e anche di associazioni ambientaliste eccetera ma dei comuni interessati può dandone un'adeguata pubblicità si può svolgere un'inchiesta pubblica per l'esame del rapporto ambientale dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e dalle osservazioni del pubblico senza che ciò comporti interruzione o sospensioni dei termini dell'istruttoria ma che questo l'inchiesta si deve svolgere tramite audizioni aperte al pubblico può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni con il proponente con gli estensori del rapporto ambientale e l'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi da acquisire e valutare i fini della VAS ci inseriamo in questo filone in questo diritto all'interno di questa legge e impegni a sindaco e giunta a richiedere un'inchiesta pubblica come d'articolo 11 sopra citato dandone adeguata pubblicità punto 2 a preservare la relazione sui lavori svolti in apposita commissione consigliare entro gennaio 2022 questo per ulteriore passaggio chiarimento approfondimento e discussione quello che comunque ci sembrava strano e lo ribadisco strano e dir poco è quello che poi è successo nell'ultima commissione che è stato negato un sopralluogo guarda che questa cosa qua da negare un sopralluogo per una delibera di questo genere è stato veramente un atto grave e comunque forza la mano e io spero che attraverso questo ordine del giorno si possa recuperare qualche cosa se non altro nella discussione e rendere pubblica la discussione che secondo me fino a oggi è stata invece chiusa dentro gli uffici grazie consigliere Crivello mi arriva 26-27 il tema dell'ordine del giorno numero 26 è finalizzato naturalmente a consolidare a rafforzare incoraggiare l'attività agricola ma seriamente l'agricoltura familiare è più di una professione qualche d'uno ha detto è un modo di vivere noi siamo davvero d'accordo perché significa presidio significa curare compassione competenza professionalità senso di appartenenza una realtà e ce l'hanno nel DNA anche in particolare perché poi sinonimo di sostentamento si tratta naturalmente di agricoltori e delle relative famiglie che svolgono un lavoro davvero importante che quello che ricordavo poc'anzi oltre appunto a ricavare il reddito hanno un ruolo di presidio fondamentale allora noi in questo ordine del giorno dopo aver come è noto anche ascoltato ha udito le osservazioni il contributo altro che civile di più da parte dei rappresentanti degli agricoltori sappiamo che sono presenti quattro aziende agricole quattro famiglie chiediamo nell'impegnativa ad intervenire sulla proprietà affinché in occasione della scadenza del contratto vengano create tutte le condizioni per non disperdere questo patrimonio professionale e culturale attraverso un rinnovo adeguato che è quel patrimonio che abbiamo espresso nella prima parte dell'ordine del giorno il secondo l'ordine del giorno appunto è il 27 ed è riferito un'altra questione un altro aspetto che è importante che è quello dell'acqua di un bene prezioso un diritto primario e un bene per la collettività naturalmente nelle situazioni e nelle circostanze che è stato anche in questo caso evidenziato durante le audizioni sempre scusate adesso lo sottolineo perché è davvero è davvero un affronto non aver tenuto conto fatto tesoro degli interventi davvero di qualità e posti in maniera molto molto civile dagli auditi presenti in commissione vi è stato appunto anche questo dove si ricorda che una serie di servizi di cui è priva quella realtà e non si capisce bene anzi si capisce bene si comprendono le ragioni per le quali nel corso degli anni non si è intervenuto da parte di doveva fare privo di servizi e di impianti di allacciamento alla rete del gas e servizi di raccolta della rete fredda l'acquedotto in questo ordine del giorno sottolineiamo quest'ultimo aspetto l'acquedotto quindi chiediamo un impegno a predisporre prima dell'approvazione di ulteriori insediamenti edilizi gli impianti per l'allacciamento della rete idrica pubblica senza che gli abitanti non debbano più ricorrere all'acquedotto privato si collegandosi proprio a questo senso diciamo di insieme voglio dire anche gli orini del giorno che seguiranno diciamo richiamano un po' il discorso del di una visione di insieme dei bisogni del territorio di quelli che comunque abitano quel territorio hanno abitato in quel territorio nel momento in cui voglio dire si tiene conto anche dell'interesse dell'interesse che che vi è da parte del del Catania Adorno eccetera non possiamo immaginare quel territorio solamente come uno spazio dove fare investimenti però è vero che dobbiamo tenere conto anche di un insieme più generale che non è solo quello della Vese perché è quello che spesso sfugge e vorrei riportarlo qua in questa occasione è che l'interesse generale di quel luogo diventa anche strategico perché c'è un interesse nel comune a fianco perché una delle cose che spesso si trascura in questa operazione qua è l'opportunità che si vede che vede anche coinvolto il comune di Arenzano nell'ambito del del porticciolo che è in crisi e che vede attraverso la costruzione di quelle villette la possibilità di vendere quelle villette a quelli che poi porteranno a ormeggiare le proprie barche nel comune di Arenzano nel porticciolo di Arenzano guardandoli nell'insieme a questo punto il fabbisogno di quell'area diventa strategico e più ampio e allora c'è bisogno ovviamente di pensare alla mobilità c'è bisogno di pensare voglio dire a strutture più adeguate c'è bisogno di capire a questo punto che non è solo un interesse di quell'area ma è un interesse più collettivo che a questo punto noi non possiamo e non dovevamo e non potevamo comunque chiuderla in una in una mera commissione di consigliare se non quello di aprire la discussione perché poteva davvero essere una opportunità più ampia perché nessuno nega la necessità di mettere mano a quel territorio ma il come si mette di nascosto separandoli i vari interessi nascondendo le reali opportunità perché non nascondiamoci che voglio dire già il PUC attuale poteva concedere cioè concedeva già la possibilità di riqualificare eh eh parte di quelli del costruito ma non è mai stato fatto da parte di Catania Adorno l'interesse che poteva esserci poteva esprimerlo vuol dire già in tutti questi anni non è mai stato fatto come non è mai stato fatto neanche la predisposizione vuol dire degli allacciamenti della rete foniaria pubblica eliminando le attuali fosse settiche oppure vuol dire a predisporre nell'approvazione del eh dell'impianti di allacciamento della rete gas metano dell'abilitazione esistente cioè quello che stiamo dicendo e chiediamo qua nei nostri ordini del giorno di fatto vanno a sottolineare un bisogno di quel territorio che deve ovviamente tenere in considerazione l'attuale bisogno e quello eventuale di dei nuovi sedimenti abitativi che ricordo qui dovrebbero essere invece legati a quel territorio attraverso il diciamo l'interesse di attività dell'attività agricola quando si parlava di agricoltura del 4.0 ragazzi ma non so se state se state scherzando non so se voi immaginate l'agricoltura 4.0 non so se miniamo con i droni cosa possiamo fare in realtà quello che stiamo proponendo qui quello che stiamo proponendo qui oggi invece è un'attività medievale cioè vendere diciamo delle casette e attraverso una concessione dare in gestione dei mezzadri e la gestione di quel territorio ma di cosa stiamo parlando ma qual'innovazione allora almeno almeno riportare l'attenzione di una visione di insieme attraverso questi ordini del giorno ripristinare diciamo un senso logico di pianificazione urbanistica adeguata perlomeno a un interesse più collettivo per capitalizzare al meglio perché vedo che il tempo come dire potrei fare anche se salto 30 32 e 34 sfruttate il tempo come meglio ritenete il PD ha fatto un'illustrazione più generale quindi vedete noi abbiamo fatto una scelta quindi il 30 il 30 parte naturalmente non soltanto da nostre perplessità e dubbi ma così anche il 32 direi nostre perplessità e dubbi che abbiamo rilevato anche nel documento anche se l'abbiamo come dire come in molte abbiamo sottolineato il documento della sovraintendenza che ci è stato consegnato nel modo in cui ci è consegnato lo studio di fattibilità fa riferimento nel documento stesso denominato giardini di Vesima verso una green community abbiamo colto naturalmente che oltre a green community ma anche green economy ecco le condizioni perché tutto ciò accada dovrebbero essere assolutamente garantite da lì nascono le perplessità della sovraintendenza e anche le nostre sul regime di mantenimento finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali che di fatto poi si individuano in parti del territorio già classificati come insediamento sparso in regime di mantenimento eccetera eccetera bene in questo ordine del giorno 30 noi ribadiamo nell'impegnativa affinché i nuovi inserimenti dovranno garantire la tipologia sparsa dell'insediamento stesso a carattere episodico a basso impatto paesistico-ambientale in linea con lo stesso appunto piano territoriale di coordinamento paesistico il 32 va in questa direzione anche questo naturalmente fa riferimento a se vi disturbo parlo più piano chiedo scusa consigliere Crivello perfettamente ragione va l'avanti grazie strategia di green community anche questo naturalmente parte dalle perplessità che abbiamo abbiamo più di un ordine del giorno espresso e allora nell'impegnativa diciamo affinché i nuovi inserimenti dovranno preservare la bassa densità insediativa e i connotati paesistici ricorderete si sottolinea in più di una circostanza nel documento della sovraintendenza il tema dei corridoi connotati paesistici del corridoio in linea con lo stesso piano l'ultimo per quanto mi riguarda ma io credo non certo in termini di importanza un aspetto che si è evidenziato secondo noi contraddittorio una risposta che durante la commissione a noi ha stupito perché il tema della pedologia che è la scienza che in qualche modo studia la natura l'evoluzione chimico fisico biologica dei terreni se naturalmente non si vuole mascherare come temiamo anzi ne siamo quasi certi come quel tipo di variazione del PUC con finalità che sono tutt'altro obiettivi di valorizzare e incrementare l'agricoltura e non speculazione edilizia è stato posto ricordo da uditi con competenze sicuramente più del sottoscritto in questo tema chiedendo se era stato fatto da parte dello studio di questi fenomeni con l'obiettivo naturalmente è teso appunto a consolidare l'agricoltura e beh gli uffici non ricordo chi fosse il tecnico la tecnica dico la verità era una donna durante la commissione del 18 novembre hanno affermato che questo studio verrà predisposto successivamente successivamente alla tavola pedologica secondo noi è assolutamente contraddittore non è corretto e nell'impegnativo e concludo chiediamo di predisporre preventivamente per dimostrare per noi improbabile la tavola pedologica indispensabile per sviluppare veramente l'attività agricola nell'alba sì allora io proverò a sintetizzare a questo punto il 31 33 35 richiamando anche in questo diciamo il documento generale quello proposto dalla sovrintendenza e anche l'interesse che c'è stato all'interno del dibattito nelle commissioni quello che noi sinteticamente proponiamo come ordine del giorno suddetti un'impegnativa affinché e qua richiamo anche quello che ho detto prima vi sia una pianificazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche quale elemento centrale delle politiche urbanistiche e fulcro intorno al quale costruire gli assetti insediativi caratterizzati dall'assenza di consumo di suolo agricole naturale orientati a recupero edilizio e alla rigenerazione urbana questa è la sintesi con la quale si richiede di rivedere riprogettare l'insieme diciamo di quello che qua viene proposto come una mera variazione al PUC in realtà dietro c'è molto di più ma si sta perdendo di vista diciamo l'insieme della centralità di quello che stiamo proponendo pertanto un richiamo e per cui una richiesta è quello di ricentrare attraverso una pianificazione dei servizi prima in modo tale da avere poi il contesto generale degli insediamenti e qua ultimo ordine del giorno che secondo me è anche interessante a favore voglio dire dell'interesse del signor Cattane Adorno voglio dire questo lo dico perché è un considerato visto che la strategia della Green Community individua il valore dei territori rurali che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono aprendo un nuovo rapporto di scambio con la comunità urbana metropolitana e per cui qua nel mio considerato c'è un riqualificare la Green Economy ma non possiamo trascurare ovviamente che l'agricoltura soprattutto in un territorio difficile come quello Ligure deve essere coadjuvata da attività di agriturismo e qua il tenuto che voglio dire la zona della Vesima sono le zone della Vesima sono interferite dal tracciato dalla gronda di Ponente per non creare una svalutazione dell'investimento del signor Cattani Adorno impegna Sindaco Aggiunta a intervenire affinché tale infrastruttura non sia realizzata per cui qua si chiede che si fermi il progetto della gronda in modo tale da non creare una svalutazione all'investimento del signor Cattani Adorno nell'area della Vesima e con questo chiudo quest'intervento d'ordine del giorno grazie consiglieri Crivello e Pignone ultimo ordine del giorno consigliere Giordano numero 37 prego a lei la parola grazie presidente faccio una piccola premessa che mi sento in dovere di fare e esula dall'ordine del giorno ma in questo clima che oggi caratterizza l'aula di buona politica di costruzione e progetti per la città condivisi per il bene comune sono onorato di comunicare al consiglio d'arrivo di Nora la piccola della famiglia Ceraudo a lei auguro tanta felicità nel suo lungo cammino e di incontrare sindaci coraggiosi nel perseguire gli obiettivi dell'agenda 2050 auguri chiedo scusa un applauso al consigliere Ceraudo che è diventato papà ed è che in consiglio auguri davvero fatto bene consigliere Giordano a darne notizia pubblicamente il fatto che il consigliere provo un po' di commozione a sapere il consigliere Ceraudo qui e non a fianco la sua compagna e a festeggiare la nascita tanti auguri davvero anche dalla presidenza a nome di tutto il consiglio prego può andare avanti grazie presidente l'ordine del giorno ricalca fa ripasso i contenuti della sospensiva insomma noi abbiamo preso una posizione ferrea sulla delibera all'oggetto e che la dichiariamo non ammissibile in quanto in contrasto con i principi e alle norme del PUC essendo la stessa ammissibile abbiamo depositato questa proposta alternativa in un piano di recupero pubblico di Vesima con il quale si intende chiedere al comune di affrontare i fenomeni di abbandono del grado ambientale territoriale fisico e demografico del territorio stesso impiegando lo strumento del piano particolareggiato in attuazione del PUC vigente a questo fine proponiamo proprio questo piano di recupero di iniziativa pubblica per Vesima in alternativa alla nuova edificazione residenziale in quanto la stessa è inammissibile in termini di cultura urbanistica del paesaggio e illegittima in palese contrasto con il piano territoriale di coordinamento paesistico della regione Liguria con il carico insidiativo del PUC con il relativo cambiamento delle destinazioni d'uso da agricola residenziale con i corridoi ecologici e i vincoli paesagistici di tutti elementi violati da questa delibera senza ritegno alla variante edilizia di Vesima del Comune contrapponiamo lo strumento attuattivo del piano particolareggiato i cui costi pubblici di intervento potranno essere coperti con i finanziamenti del PNRR o altri finanziamenti pubblici quindi si tratta di un piano di recupero del paesaggio agrario rurale storico di Vesima con tale strumento urbanistico pubblico il Comune di Genova può avviare un piano di intervento per la sicurezza dei nuclei e degli insediamenti agrari di Vesima avendo la possibilità di poter usare appropriatamente l'esproprio per pubblica utilità perché è assolutamente impossibile e ragionevole e realistico che il proprietario privato delle nuove residenze a Vesima così come proposto nella delibera sia in grado con le proprie forze o voglia o possa fare qualsiasi operazione di risanamento ambientale paesagistico e di messa in sicurezza del territorio di Vesima se non relativo a scopi personali le operazioni di intervento che noi proponiamo saranno mirate adottare i nuclei delle case agricole attive di tutte quelle operazioni di cui hanno bisogno urbanizzazioni attrezzature servizi primari sistemazioni idrogeologiche verde produttivo risanamento ambientale restauro delle preesistenze storiche del paesaggio storico lo scopo è quello di creare un nuovo ripopolamento agrario valorizzazione del relativo paesaggio storico rurale di Vesima tale proposta alternativa è coerente con le osservazioni generali e particolari della soprintendenza nel metodo e nella forma qui richiamo alcuni passaggi fondamentali della proposta della dichiarazione della soprintendenza come osservazione il piano territoriale di coordinamento paesistico regionale dell'assetto insediativo inserisce le suddette zone quasi interamente insediamenti sparsi con regime di mantenimento finalizzato alla salvaguardia dei corridoi paesistico ambientali disciplinate dall'articolo 49 terne relative a norme che individua parte del territorio già classificate come insediamento sparso in regime di mantenimento che per collocazione e prevalenza di spazi libri solidificati valori di immagine costituiscono corridoi di importanza sia paesistica che ambientale per il colgamento tra costa e introterra o per l'interruzione della continuità urbana lungo i versanti costieri dice che se non se non in misura episodica e per funzioni quali l'attività agricola e di presidio ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica ambientale storico culturale nonché la funzione turistico ricettiva purché a basso impatto paesistico e ambientale che preservino comunque la continuità degli spazi non edificati la bassa densità insediativa e i connotati paesistici del territorio insomma questo già è un riassunto della contrarietà della soprintendenza il secondo punto che è evidenziato consentendo tutti gli interventi volti al recupero degli edifici dei rustici e delle infrastrutture esistenti per favorire il presidio del territorio in modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della disciplina escludendo ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata urbanizzazione penso che più chiaro di così non poteva esprimersi la soprintendenza la nostra richiesta di sopralluogo aveva lo scopo proprio di analizzare i contenuti della delibera ma anche delle osservazioni della soprintendenza e quindi chiediamo al sindaco e alla giunta di approvare diciamo questo ordine del giorno con una proposta e con una sopralluogo diciamo in cantiere avesima e la possibilità di poter illustrare la nostra proposta in commissioni dedicate grazie allora terminata l'illustrazione degli ordini del giorno iniziamo la trattazione dei 246 emendamenti prima però gli darò la parola al consigliere Terrire che tanto prende ossigeno ci sono pochissimi rilievi mi diceva la segreteria generale su un numero ridotto di emendamenti che è doveroso però fare prima dell'illustrazione quindi dottor Bisso prego può intervenire indicando bene il numero delle emendamenti singole emendamenti in questione grazie allora si tratta di quattro emendamenti per i quali gli uffici hanno valutato la inammissibilità il primo è il numero 221 del partito democratico motivazione in quanto si tratta di affermazione non verificata e comunque non pertinente né determinante ai fini della presente proposta il secondo è il numero 222 sempre del partito democratico che ha la stessa motivazione che vi ho letto per il 221 quindi si tratta di affermazioni non verificate e non pertinenti poi c'è il numero 241 della lista Crivello motivazione non attinente né pertinente rispetto alla proposta e il numero 244 sempre della lista Crivello non correlato né pertinente alla proposta in oggetto 244 quindi ripeto i numeri per ecco per certezza 221 222 241 e 244 grazie grazie dottor Bisso allora consigliere Terrile ah quindi allora dividete voi come meglio ritenete come ha fatto prima la lista Crivello 1 201 è il primo blocco prego grazie presidente grazie assessori e sindaco in una città che si spopola dove i giovani vanno via perché non c'è lavoro e di conseguenza i giovani non possono abitarci si propone con questa deliberazione di costruire ulteriori case di costruire delle villette chiaramente di pregio e di conseguenza ci sembra abbastanza mi sembra abbastanza incomprensibile chiaramente costruirne delle altre in una città che andrebbe invece riqualificata e magari l'esistente rimetterlo in ordine per renderlo davvero abitativo salvaguardando il suo territorio il suo verde pubblico e cercando di lavorare di collaborare con tutti quei privati perché al di là delle solite idee quelle sempre di costruire delle nuove abitazioni si andasse invece a ricercare quegli strumenti urbanistici e giuridici per far sì che nel giusto interesse del privato si possa però avere anche piena soddisfazione nella riqualificazione efficace di un intero territorio in particolar modo quei territori come in questo caso Vesima per il quale appunto vengono proposti un ampliamento e quindi una realizzazione e quindi di una modifica totale di un'intera porzione di terreno agricolo sorprende molto che si dica che per poterle rendere abitate si imporranno dei requisiti dei vincoli a far sì che quei milanesi quei torinesi quei villeggianti vengano a fare gli agricoltori a Vesima almeno almeno a me sembrerebbe tale ed allora sembra davvero difficile riuscire ancora in questo caso dopo gli ennesimi supermercati dopo gli ennesimi trasformazioni di alcune porzioni di territorio ricorda ad esempio uno dei primi sopralluoghi dove in via Gualco nella porzione del territorio della media Valvisagno si doveva realizzare appunto un nuovo edificio ad uso servizi per appunto accogliere persone anziane che poi non se n'è più fatto probabilmente nulla per andare comunque a modificare delle porzioni di territorio abbastanza ampie e che andrebbero sicuramente riqualificate in maniera diversa ascoltando innanzitutto chi ci abita chi ci lavora come in questo caso ci hanno gridato ad alta voce tutti quelli di Vesima lo ha fatto altrettanto il municipio non è stato ascoltato le commissioni sono state fatte lo ricordo perché c'è stato un'insistenza da parte nostra a farle non perché voi avevate messo all'ordine del giorno delle commissioni altrettanto abbiamo chiesto che magari per qualcuno che non la conosceva non per me ma non per altri magari si andasse a fare un bel giro a Vesima in questa collina di cui si parla ma questo non è stato possibile a Vesima c'è anche un bar dove il sindaco può andare a prendere il suo solito cappuccino dove incontra i cittadini ma non lo ha fatto sì lo so ma Vesima lei non ci è andato a prendere il caffè in questi ultimi mesi e al di là di questo perché evidentemente lei va dove gli dicono sempre di sì o forse appare tale ecco probabilmente a fare le belle teleferiche che portano su a Ponte a Forte Begato e poi dalle altre parti non ci abbiamo gli autobus per potere ma al di là di questo mi scusi che ho divagato ma perché mi ha risposto e allora tutti questi emendamenti che appunto partono dal numero 1 e arrivano oltre il 201 almeno presentati da noi cercano almeno di mitigare di modificare di ridurre tutto quello che potrà e che sarà ahimè purtroppo impattante per quello che riguarda appunto questa nuova realizzazione e allora come voi noterete sicuramente avendoli letti uno per uno ce ne sono alcuni che sicuramente sembrerebbero uguali e un po' provocatori ma non lo so ne ringrazio gli altri colleghi che come me si sono adoperati per far sì che almeno una parte di loro fosse accolta e allora ad esempio quelli che vanno dal 18 al 98 ci invitano sicuramente ad ampliare la convenzione dai vent'anni che avete proposto sino ai 99 anni in modo tale da imporre vincolare che costruisce chi la abita a fare davvero gli agricoltori e non a venire lì a vedersi le spiagge della nostra bella Liguria della nostra bella Genova ma altrettanto gli altri che li seguono quelli che sono dal 99 fino al 101 ma fino ad altro ed altri ti impongono e vi proponiamo di ridurre le superfici degli edifici che andrete a realizzare per non renderlo impattante per non far sì che comunque con la collena si veda anche ad occhio nudo potrà diventare un ammasso di cemento per non ripetere degli errori fatti precedentemente da quelli che non eravate voi per non ripetere sicuramente il fatto che ripeto nella nostra città si riduce nel numero degli abitanti e degli occupati al lavoro i famosi 30.000 posti di lavoro che nel 2017 appunto erano stati promessi da questa amministrazione ecco si possa magari davvero far lavorare dei veri agricoltori come già quelli che ci stanno lavorando e che magari possono davvero essere quelli che magari con la mia così tanta amata mio tanto amato istituto agrario Marsano della valle verde dalla quale io provengo dove voi avete tra l'altro proposto quattro forni crematori che andranno a investire la valle del Veilino una valle anche quella dal punto di vista idrogeologico fragile ma voi raccogliete le 4.500 salme le incinerite non di Genova non della Liguria ma di tutto il nord Italia ecco io credo che il paragone sia abbastanza attinente e questo è il vostro modo di fare costruite nella nostra Val Bisagno la Panarello nuova ampliate i volumi più del doppio in una valle dove c'è anche un parco bellissimo dei forti eccetera eccetera e allora con questi emendamenti vi proponiamo di ridurre le superfici di questi volumi ma altrettanto vi chiediamo di ridurre gli ettari a disposizione di ogni singola concessione e altrettanto invece di aumentare quelle superfici esterne a ogni singolo che comprerà poterle da vaero coltivare e poi vedremo magari sorveglieremo guarderemo attentamente se negli anni saranno davvero delle persone che si adopereranno per far ritornare le fragole come qualche d'uno sta facendo e altri tipi di coltivazioni che sono tipiche di quell'area i miei colleghi prima di me hanno detto altre cose probabilmente non le ripeto ma altrettanto io credo che come vi ha già detto anche il municipio sarebbe stato meglio proporre senza magari coinvolgere dei privati mettendoci delle risorse quelle risorse che vi chiediamo spesso a sostegno a difesa di questo nostro territorio così fragile che purtroppo a me sei visto ulteriormente fragile in questi ultimi giorni durante le forti piogge che per l'ennesima volta sono avvenute ma a una mia interrogazione avete detto che avete fatto tutto quello che era normale tutto quello che era giusto ma a me le persone erano a spalare fango erano a raccogliere acqua nelle loro cantine perché? perché succedeva qui come a Vesima quello che succede spesso quando i territori si lasciano incolti non si mettono in sicurezza i rivi chiaramente inondano le parti abitate ma non solo le parti coltivate allora in questo caso diventa difficile riuscire a comprendere come mai per cinque anni avete lasciato quella collina che quella porzione di territorio del Comune di Genova di Genovesi che come tutti gli altri pagano le tasse magari non si fosse realizzato nulla non fosse messo a bilancio delle risorse necessarie per far sì che quei rivi quei terreni fossero messi in sicurezza fossero realizzate delle sponde degli argini che potessero realizzare o che potessero essere recuperati riqualificati gli edifici esistenti in modo di maniera che davvero si ritornasse a un utilizzo del territorio stesso e alla sua vera destinazione alla sua antica destinazione che era quella appunto che noi sappiamo e allora io credo che sia sbagliato come vi diciamo in questi emendamenti e quindi ve li proponiamo di votarli e quindi di essere d'accordo con noi che appunto si pongano quelle tutte limitazioni per far sì che questo imponente questa imponente modifica di questo intero territorio sia meno impattante e meno deflagrante possibile è chiaro che noi non siamo d'accordo su questa cosa è chiaro che abbiamo cercato e cercheremo oggi in ogni altra occasione di cercare di fermarla nelle nostre proposte di sospensiva che era proprio questo atteggiamento la volontà di non offrirsi a modifiche di questo tipo ricordando che ci sono dei territori tra l'altro lì vicino nel comune di Arenzano ma anche nel comune di Genova dove ahimè le cose sbagliate molti anni fa si vedono ad oggi cerca di recuperare si cerca di rifare ma diventa difficile e allora siccome è molto più semplice costruire il nuovo che rimette a posto il vecchio rispettandolo chiaramente nelle sue origini nei suoi modi di operare in un contesto che non è soltanto urbanistico ma è di tipo sociale e lo dimostrano le persone che sono qui presenti ma che altrettanto mi hanno detto ci hanno detto a tutti quanti di fermarci le villette sono tante hanno delle superfici molto ampie e io credo che andrebbe come spesso vi diciamo fatto una proposta di tipo urbanistico tenendo in considerazione tutti i fattori che determinano trasformazioni così importanti che sono quelli di una comunità che probabilmente si andrà a insediare a quanto dite voi saranno lì tutto l'anno per 12 mesi a zappare poi vedremo se a novembre dicembre ci saranno i cittadini seduti qua dietro di a zappare o quelli ai quali l'imprenditore venderà le case oppure se ci sarà qualche d'uno giustamente degli amministratori di questo comune che andrà là alla mattina presto a vedere se sono nei campi e se appunto produrranno qualcosa ma quando si fa una propria di questo tipo probabilmente si propongono modifiche dal punto di vista della miabilità della viabilità della mobilità urbana negli accessi dei collegamenti con le reti ferroviarie e con tutto quello che consente di poter realizzare e altrettanto risulta molto difficile non leggere in quello che proponete voi degli oneri di urbanizzazione che vadano probabilmente a creare una vita sociale ripeto di una comunità che probabilmente andrà a abitare in quelle zone a meno che non ci siano gli ennesimi quartieri dormitorio o altrettanto ci siano invece quelli dove si dorme soltanto a luglio ad agosto ecco solo per il piacere di farlo allora io credo che questi emendamenti siano rivolti a far sì che appunto venga diminuito l'esatto importo e l'esatta superficie di un intervento così vasto quando abbiamo sentito che il municipio era discusso di questo e abbiamo invitato ad incontrarsi ad ascoltare i rappresentanti di quel territorio che vi dicevano alcune cose avete preferito non farlo o magari farlo successivamente quando siete stati messi davanti all'evidenza abbiamo chiesto che venissero uditi appunto quei soggetti io sono di nuovo a chiedervi di poter accogliere questi innumerevoli emendamenti che andranno ripeto in parte a diminuire quello che ahimè accadrà io credo altrettanto che ci siano delle e ci possono essere delle altre occasioni di confronto ma che non siano soltanto occasioni dove ragioneremo di quello che è già stato deciso io credo che bisognerà ricordarci che in quell'ambito come dicevano i miei colleghi prima di me bisognerà sorvegliare se dal punto di vista della qualità del rumore dell'aria del territorio saranno davvero delle riqualificazioni ed è per questo anche che vi chiediamo di diminuire dei volumi sempre in questi emendamenti o che quei volumi già esistenti quindi degli edifici già esistenti in quel territorio siano compresi in quelle volumetrie e non siano invece in più rispetto a quello che voi proponete e quindi vi chiediamo di approvarli altrettanto penso mi sarebbe piaciuto di vedere che in quella porzione di territorio eventualmente aveste considerato di inserire degli spazi per dei cittadini magari che hanno meno possibilità o almeno invitare a fare l'imprenditore alcuni alloggi di tipo convenzionato oppure agevolato per quelle persone che avrebbero dovuto venire a Genova qualcuno di voi lo diceva nei vostri appelli sui giornali sulle televisioni dove voi spesso andate ma non riferite in questo Consiglio Comunale a giovani che potessero venire ad abitarle quelle zone non farle abitare sempre dagli stessi quelli che se le possono comprare e per questo motivo io credo che sarebbe opportuno che si ritornasse magari a proporre o a invitare ad obbligare magari a fare degli interventi di questo tipo colgo l'occasione e termino che si possa ricominciare a rivedere anche degli insediamenti che non siano soltanto di tipo abitativo che possono essere magari associativi o che possono essere dati a delle cooperative o a delle altri soggetti che potranno operare ma in questo caso la proposta non è vincolante e allora io vi chiedo eventualmente di fermarvi e quindi di votare questi emendamenti che i colleghi dopo di me continueranno a presentare e che saranno assolutamente almeno ripeto migliorativi di qualcosa che noi chiaramente non condividiamo grazie tempo è vostro potete come ha fatto la lista a Crivello quindi chiedo Venia ma potete proseguire no ma attenzione c'è sempre l'orecchio funziona la differenza del mio predecessore che era sordo io sento bene l'unica cosa se poi mi richiamate bene anche per seguirli qui i documenti perché capisco il discorso più generale introduttivo però se mi state più sui documenti facilitate anche la comprensione da parte di tutti grazie consigliere Pandolfo quindi a lei l'onere prego sì io i miei li do per l'etica non ce ne sono quindi ma utilizzo lo stesso il tempo che ci è dato per far sì che questa delibera di variante al PUC che c'è stata sottoposta oggi in consiglio comunale e in diverse sedute di commissione ponga al centro anche uno dei temi che è quello del contrasto al discesso idrogeologico grande capitolo che questa giunta ha ereditato ben programmato e avviato certamente agendo in continuità amministrativa ma senza imprimere nessun progresso anzi come dimostra questa proposta ponendo dei significativi ostacoli perché possiamo dire che 10.000 metri quadri di nuove residenze avesima sono un oggettivo ostacolo sì perché al netto delle valutazioni sugli aspetti idraulici che sono contenuti nella delibera al tracciato di alcuni rivi il rio Lupara il rio Vesima il rio Cana e altri rivi che sono citati non si tiene conto dell'impatto che una edificazione tale e un impianto urbano di queste dimensioni può avere sulla collina di Vesima ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'esigenza per la quale si costruisce probabilmente dobbiamo anche fermarci senza pensare che arriva una delibera la portiamo in commissione sentiamo i comitati sentiamo il municipio quando va bene e se va bene ma fermiamoci a ragionare su qual è l'esigenza per la quale un'amministrazione decide di portare ovviamente nell'interesse della città e dei suoi cittadini e dei suoi abitanti una proposta come questa come quella che arriva nasce quando evidentemente c'è la necessità di offrire nuove residenze perché perché magari la città cresce magari cresce demograficamente beh la città come è evidente dai dati oggi non ha bisogno di nuove abitazioni speriamo che ne possa avere domani ma certamente non parte da realizzare nuove abitazioni parte da creare le condizioni per programmare una crescita demografica e quindi uno sviluppo della città il sindaco Bucci ha affermato in più sedi che la popolazione a Genova è aumentata e quindi anche dunque questo elemento non è vero l'andamento demografico di Genova è quello della Liguria tutta in calo 580 mila gli abitanti a Genova nel 2018 554 mila nel 2021 non è un dato di massima è un trend di decrescita legato al saldo di nascite e decessi quello tra immigrati ed emigrati quindi è un trend che è iniziato tempo fa ed è legato in parte alla vicenda pandemica che ha inevitabilmente assestato un ulteriore duro colpo a questo trend è un ulteriore elemento che certifica che la decrescita è reale e va in controtendenza a quello che ha sempre detto il sindaco e che continua a dire è che i dati della popolazione residente da febbraio del 2018 non sono più pubblicati guarda un po' e l'annuario statistico sono spariti sul sito istituzionale sono spariti come abbiamo già denunciato nei mesi discorsi quindi c'è una chiara ritrosia pubblicare questi dati perché evidentemente non collimano con le affermazioni che si fanno e con i gesti che ci proponete gli atti amministrativi che ci proponete in quest'aula i numeri certificano che al di là della propaganda in questi ultimi cinque anni la decrescita della popolazione non si è fermata e si è anche accelerata e la decrescita è nei fatti anche che se ci viene raccontata una favola promossa anche in campagna elettorale da questa giunta di un trend che avrebbe addirittura che sarebbe stato positivo e che avrebbe traguardato un target di verso i 700 mila abitanti nel giro di cinque anni sono parole del sindaco il 18 ottobre del 2016 ecco dunque che l'esigenza di nuova residenza nella nostra città che parte evidentemente da un dato di afflusso di domanda nuova non c'è e quindi l'esigenza di nuova residenza nella nostra città viene meno invece la nostra città ha bisogno di qualità di vivibilità dei quartieri di risanamento di garanzia dell'erogazione dei servizi tutte cose dimenticate da questa amministrazione addirittura venerdì mi dispiace che sia andato via l'assessore al bilancio sull'azienda che dovrebbe erogare il servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia della città AMIU ha detto che non è abbastanza efficiente e il servizio non è adeguato in particolare in riferimento alla pulizia delle caditoie ecco le caditoie sono circa 96 mila a Genova negli oltre 30 chilometri in cui si estende la nostra città lungo quasi 1500 chilometri di strade sono il primo anello di quella cura che va a incidere sulla sicurezza idrogeologica quella sicurezza idrogeologica che oggi è chiaramente compromessa da un'azione come quella che ci proponete ecco credo dunque con alcune piccole sollecitazioni di aver cercato di riannodare un attimo il filo rispetto a quelli che sono gli obiettivi che può e deve avere un'amministrazione che si pone l'obiettivo di far crescere per davvero una città e non quella di accontentare l'uno o l'altro ma di guardare all'interesse generale che deve fare l'amministrazione quella sicurezza idrogeologica che citando il capitolo 3.3 del programma del candidato sindaco Bucci affermava di voler prendere in carico programmazione e attuazione di interventi in ambito paesaggistico a protezione del territorio e della popolazione presente realizzando diverse politiche settoriali di riferimento addirittura con l'estensione delle indagini sull'assetto idrogeologico e le aree di disesto risultato abbiamo un assessore ai lavori pubblici che afferma che il sistema di captazione delle acque è inefficace dopo 5 anni di governo della città e l'amministrazione che cosa fa? propone una nuova edificazione una nuova costruzione di dimensioni vastissime su un'intera collina del ponente genovese valutate voi se è la ricetta coerente rispetto alle cose annunciate e promesse alla situazione reale e alla prospettiva che si vuol dare alla nostra città anche in termini di sicurezza idrogeologica tutto ciò che oggi è riassunto di fatto nella delibera che ha delle contraddizioni interne fortissime e che va in senso assolutamente contrario all'interesse della città ma dunque non c'è bisogno di queste 65 nuove ville di nuove abitazioni ci sarebbe invece bisogno di più verde di manutenere il verde di far crescere la città a partire dalla demografia certamente quello è un obiettivo condiviso ma non realizzato promesso ma non realizzato e di avere occasioni vere di sviluppo che sappiano tenere insieme l'ambiente con la necessità di una costruzione di qualità perché il tema del costruire può avere molte sfaccettature una di queste è quella della qualità ho ribadito il tema della qualità dei servizi che è evidente per bocca della stessa amministrazione che non è efficace anche rispetto ai costi perché l'intervista dell'assessore Picciocchi faceva riferimento anche ai costi in relazione al servizio i costi a quello che viene erogato ai cittadini non guardate su alcuni servizi che possono essere anche allenati o perlomeno che anche qui si diceva potevano essere allenati da parte di questa amministrazione all'inizio del ciclo amministrativo poi ritenete essere efficacissimi e profondissimi ne abbiamo tanti panni marini farmacie ne avete affrontati in contraddizione a voi stessi nell'arco di questi 5 anni tantissimi qui parliamo del servizio della raccolta dei rifiuti quindi raccolta dei rifiuti manutenzione trasporto pubblico devono essere i tre filoni sui quali l'amministrazione concentra la sua erogazione e il suo servizio alla città qui è chiaro per vostra stessa missione avete fallito e quindi oggi ci proponete davanti al fatto che non riuscite a pulire le calitoie di fare una costruzione su un'intera collina del ponente genovese dove sapremo già che la captazione delle acque sarà drammatica e difficile in una situazione in un contesto di sicurezza idrogeologica già compromesso per la nostra città grazie si prosegue consigliere Bernini sempre entro il 201 va già i suoi ecco perfetto quindi numeri da no chiedo solo come prima sono stati ascoltati una maggiore attinenza ai documenti comunque lei lo ripeto per tutti consigliere Bernini quelli a sua firma sono dal numero 202 al numero 238 fatta eccezione perfetto bene grazie prego prego sì grazie presidente io non non l'illustro nella serie numerica perché ho cercato di accortarli per argomento anche per rendere più facile poi la comprensione del messaggio e della di quello che si vuole attraverso questi emendamenti a partire da alcuni che voglio dire io non avrei mai scritto in una delibera ma che visto che la delibera ha in qualche modo una certa finalità è opportuno che siano inseriti per esplicitare quello che davvero succede con una delibera che ha questi contenuti e allora si parte dal 202 che per dare coerenza al testo rispetto agli effetti che avrà chiede di inserire tra gli obiettivi quello di destinare ad uso edificatorio residenziale porzioni di suolo attualmente destinate ad uso esclusivo agricolo perché perché proprio in questa stanza quando abbiamo fatto più commissioni di discussione della pianificazione urbanistica vigente con la presenza di funzionari regionali dell'agricoltura funzionari regionali della della dell'ambiente con la presenza anche di rappresentanti del territorio la discussione che abbiamo fatto sulla quota di territorio della città che doveva essere destinata ad attività agricola quella che doveva essere destinata all'attività invece edificatoria era in qualche modo connessa a quei percorsi che nel 2001 ci ha posto la comunità europea di avere una visione complessiva del territorio di un comune e quindi di pesare quali erano le destinazioni e conseguentemente proprio seguendo questo percorso che prevedeva anche la partecipazione non il semplice ascolto non è che basta sentire quello che dice il cittadino e poi dire vabbè l'hai detta ciao anche un confronto con questi per arrivare a pesare le presenze agricole le presenze edificatorie e conseguire l'obiettivo della tendenza del consumo zero di suolo individuando però anche in qualche modo degli elementi a carattere economico perché nel momento in cui io fisso che un terreno può essere usato solo per fini agricoli e non edificatori io in qualche modo intervengo anche nel mercato immobiliare dei terreni perché fisso un valore rendo così più facile per il contadino che voglia acquisire un terreno per attività agricola magari da un latifondista che invece la tiene lì aspettando chissà che cosa la possibilità di avere un prezzo determinato in un mercato in cui quello è vincolato all'attività agricola se io dico posso edificare è evidente che il valore cambia e allora io chiedo che venga esplicitato il fatto che rispetto a quello che era la coerenza con gli obiettivi complessivi della pianificazione urbanistica oggi questa delibera porta invece a modificare i rapporti tra terreno edificabile e terreno agricolo in più con il 203 dico anche che va esplicitato che è una sperimentazione quella che si vuole fare meglio sarebbe evitare che la sperimentazione abbia un carattere generale per tutta la città come questa delibera vuole è oggetto di altri emendamenti però anche se lo facessimo solo su Denisma la delibera dice se io ci metto delle casette migliora tutta l'attività agricola è una sperimentazione lo si dica chiaro e tondo fino dall'inizio perché questa correlazione tra il fatto che se io ci metto un milanese che si prende la casetta e magari anche il posto barca come qualcuno diceva prima ad Arenzano e poi lì fa una convenzione con qualcuno che deve coltivare ma che non è per forza un contadino secondo questa stessa delibera questa correlazione tra questo fatto e che aumenti in questo caso la produzione agricola su quel territorio e l'uso agricolo del territorio a me non torna però almeno e si è espliciti che l'amministrazione con questa delibera cerca di provare che invece questa teoria ha valore l'altra questione è quella connessa a dove andiamo a piazzarle queste case e quindi il 2006 2008 e il 206 208 e 207 praticamente si richiede in questi tre diversi emendamenti per inserire in pagine diverse della delibera in punti diversi della delibera che si chiarisca questa questione degli atterraggi perché dalla delibera non emerge la chiarezza in questo senso nel senso che si dice che possono atterrare in alcune aree però la regione e la provincia e la città metropolitana dicono guardate figlioli che se fate l'atterraggio in quelle aree lì non è più insediamento sparso come previsto dal piano territoriale di coordinamento paesistico ma al contrario diventa insediamento diffuso quindi non fa parte di quelle che sono le possibilità che la pianificazione territoriale sovraordinata quella della città metropolitana della regione vi consente di fare modificatelo cambiatelo in qualche modo allora io do due possibilità una è quello dire genericamente che in aree individuate nel rapporto ambientale allegato alla delibera e riportate in cartografia nel successivo 2208 perché perlomeno ci si para in qualche modo le terga dice vabbè magari non ci saranno tutte lì perché in quei punti lì più di tanto non potrai farne se il piano territoriale ti impedisce di farle perché ti dice che devi mantenere una certa caratteristica della diffusione dell'edificato in quel territorio e allora oggi si parla di tot ma in realtà se ne potranno fare di meno se si vuole mantenere l'aderenza con la pianificazione territoriale di livello sovraordinato se invece si vuole proprio fare la la cattiveria di andare a cambiare la pianificazione territoriale che è una pianificazione antica che è sempre stata mantenuta salda perché era già negli anni 90 all'avanguardia rispetto ad altre ad altre regioni allora lo si lo si renda esplicito e quello che è scritto sul rapporto ambientale che ci avete dato e che dice chiaramente che chiede che la regione cambi la pianificazione territoriale per dire che lì ci va l'insediamento diffuso e non l'insediamento spasso si è esplicitato perché con questa delibera si chiede di poter fare quelle top case andando contro una pianificazione allora si dice chiedo che la regione si pronunci come si è pronunciata già in altri casi e non è che sia impossibile per la modifica della pianificazione territoriale e altrettanto faccia la città metropolitana in modo tale che sia possibile fare questa porcata perché altrimenti non si può fare e allora si ritornano gli emendamenti successivi il 212 invece in qualche modo cerca soltanto di ripristinare la verità su quello che era il piano urbanistico che voi andate a modificare perché da un punto di vista della delibera si legge chiaramente quel piano non consentiva di fare tutto questo consumo di suono poi qualcuno ha dichiarato no ma era possibile lo stesso l'indice c'era no perché con una proprietà così estesa non poteva essere fatto da parte di quella proprietà nessun incremento della presenza residenziale se lo faceva doveva prima vendere dei pezzi a dei contadini e magari questi contadini perché sappiamo che il mercato esisteva e che alcuni gliel'hanno chiesto ce l'hanno anche dichiarato di poter avere dei territori aggiuntivi non aveva neanche bisogno di fare la casa aggiuntiva perché ce l'avevano già e potevano soltanto ampliare la loro attività agricola utilizzando dei terreni contigui ma non l'ha mai voluto fare il signor Catania d'Oro allora questo significa che bisogna specificare che la limitazione che era stata posta dal PUC era proprio tendente a limitare il consumo di suolo e più specificamente l'incremento delle aree edificate a danno di quelle coltivabili perché questo era l'obiettivo perseguito e ottenuto da parte della pianificazione successiva tant'è che voi dite alla fine che fate questa variante di lira proprio perché prima non si poteva costruire e quindi quello che è stato affermato in questa stessa sala da parte di qualche d'uno essenzialmente dall'assessore e anche prima si poteva fare questi miti quadrati no non è vero per i motivi che sono stati evidenziati poi anche se venivano cassati due io vorrei che ci fosse un in qualche modo un chiarimento attraverso i 209 211 219 213 e arrivo 14 20 21 e 22 ce li hanno cassati ma se ne stavano anche quelli che in realtà il comportamento che c'è stato è un comportamento da parte della proprietà che ha portato a questa situazione perché nella delibera si mette tutta una serie di motivazioni per cui c'è stato l'abbandono l'abbandono delle delle dell'attività agricola però in alcuni casi c'era proprio un'aspettativa in questo caso e va va in qualche modo esplicitato perché con l'abbandono si arrivasse poi ad arrivare alla edificabilità io non vi nascondo che quando ho fatto l'assessore all'urbanista più volte ho incontrato il signor Cattani addorno che mi diceva ma io ho questo progetto ma io vorrei fare le villette qua ma io vorrei fare e tutte le volte gli ho detto no grazie perché comunque tendevo a difendere un territorio e quella che era una pianificazione che avevamo condiviso anche con percorsi partecipati e non si capisce perché altrimenti oggi si ritenga possibile che con quella estensione territoriale sia possibile fare un'attività 4.0 6.0 quello che si vuole che il proprietario poteva fare anche prima perché era proprietario di tutta l'area di conseguenza poteva investire mettere in campo l'attività che adesso può fare solo se costruisce delle ville e quindi ci guadagna con la vendita delle ville e allora ditelo chiaro e tondo nel 211 noi vogliamo che comunque non ci sia soltanto lo sviluppo dell'agricoltura ma ci sia lo sviluppo dell'impresa dell'inizio dell'investimento immobiliare e l'altro elemento che in qualche modo sottolinea il fatto che si va ad aumentare il valore della proprietà del signor Cattani Adorno è che nella delibera c'è scritto verrà preso in considerazione io chiedo che venga scritto invece in termini più certi verrà determinato il valore corrispondente a quello che è il contributo straordinario 2001 e poi 2008 regionale per l'incremento di valore che ha un territorio quando si fa una variante al piano regolatore perché in questo caso si passa da valore agricolo del terreno e valore di terreno edificabile c'è una bella differenza andate a guardare l'OMNI le statistiche varie sui valori dei terreni e delle vendite e vedrete che c'è una bella differenza che non è che va preso in considerazione va determinato e va fatto pagare ogni qualvolta si fa una variante di questo tipo quindi per i 63 su 66 mila metri quadrati del signor Cataneo Adorno bisogna che questa delibera sia accompagnata dalla richiesta di pagamento di un contributo che è il 50% dell'incremento di valore che va al comune di Genova per questa operazione perché di fatto l'emendamento 213 che tra l'altro modifica anche come dire il testo della delibera per un errore ortografico credo c'è scritto abbondo anziché abbandono e quindi va comunque modificato anche se non accetterete il testo di questo emendamento il testo della delibera per portarla al corretto la corretta lingua italiana però il problema è che l'abbandono delle terre è stata una l'assenza di corrette politiche di uso salvaguardia gestione del territorio e non è che sia una cosa che non sappiamo a parte che lo vedi ma nel corso delle varie commissioni ci sono arrivate più di una testimonianza a me erano arrivate anche nel ciclo precedente ma anche in questo sono arrivate nelle poche commissioni che abbiamo fatto degli abitanti di quel territorio che dicono ma lì non si fa niente ma chi lo deve fare è il proprietario perché per essere per essere chiari il il consigliere Barone dice ma dovevate fare qualcosa ora nel momento in cui ci fosse un potenziale danno per il pubblico io quando ero presidente di un municipio il signor Paolo Mantovani aveva un terreno confinante con la strada pubblica stava crollando giù tutto quanto l'ho chiamato gli ho detto Gatti ha fatto il preventivo che costa questo o tu lo fai a spese tue basta che lo fai oppure io do l'incarico ad astere e ti faccio pagare questa cifra qua il signor Paolo Mantovani non sono né genuano del Sandoriano quindi non c'era una cattiveria nei confronti della famiglia Sandoriana il signor Paolo Mantovani ha preso ha chiamato una ditta e ha fatto il lavoro ma se non avesse avuto il signor Paolo Mantovani il terreno confinante con la strada pubblica e la frana fosse andata nel suo terreno o nel terreno del vicino era un conflitto tra i due proprietari e di conseguenza come potevo io intervenire e dirgli fai questo fai quest'altro certo c'è la norma regionale che il sindaco tutti gli anni fa sui fossi sui rivi su queste cose qua però sappiamo benissimo che gli strumenti per poter andare a controllare tutto quanto se non c'è una denuncia da parte del vicino e allora in questo caso interviene anche anche IREN per la gestione delle acque delle acque in alcuni casi non c'è la possibilità di intervenire ma laddove ci fosse qualche cosa che fa danno pubblico è come se l'abbiamo tanto per il caso specifico del signor Catanio Adorno proprietario di quelle aree io personalmente da assessore non so se se funzionari presenti qualcuno c'era perché sono cambiati molti però l'ho chiamato io ho detto guarda tu hai affittato a Equocanone un area al signor Pinco Pallo il quale ci ha fatto dei lavori che non sono coerenti con il piano urbanistico il piano territoriale di coordinamento provinciale il piano territoriale di coordinamento regionale cosa fai? il signor Catanio Adorno ha detto sì 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 gli dico subito di demolire i manufatti quindi ogni qualvolta abbiamo visto saputo per denuncia o perché l'abbiamo visto direttamente come in questo caso che c'era qualche situazione di questo tipo siamo intervenuti ma avevamo gli strumenti perché stavamo facendo qualche cosa che non era coerente con la pianificazione comunale e quella sovraordinata è per questo che dico voi il 22 e il 21 me li cassate però per essere chiari è evidente che chi ci guadagna qua è il signor Catanio Adorno tant'è che gli dobbiamo dare anche il quantitativo di contributo che dovrà dare al comune di Genova per l'incremento del valore immobiliare dei suoi terreni ma nessun altro ci guadagna lui avrà un incremento del valore delle sue aree perché è quella per quella porzione per cui su cui potrà edificare sarà una porzione che avrà un valore molto più ampio ma tante volte più ampio di quello che è il valore del terreno agricolo magari scosceso come quello che è il terreno di Vesima ma in realtà questo passa in secondo piano la politica che viene fatta con questa delibera è una politica che va a vantaggio di uno e a svantaggio invece di un patrimonio della comunità che è un patrimonio riconosciuto non soltanto per quanto riguarda il singolo elemento paesistico della vecchia casa rustica del vecchio del sistema dei muretti a secco ma perché l'insieme di quel paesaggio la bellezza di quell'insieme è qualche cosa che io conosco sin da quando ero bambino e vorrei con tutta sincerità poter far vedere ai miei figli ai miei nipoti se ne avrò e poterli guardare correttamente negli occhi e dire io ho fatto in modo che questa bellezza naturale e questa bellezza anche antropica legata alla storia di quel territorio io ho cercato di salvaguardarla per te e per quelli che verranno dopo di te pare che questo non sia invece uno degli obiettivi di chi ha redatto questa delibera altri emendamenti riguardano per così dire la limitazione del danno di fronte a quello che state che state proponendo per cui con il 204 io credo che venga escluso apertamente l'incremento superficiario e volumetrico anche per gli edifici che vengono ristrutturati perché questo perché come è stato sottolineato anche nella fase di scopi della sovrintendenza ma come tutti sappiamo e come è scritto anche nella pianificazione urbanistica regionale provinciale regionale quelli edifici hanno un loro valore storico per il paesaggio vi ricordo l'ho già detto in sede di commissione lo reitero qua a Catania Dorno gliel'abbiamo già detto se tu li rimetti a posto con un bel restauro filologico noi ti diamo un premio in termini di possibilità di edificare in un punto che definiamo assieme e quindi in qualche modo tu non fai il danno ambientale ma ne hai ugualmente un vantaggio ma lui ha detto di no perché lui voleva al massimo pensando di aspetto e magari arriverà il giorno in cui avrà il massimo e purtroppo per noi è arrivato il giorno in cui avrà il massimo e il patrimonio ambientale e paesaggistico di Vesima se ne va a farsi friggere però almeno su questo ci sia come dire un minimo di salvaguardia la bellezza di questi rustici presenti ancora esistenti ancora non diruti che comunque costituiscono il paesaggio tipico della costa ligure dell'agricoltura va salvaguardata e capisco se ci fai qualche piccolo intervento non eccessivamente invasivo per rendere possibile anche in qualche modo di adeguarli ad una classe energetica migliore ad avere minore minore consumo energetico ma se tu li stravolgi e gli aumenti il volume te lo li che quello che era la presenza in quel panorama del classico rustico agricolo genovese se ne va a farsi fottere per cui nel 205 e comunque anche poi nel 231 si insiste in due punti diversi della delibera perché ci sia un'attenzione filologica all'intervento che si fa su questi edifici perché si tratta di edifici particolari che hanno caratterizze particolari Berio lo sa perché abbiamo più volte discusso su queste questioni legate magari a Sant'Ilario se si ricorda o altre situazioni in alcuni casi in quel caso fu addirittura drastico Berio nel non accettare alcuni progetti perché riteneva che non fossero coerenti con questo principio e adesso questa delibera invece rende possibile in una porzione io vivo a Ponente sono nata a Ponente per me Vesima è quindi un patrimonio come dire anche della mia identità di Genovese e a questo punto invece non si vuole mantenere queste caratteristiche il 229 e il 230 sono in punti diversi della delibera in particolare della relazione urbanistica volti a tancire ancora una volta il fatto che noi lì vogliamo mantenere le caratteristiche che ha dato a quell'area il piano territoriale di coordinamento e quindi perché dico limitare il danno perlomeno si mantengano le caratteristiche tipiche dell'insediamento sparso a carattere episodico con basso impatto continuità degli spazi non edificati bassa intensità densità insediativa e i corridoi anche panoramici che hanno fatto come bella quell'area e ne hanno in qualche modo determinato anche la protezione da parte delle diverse pianificazioni che si sono nel tempo sviluppate gestite peraltro anche da diverse maggioranze perché voglio dire Signorini che fu il primo a fare il piano per il re di coordinamento paesistico era un democristiano non un trinarisciuto comunista come me di conseguenza diciamo che erano valori culturali erano condivisi erano valori comunitari e sono stati sempre impedrati dentro a quello che era la norma ma oggi questo non si vuole più fare sempre per limitare il danno c'è la questione della realizzazione dei parcheggi ora ARPA l'area di produzione agricola dice che i parcheggi pertenziali non possono essere stesi più di cento metri quadrati perché se tu fai un'attività agricola e se ci fai un posteggio voglio dire a meno che non hai in qualche modo l'idea di farci dentro degli agriturismi e allora poi lo devi motivare in qualche modo e è un progetto specifico di sfruttamento agricolo e di come dire uso del territorio in termini positivi per fare dell'agricoltura che è connessa anche allo sviluppo dell'attività turistica ma allora lo specifici oppure tu se sin dall'inizio dici lì ci faccio il mega posteggio per le macchine vuol dire che a prescindere da quello che è la progettazione dell'uso agricolo di quel territorio tu ci fai dei mega posteggi e non va bene anche perché i mega posteggi li devi fare in aria pianeggianti porti via dalle aree che sarebbero più facilmente utilizzabili per l'attività agricola e allora si scopre che tu dell'attività agricola hai tre fotti nel senso che scusate uso il francese e così almeno non tutti lo conoscono di fatto questo è quello che succede allora gli dico no fermi restiamo a quella che è la normativa ARPA che dice che non ci può essere un'estensione maggiore di 100 metri quadrati perché anche il 35% non dia un risultato di accorpamento si possono fare più grossi solo se ci sono delle case che non sono raggiungibili con la macchina questo è quello che dice ARPA se questo è va bene ma non mi pare che gli atterraggi preparati dal gruppo degli architettica abbiano queste caratteristiche no lì ci arrivano in macchina i milanesi che vogliono comprarsi la casetta perché altrimenti non la comprerebbero e quindi non c'è la giustificazione per fare questa concentrazione dei parcheggi tant'è che nel 236 chiedo che il pertinenziale sia non rispetto all'intero lotto ma ogni singolo lotto almeno il milanese avrà il suo posteggio ma non andrà a danneggiare l'interesse di una comunità più ampia che vuole vedere quell'area verde ancora salvaguardata 237 238 io che si possa monetizzare l'ambiente di Vesima non sono d'accordo per cui gli oneri non possono essere monetizzati ci diano delle aree dove noi ci garantiremo la presenza del verde la presenza della cetta passaggistica la presenza della varietà della biodiversità faunistica e della biodiversità delle piante del territorio che ci sia la possibilità di avere almeno degli spazi su cui la garanzia assoluta del fatto che si mantiene il paesaggio sia data dal fatto che diventano spazi pubblici 210 e poi il 224 226 e 233 siamo alla questione di quanto questa convenzione deve durare ora già la sovrintendenza ha detto guardate che 20 anni ci sembra una cosa un pochino limitata io l'ho più volte sottolineato in commissione quando si fanno interventi di questo tipo se tu metti in qualche modo un termine tu dici che il valore della pianificazione urbanistica comunque è 20 anni punto se quelli che verranno dopo di noi vorranno continuare vorranno addirittura ritornare ad una salvaguardia maggiore dell'area agricola e rimaste glielo impediamo perché le convenzioni sono già firmate per le proprietà acquisite e lì allora ci sono emendamenti che fissano diversi diverse date i miei emendamenti invece il 10 il 24 il 26 e il 33 come il 233 come dicevo tutti dicono la stessa cosa mettete nei vari punti del testo che la durata della convenzione deve essere senza un termine ma deve essere connessa alla durata della destinazione da parte della città della comunità cittadina attraverso la pianificazione urbanistica ad attività agricola di quel territorio perché altrimenti decade immediatamente questa destinazione e il PUC cosa lo si fa a fare cosa fate a fare alla variante facevate una norma speciale molto più onesta politicamente e più coraggiosa politicamente che diceva guardate io lì a Cataneodoni vi faccio fare quello che vuole e di conseguenza in quel punto lì io decido che non c'è più una pianificazione legata alla presenza di agricoltura perché invece in questo modo tu hai questo intreccio tra le varie normative che di fatto limita la capacità da parte dei rappresentanti della città della comunità di porre in qualche modo delle freni al consumo di territorio o all'uso del territorio se meglio si vuole se non si vuole parlare di consumo da parte della proprietà poi c'è la questione convenzione la convenzione per escludere quello che invece era lo strumento che datevi un attimo non c'è la bonanza se lo berriamo ciao compastorino dicevo la convenzione per escludere il fatto che fosse stato invece esplicitamente richiesto che fosse un imprenditore agricolo professionale a fare la richiesta per rendere possibile l'edificazione residenziale in un lotto con tutte le caratteristiche che c'erano nell'area ARPA ora l'imprenditore agricolo professionale non è per forza un singolo contadino che si iscrive come imprenditore agricolo professionale la normativa prevede che possono esserci anche società cooperative società di capitale società di persone per le società di capitale addirittura è previsto che basta che ci sia il direttore che è imprenditore agricolo professionale che diventa di colpo la società di capitali imprenditrice agricola professionale qui voglio dire non è che sia una limitazione è soltanto che offre degli strumenti che questa normativa non mette lì e che il comune non ha mai avuto a sua disposizione per andare a verificare che effettivamente ci sia attività agricola perché per restare iscritto a questo albo comunque devi dimostrare di possedere una certa serie di caratteristiche e che perlomeno il fattore faccia in questo caso soltanto l'agricoltore che ci sia una produzione su quel territorio che risponde a certe tabelle regionali altrimenti decade questa facoltà e allora è evidente che se si vuole escludere si mette in cosa generico la convenzione perché si ha coltivato e poi chi è quali sono gli strumenti a disposizione nella delibera volutamente non c'è nessuna indicazione a quali strumenti il comune ha a disposizione per verificare se questa attività agricola sarà fatta davvero oppure no perlomeno prima sapevamo con la pianificazione precedente di non avere persone che fanno questo lavoro e ci siamo quindi attaccati alla regione che invece ha persone che fanno questo lavoro e che quindi rinnovano l'albo delle imprenditori agricole professionali e quindi sarebbe stato possibile attraverso quello avere un controllo della cosa o mettete il controllo di questo oppure accettate quello che dico negli emendamenti che ho presentato e cioè che comunque chi è dentro alla convenzione citato come impegnato a coltivare quell'area sia un imprenditore agricolo professionale io sono il milanese che fa il ragioniere prendo la villetta ma nella convenzione indico il signor Pincopallo o l'azienda la società per azioni la società cooperativa XY o Z che fanno quell'attività agricola ma che me lo dimostrano che la fa perché sono imprenditori agricoli professionali eh altro elemento di garanzia è la questione dell'attività fideiussione io chiedo che con il 227 234 e 235 ci sia una adeguata eh garanzia fideiussoria pari almeno al valore dell'edificato perché se uno mi fa questa cosa qua e poi dopo non coltiva io devo dirgli va bene ok allora tu mi paghi il doppio quello che tu hai pagato perché tu hai fatto un danno alla comunità facendo quello che è un crimine ambientale facendo un abuso edilizio di fatto perché tu hai costruito ma non nelle condizioni in cui ti era stata data la possibilità di costruire al punto tale che in alcuni punti di particolare rilevanza paesaggistica io credo che sia addirittura e lo propongo nel nell'eventamento 234 la possibilità di arrivare alla demolizione del manufatto che è stato costruito senza rispettare queste regole concludo 215 216 18 25 per gli emendamenti che hanno la mia prima firma e tutti riguardano la questione legata alla illusione della norma europea che prevede che quando si fa la valutazione ambientale strategica di una pianificazione questa sia fatta globalmente e non possa essere frammentata spacchettata in diverse valutazioni ambientali strategiche questo perché quando uno fa pianificazione come ho detto prima deve avere il territorio complessivo del suo comune sotto gli occhi capire quali sono i pesi della destinazione agricola quali quelli della destinazione industriale quali quelli della destinazione residenziale e fare il bilancio per rispondere a quell'indicazione di consumo di suolo consapevole e in qualche modo commisurata a quella che è la presenza abitativa e la presenza lavorativa e quindi che non ci sia per la produzione di reddito una come dire azione negativa nei confronti dell'ambiente che anche questo comunque è un patrimonio della comunità che abita su quel territorio e di conseguenza chiedo chiaro e tondo che vengano espunti tutti quei riferimenti che portano a dire che questo tipo di delibera non è una norma speciale per esima ma diventa una norma che la si può fare anche a Crevari piuttosto che al Monte Gazzo dove ci sono estensioni territoriali anche di più di 10 ettari di un unico proprietario perché lo so perché sono stato presidente di quel territorio e quindi so anche chi sono i proprietari o in Val Bisagno piuttosto che in Val Polcevara perché questo è eludere una norma europea che è stata acquisita anche dalla normativa nazionale e che è anche presa dentro al piano prodotto non da un pericoloso volcevico ma dal presidente Totti nel 2021 perché è di quest'anno del gennaio di quest'anno che il insieme delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile in cui queste cose sono chiarite e uno non può pretendere di fare una valutazione ambientale a pezzettini quando forse un giorno mi si presenterà perché la valutazione ambientale è strategica e non è una valutazione ambientale tattica che viene fatta sul singolo pezzettino altrimenti non si è capito bene per quale motivo la comunità europea ha dato queste indicazioni e diversi governi di sinistra o di centro-destra hanno tutti quanti accettato questo tipo di pianificazione io ho concluso l'illustrazione consigliera Lodi procederei se mi indicate e poi consigliere gli emendamenti che sono tutti similari quindi tanto il tempo serve appunto per presentarli parto dall'emendamento 101 perfetto allora diciamo che l'emendamento che sono raggruppati che abbiamo presentato che sono similari molto diversi nelle cifre ma molto simili che parlano appunto della proposta urbanistica relativa all'estensione alla superficie degli edifici per noi sono importanti perché perché mettono in campo di nuovo un po' il tema dei conflitti di interesse nel senso che il monitoraggio e l'attenzione perché la domanda fatta all'inizio poteva sembrare una domanda banale una domanda anche un po' faziosa come dire vogliono perdere tempo chiedono anche il conflitto di interesse eccetera ma ci sono due elementi che abbiamo provato a approfondire ma non ci siamo riusciti che sono un po' i rapporti sempre le commissioni tra pubblico e privato e purtroppo abbiamo già assistito diciamo in altre situazioni dove come dire il limite tra le consulenze gli aspetti diciamo della storia propria rispetto ad alcune pratiche come è stato detto con grande trasparenza che mi pare non si è stato diciamo negato che è quello che appunto riguarda il dirigente Luca Dolmette appunto che oggi a capo degli uffici dell'urbanistica con un ruolo assolutamente strategico che però aveva avuto con diciamo la moglie appunto del proprio studio rapporti e soprattutto si era occupato della variante urbanistica e fa un po' la coppia con un altro tipo di questione che devo dire secondo me anche l'assessore campo aveva posto in maniera molto corretta cioè dicendo mi pare leggendo sulla stampa che non aveva partecipato al voto alla delibera perché il suo studio e lo studio campano non tanto il studio ma l'insieme degli legali seguiva appunto il marchese allora questo potrebbe essere un problema nel senso che secondo noi è un problema perché quando ci sono stamattina eravamo a trattare una pratica come la piana Vallavicini sappiamo come l'assessore Rosso lo sa perché si è trovata per l'ennesima volta a seguire una pratica che era stata un po' rimbalzata e poi esistono dato perché la maggioranza degli avvocati di questa città sono all'interno di quest'aula o gli studi degli avvocati perché c'è una percentuale altissima di consigli comunali assessori avvocati spesso gli studi degli avvocati poi come dire si occupano di mille cose tra cui poi Genova è piccola quindi ci sono studi avvocati ma non sono tantissimi allora si rischia poi che davvero il limite tra il conflitto di interesse sia un limite davvero e per quello io mi sono rivolta alla segreteria generale perché il ruolo della segreteria generale è fondamentale spero che ci sia stato un monitoraggio anche rispetto ad eventuali ricorsi eccetera perché la delicatezza con cui anche un dirigente che sappiamo esistono due modalità di infatti con questi avendamenti riportiamo il tema dell'attenzione anche al solo numero che fa la differenza e al monitoraggio importante legale di questi diciamo aspetti sappiamo come i dirigenti oggi in comune hanno due percorsi come sempre regolarmente sono previsti e ci sono delle selezioni anche con rapporti diciamo di tipo più privatistico e non diciamo incardinato all'interno del comune che hanno una scadenza con una percentuale prevista dalla legge eccetera però nascono proprio e hanno proprio una natura di altro tipo quindi è importantissimo e delicatissimo quando si parla davvero di azioni così impattanti così importanti e soprattutto azioni che di riflesso possono coinvolgere vari interessi pubblici e privati di avere sempre comunque che noi siamo qua per tutelare l'interesse pubblico ed è l'interesse dei cittadini e delle cittadine è l'interesse della città è l'interesse pubblico non l'interesse dei privati l'interesse del privato viene appunto viene chiesto di essere tutelato quando ci sono degli aspetti diciamo legati alla gestione dell'amministrazione pubblica che lo possono ledere ma se invece partiamo da un punto di vista molto diverso ci sono dei legami e dei passaggi sia di tipo diciamo di rapporto con gli studi legali e sia di rapporto anche con chi si è occupato della pratica che sono sovrapposi e sovrapponibili certo nel momento in cui uno non partecipa al voto va bene per carità chiarisce però non è che chiarisce nel senso che non è che si partecipa o non partecipa al voto fa la differenza ma il rapporto anche tra virgolette confidenziale nel senso che si parla di cose in cui si deve essere tutti molto chiari molto lucidi molto posizionati sulla tutela degli interessi di chi stiamo tutelando allora è più facile quando gli interessi sono chiaramente e diciamo i compiti sono chiaramente definiti e chiari perché altrimenti si fa fatica nel senso che poi mi è capitato questo percorso di questi quattro anni e mezzo ormai quasi cinque e uno dice ah sì sì ma perché in questa pratica se ne è erogato Tizio Caio che sono appunto magari oggi consigli comunali o assessori è vero che poi uno dice ma se ne ero occupato in passato ma guardate è vero bisogna trattare uno dice però bisogna trattare con grande delicatezza perché abbiamo visto anche come la trattazione di temi come il finanziamento delle campagne elettorali eccetera siano profondamente delicati perché basta che ci sia un atto una delibera un'azione che venga approvata nel contempo in parallelo e in contemporanea ad rapporti che sono provisti anch'essi dalla legge però di tipo privato possono aprire la questione del conflitto di interesse quindi noi abbiamo presentato questi emendamenti che sono molti che sembrano quasi fazioni ma in realtà hanno un loro perché che è quello di dire occhio punto punto numero numero passo passo qualsiasi leggera differenza può fare invece una grande differenza e quindi anche su questi diciamo emendamenti noi richiamiamo a un'attenzione particolare da parte della segreteria generale perché è garante deve essere garante di operazioni che riguardano il pubblico e il privato che riguardano gli interessi come dicevamo pubblici e privati tenendo conto ripeto che l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quella di tutelare gli interessi dei cittadini e quindi come dire quando si fa e si parla di un'operazione di questo tipo è chiaro che si va a occupare un terreno molto delicato dove qui l'interesse privato non è evidente è evidentissimo ma è enorme è gigante è gigantesco rispetto a quello che può essere la conseguenza gigante gigantesca che ne avrà il territorio rispetto all'operazione questo guardate non ci saranno ore di aula che riusciranno a trattare fino in fondo quello di cui stiamo parlando oggi perché in questi casi bisognerebbe fare quei consigli monotematici che si facevano in un tempo dove si dava addirittura l'apertura alle audizioni in maniera straordinaria degli auditi perché per fortuna ci possono seguire da casa e o in aula persone rappresentanti esperti che avrebbero molto da dire e si sente sempre comunque l'esigenza di dire ma prima di approvare ascoltate una volta questo ascoltate ascoltate perché non si finisce mai di ascoltare allora la riproposizione dello stesso tema e la come dire anche la la cadenza di un di emendamenti riproposti con minime variazioni ci possono dire in questo caso occhio perché la superficie degli edifici che qui dice non essere superiore poi ho visto ho visto delibere e interventi molto particolari rispetto alle varianti al PUC come quelle delle commerciali che dice non può essere superiore a 600 metri quadrati una superficie di venta dice però poi no ma non sarà 600 metri quadrati ma allora non mettiamo 600 metri quadrati mettiamo 400 metri quadrati nel senso che quando uno dice non è potrà essere superiore ahimè sappiamo che uno va a conquistare occupare tutto lo spazio che gli ha poi gli ha dato allora se però riteniamo che in realtà siamo tutti attenti attentissimi vorremmo allora diciamo che e allora con questi emendamenti vi diamo una serie di possibilità di dire vabbè magari vi è sfuggito magari 200 non vi rendete conto che è tanto perché se parliamo di cose piccole eccetera già sono tantissime almeno riduciavano l'impatto e allora vi proponiamo una serie come dire di alternative che vanno da una diciamo da un 153 metri quadrati scaglionati fino a arrivare a 200 metri quadrati avete la possibilità della share avete la possibilità di ridurre di ripensare di modificare anche il riferimento a tutte le riflessioni che sono state fatte su questo tipo di operazione la complessità e l'estensione di queste casette e la diciamo molteplicità di queste casette ovviamente richiederebbe sicuramente una limitazione almeno dello spazio perché guardate che comunque se parliamo di 150 metri quadrati non si parla di poco e però già 200 metri quadrati appunto possono essere come superficie molto ampie poi è vero che purtroppo in questa situazione il numero delle casette è talmente tanto invasivo che almeno ridurne l'ampiezza ecco quindi su questo numero noi siamo assolutamente sempre molto critici e molto 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 preoccupati però con questi emendamenti appunto volevamo proporvi la possibilità di ridurre rivandando a un tema del conflitto di interessi che è fondamentale sia da un punto di vista giuridico e di tutela che deve essere sempre comunque mai cioè qualcuno dell'amministrazione comunale deve sempre avere l'occhio di tutelare chi rappresenta cioè i cittadini e le cittadine mai cioè qualcosa che può essere nato o può essere di cui ci siamo occupati magari nel passato che però si ripropone e guardate che la delicatezza e anche la trasparenza la lucidità con cui si possono vedere delle cose di cui non si è mai saputo ma con cui si può diciamo trattare in maniera chiara lucida e decisa è fondamentale soprattutto in pratiche di questo tipo perché già sono impattanti ed è importante che siano il più possibile trattate nella maniera dovuta grazie prego consigliere Terrile può continuare grazie per il tempo che rimane io illustrerò gli emendamenti che rimangono quelli che vanno dall'1 al 19 hanno come obiettivo quello di contenere le conseguenze nefaste almeno a vostro avviso nefaste di questa variante urbanistica e la prima dell'emendamento 1 chiede di abrogare il paragrafo 2 stiamo parlando sono tutti gli emendamenti che intervengono nella norma che sta da pagina 14 in avanti della relazione urbanistica quindi in fondo quindi la nuova norma che stanno inserita nel PUP e questo l'emendamento 1 propone di abrogare il paragrafo 2 a pagina 15 quando si fa l'elenco di come possono essere realizzate le residenze si dice da soggetti imprenditori agricoli professionali questo è il punto 1 e poi il punto 2 da soggetti privi dei requisiti di imprenditori agricoli noi chiediamo di abrogare questo secondo punto perché pensiamo che si debba tornare al principio per cui se è vero che si vuole difendere il presidio territoriale agricolo facciamoci abitare all'avesima imprenditori agricoli professionali quindi l'emendamento numero 1 toglie la residenza libera conseguentemente si legge alla fine dell'emendamento abrogare nel testo della proposta di delibera in ogni suo allegato ogni riferimento alla edilizia residenziale libera quindi torniamo alla edilizia residenziale legata alla qualità di imprenditore agricolo professionale l'emendamento numero 2 invece parla di dell'atterraggio dell'atterraggio delle singole villette chiamiamole villette tanto per capirci come noto c'è uno studio organico di insieme allegato alla proposta di delibera che individua 8 zone A, B, C, D E, F, G e H nelle quali saranno collocate queste villette allora la stessa regione in fase di valutazione ambientale mette in allarme dicendo sollevando le criticità dicendo guardate attenzione perché la quantità di metri quadri autorizzata rischia di far passare l'insediamento sparso che è caratterizzante la colina di Besi ma tanto è vero che appunto la zona di Besi ma è inserita in questa famosa ormai sigla famosa per noi che ci occupiamo di queste cose ormai da un po' di tempo cioè di Besi ma c'è ISMA CPA cioè ISMA la IS sta per insediamento sparso lo dico magari insediamento sparso se noi costruiamo tanti villetti in un insediamento sparso non c'è più l'insediamento sparso c'è l'insediamento diffuso si dice sono belle cose che io penso che siamo tutti accresciuti da questo studio di questa delibera però ci si arriva no? poche villette a insediamento sparso tante villette a insediamento diffuso e la regione dice guardate che non fatene troppe perché altrimenti non c'è più l'insediamento sparso ma c'è l'insediamento diffuso c'è un'altra cosa un'altra cosa e allora l'idea è che ci deve essere non solo un limite dimensionale delle villette 200 metri quadri con gli emendamenti che sono già stati illustrati prima noi proponiamo di diminuire i 200 metri quadri arrivare fino a 150 metri quadri per fare delle villette più piccole anche perché poi diciamo che l'agricoltore ha poi possibilità di costruire altri volumi oltre alle villette che sono i volumi che sono funzionali all'agricoltura su quello non c'è limite ma non c'è limite un limite molto molto elevato e peraltro per cui non c'era bisogno della variante perché il proprietario avrebbe potuto già oggi costruire decine di migliaia di metri quadri di edifici funzionali all'agricoltura ma non l'ha mai costruito perché non gli interessa costruire l'agricoltura gli interessa costruire villette ma questo chiudo apro o aperto e chiuso la parentesi e quindi si dice che non potranno essere più di due le villette per ciascuna delle otto porzioni di territorio e zone di alteraggio diventate nel soi noi abbiamo otto zone di alteraggio diciamo che ne costruiamo due villette per ogni zona insediamento spazio in ogni zona due villette in questo modo limitiamo a 16 le villette e questo dice sì per carità un grosso danno per il proprietario enorme però penso che sia un grosso invece vantaggio per l'ambiente e per i cittadini genovesi che non sono interessati diciamo a monetizzare la proprietà della vesica l'emendamento numero 3 e invece è sempre sulla falsa riga dell'emendamento numero 2 ma alza il livello cioè arriva fino a 3 l'emendamento numero 4 ritratto insieme invece arriva fino a 4 cioè al massimo 4 villette per ogni zona con l'emendamento 4 arriviamo a 32 villette che è più o meno quello che si deve costruire ma attenzione noi non siamo sicuri non siamo sicuri che nelle otto zone ci vadano 4 villette per attualmente cioè se non viene approvato l'emendamento numero 4 noi abbiamo le villette che saranno che nasceranno in queste otto zone ma non sappiamo e l'impressione è che saranno costruite più verso mare che verso monte cioè più sotto l'autostrada che sopra l'autostrada perché perché il mercato dice che sono più belle le case sul mare che quelle lontane dal mare e quindi visto che ovviamente lo ripetiamo l'agricoltura non c'entra niente con questa delibera ma è solo una speculazione edilizia di costruire villette vendere sul mercato e farci dei soldi allora è evidente che il proprietario spingerà per portare le villette sul mare perché le vende meglio le vende di più a più a più a più denari e quindi noi diciamo mettiamo un limite cioè nelle zone a mare mi sembra che siano 4 ora vado a là nelle zone a mare nelle zone di atterraggio a mare al massimo ne mettiamo 4 per 4 16 anzi poi se viene approvato l'emendamento 2 le mettiamo solo 8 che sarebbe ancora meglio ma ovviamente il consiglio da sovrano come ci ricorda sempre il consigliere Grigio l'emendamento numero 5 invece è una cosa un po' conservatrice un po' conservatrice me ne scuso però nella pagina 17 della relazione urbanistica si legge è ammesso l'uso di un linguaggio architettonico innovativo capace di rivisitare in chiave contemporanea gli elementi legati alla tradizione agricola allora un po' di paura cioè ma non tanto perché siamo contrari all'elemento all'uso di un linguaggio architettonico innovativo ma perché conosciamo il proprietario della zona che non è la prima volta che costruisce in città no perché lo dico perché il proprietario della Vesi ma non è uno che è arrivato ieri dalla luna e dice guardate ho sposato la green economy no è uno che in città ha costruito parecchio cioè andate a Molasana andate a Molasana perché poi il primo sindaco diceva cosa c'entra il consiglio di Villa di Molasana no il proprietario è proprietario di tanti altri terreni bontà sua diciamo li ha ricevuti in eredità li conserva quindi per carità ma ha già costruito ha già costruito e molto in città e la qualità del costruito soprattutto degli ultimi anni non è che sia granché lo dico perché non è che noi non abitiamo sulla luna neanche il signor Catena d'Oro viene dalla luna ma noi non ci abitiamo e l'abbiamo visto quello che ha costruito in giro per la città non è granché allora l'idea di dire che gli consentiamo di utilizzare anche il linguaggio architettonico innovativo dico ma forse abroghiamolo diciamo che deve costruire nel secondo linguaggio architettonico della zona che insomma può darsi che costerà un filo di più costruire non lo so perché non faccio quello di mestiere ma penso che rischiare sia pericoloso sia pericoloso conosciuto conoscendo il proponente la variante l'emendamento numero 6 e invece parla della dunque la pagina 16 della relazione urbanistica al punto per gli interventi di nuova costruzione residenziale libera sostituire le parole votazione standard minima premista per il 60% della superficie legibile con le parole nessuna cessione a un emendamento che forse un po' diverso ha già trattato consigliere Berlini cioè non si può cedere la superficie qua siamo all'emendamento 6 emendamento 7 allora l'emendamento 7 di nuovo un emendamento che ha delle conseguenze importanti se fosse approvato dopo le parole qui stiamo parlando di quanto si può costruire sappiamo abbiamo visto che la proposta del proprietario era una proposta più diciamo ancora generosa e poi la proposta di delibera parla di uno 0,01 metro quadro per metro quadro cioè per ogni 100 metri quadri di terreno il proprietario potrà costruire un metro quadro di villetta ok diciamo aggiungiamo ivi compresa la superficie di adibira residenza derivante dal recupero degli edifici di ruti cosa diciamo diciamo caro proprietario poi degli edifici di ruti cosa sono dei ruderi gli edifici di ruti perché poi in commissione ci siamo anche diciamo gli ho fatto una piccola discussione con il dottor Berio su che cosa sono gli edifici di ruti non voglio riaprire qui il tema ci sono pagine di consigli di stato che spiegano che cosa è il diruto se c'è il tetto non c'è il tetto se c'è bevuto dentro qual è la funzione però lo dice il proponente il proponente nella sua proposta dice che ci sono 2235 metri quadri di edifici di ruti che vuole adibire residenze e beh e beh dico io però quei 2235 li contiamo nei 6500 non è che gli diamo i 6500 nuovi e i 2235 esistenti perché se no alla fine finisce che non gli diamo 6500 metri quadri di nuove residenze gli diamo 9600 perché oltre a queste ovviamente non è colpa di nessuno di quelli che siamo qui ma la legge vigente prevede che sull'esistente non di ruto sull'esistente non di ruto sono 4800 metri quadri il proprietario avrà diritto di costruire di ampliare fino al 20% quindi noi sostanzialmente gli diamo 3570 metri quadri di nuove costruzioni 2235 di recupero degli edifici di ruti 960 metri di ampliamento arriviamo a quasi 10.000 metri arriviamo a quasi 10.000 metri quadri di nuove residenze allora l'elementamento dice stiamo al gioco stiamo al gioco ci vogliono le villette per far rinascere le fragole all'avesima sarà un attimo una volta che ci sono le villette vedrete che tripudio di ortaggi che ci sarà all'avesima ma almeno consideriamo gli edifici di ruti che diventano residenze nel calcolo se invece gli edifici di ruti ci vuole fare qualcosa altro bene perché gli edifici di ruti potrebbero essere i magazzini in cui metteremo gli ortaggi che nasceranno magicamente all'avesima dopo aver fatto le billette potrebbe essere anche una sfida a un certo punto stiamo al gioco ci vogliono le billette per far ritornare a coltivare l'avesima bene ci vorranno degli edifici diciamo di servizio gli edifici di servizio potrebbero essere erudere una parte di erudere potrebbe essere diciamo una trattativa interessante trattativa interessante che ho paura non si farà mai perché una volta che il proprietario avrà i volumi che avrà probabilmente da stasera quando sarà approvata la variante avrà il coltello dalla parte del manico ammesso che qualcuno lo voglia mai affrontare invece che dirgli prego si accomodi come gli stiamo dicendo e quindi credo che questa trattativa non ci sarà e avremo 10 mila metri quadri di nuove billette alla desima l'emendamento 8 invece parla della sì no sto tornando indietro ma sto facendo dal primo al 19 gli altri sono già stati fatti quindi non abbiate paura l'emendamento 8 parla invece della garanzia fidevissoria cioè si parla nella relazione urbanistica siamo a pagina 15 che la convenzione che dovrebbero firmare i nuovi cioè chi costruisce deve prevedere una serie di obblighi e poi prevede anche prevede anche conseguenze però le conseguenze quali possono essere un buon modo per obbligare qualcuno a fare qualcosa è chiedergli una garanzia in particolare una garanzia bancaria o fidevissoria per cui il comune se vede che questo si è preso l'obbligo di rifare i rivi non li ha fatti si è preso l'obbligo di manutenere la strada non l'ha fatto si è preso l'obbligo di coltivare non l'ha coltivato gli escutiamo la garanzia fidevissoria quindi gli prendiamo dei soldi e quindi aggiungiamo e la prestazione di garanzia fidevissoria bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore del comune valida per tutta la durata della convenzione dell'importo minimo del valore di mercato della nuova costruzione cioè la fidevissione deve avere un valore dell'imposto di mercato l'emendamento numero 9 abbassa un po' la fidevissione a metà del valore di mercato l'emendamento numero 10 a un terzo del valore di mercato il senso ovviamente è sempre lo stesso cioè ci vuole una garanzia personale una garanzia fidevissoria bancaria o assicurativa che permetta al comune di chiedere il rispetto degli obblighi e in caso negativo di escutere la fidevissoria l'emendamento numero 12 incide sempre sulla convenzione cioè sui contenuti della convenzione e questo credo ecco sull'emendamento numero 12 perdo qualche minuto ma è importante perché la vera ragione dello spopolamento della vesima non è che mancano le villette ecco non credo che non ci sia nessuno di quelli che sono andati via dall'avesima perché volevano costruire una villetta e il comune non gliela ha fatto costruire non c'è nessuno se me ne portate uno è ubriato probabilmente ma il vero problema è che mancano i servizi cioè mancano le fogne le case dell'avesima non sono collegate all'acquedotto c'è un problema di arrivo delle reti elettriche delle reti del gas non parliamo della rete internet mancano i servizi essenziali non so come chiamarli i servizi essenziali dell'abitazione e allora il tema è ma perché non possiamo non possiamo imporre nella convenzione di realizzare queste reti che serviranno le nuove case serviranno le nuove case ma gli poniamo l'obbligo di consentire l'allaccio degli edifici esistenti senza oneri di allaccio cioè in parole povere ci sono gli edifici esistenti il nuovo proprietario costruirà nelle otto zone A, B, C, D E, F, G e H le nuove billette e ci dovrà portare l'acqua la corrente elettrica la fogna e visto che intorno a questi A, B, C, D E, F, G, H c'è già qualcos'altro che magari non è proprietà del proprietario ma ci interessa poco prevediamo che ci sia la possibilità di allacciarsi a queste nuove reti acqua, fogne gas, luce senza oneri di allaccio cioè in modo tale che questa nuova speculazione edilizia almeno porti un servizio a chi c'è già a chi c'è già lì e che ha difficoltà perché non c'è l'acqua non c'è la luce non c'è o comunque ci sono difficoltà a portare le fogne ecco quindi questo potrebbe essere una un'idea diciamo per mitigare per compensare mettiamola così certo una compensazione molto molto limitata ma è meglio di niente l'emendamento 13 invece aggiunge sempre nella proposta di convenzione oltre alle prestazioni finalizzate a prestito dei terreni aggiungere parole secondo un piano particolareggiato delle culture e della redditività delle stesse perché anche qui come dire sono molto siamo molto scettici sul fatto che davvero ci possa essere un rilancio dell'agricoltura all'avesima attraverso le billette ma anche a voler credere per un momento a questa narrazione bisogna che ci venga dimostrata e come può essere dimostrata con l'allegazione alla convenzione di un piano agronomico che prevede appunto quali sono le culture che saranno coltivate e anche un piano industriale sostanzialmente che prevede la redditività delle stesse e anche per verificare per parte del comune il rispetto o non il rispetto perché se uno si obbliga solo a coltivare poi magari mette una pianta di basilico e mette due margherite ha coltivato non dovrebbe essere questo il tema dello sviluppo dell'agricoltura dell'avesima quindi obblighi precisi nella convenzione anzi sarebbe stato meglio diciamo la verità che la convenzione fosse stata parata già oggi in consiglio comunale perché la convenzione è una parte essenziale di questa pratica perché gli obblighi che sono imposti al costruttore al proprietario del costruttore sono essenziali rispetto al capire che cosa ci viene invece purtroppo non ce l'abbiamo abbiamo solo degli elementi molto vari e su quelli discutiamo l'emendamento numero 14 aggiunge tra gli obblighi del costruttore anche la messa a dimora di alberi verde ambientale secondo un piano agronomico e di presidio che individui tutti gli interventi necessari al recupero dell'intera area cioè in parte questo c'è in parte ma deve esserci un impegno nella convenzione molto chiaro rispetto al mantenimento del verde e alla messa a dimora di nuovi alberi l'emendamento numero 15 l'emendamento numero 15 invece fa un po' un colpo gobo perché a pagina 14 della relazione urbanistica chiede di eliminare la residenza dalle funzioni principali e rimetterla dove dovrebbe stare nelle funzioni complementari che così è un po' come il gioco dell'oca quando si arriva in fondo si dice no se ripartiamo dall'inizio che poi è il buon senso io non so davvero poi faremo magari un seminario con qualche urbanista per capire in quali altri paesi del mondo in quali altri paesi del mondo c'è la funzione residenziale come essenziale della zona agricola però diciamo questa sarebbe meglio riportarla alla funzione complementare l'emendamento numero 16 sempre riguardo alla relazione urbanistica dopo le parole l'individuazione degli ambiti di collocazione delle nuove volumetrie aggiunge e loro ancoraggiano il rispetto dell'insediamento sparso allora qui non si arriva a come negli emendamenti precedenti a numerare il numero di billette di atterraggi per zona ma si sottolinea nella norma che questo atterraggio deve deve condividere il tema dell'insediamento sparso così come l'emendamento 17 che aggiunge nel rispetto dell'insediamento sparso e e poi ci sono tutti gli emendamenti per riportare i numeri che abbiamo già visto che vogliono semplicemente ridurre ridurre il scusate allungare il termine della convenzione da 20 anni noi proponiamo fino a 99 ma poi ho visto che c'è un emendamento di maggioranza che dice da 20 a 30 è meglio di niente si propone infine di modificare la la dimensione di ogni singola villetta cioè da 200 metri quadri fino a abbassarla fino a 150 e con questo direi che ho terminato l'illustrazione degli emendamenti grazie consigliere Terrile veniamo allora agli emendamenti in coda prima dell'ultimo che è della consigliera Fontana alla lista Crivelli consiglieri Crivelli e Pignone 239 240 242 243 245 245 245 prego procediamo con lo stesso metodo precedente in virtù dei 241 243 non pertinenti io farò il 239 e il 243 e il 249 è dibattuto tra la minoranza e il direttore il direttore Berio e il tema appunto quello che è stato ripreso anche in più circostanze da chi mi ha preceduto ed è naturalmente il tema della convenzione le risposte in commissione per quanto ci riguarda sono state tutt'altro le chiesa o Stevenson peraltro è anche in questo circostanza anche questo tema è stato sottolineato direi con chiarezza e con forza da parte della soffria intendenza la risposta adesso scusate radicalizzo il concetto ma è stata chi vivrà vedrà visto che noi decidiamo oggi decidiamo sarebbe bello non decidere ma per i 20 noi pensiamo che si tratti di un ulteriore regalo e 20 anni per una comunità sono davvero molto poco pochi e rapidi insomma cosa succederà dopo i 20 anni insomma tra l'altro ricordiamo ricordavamo che i contadini in audizioni i rappresentanti avevano hanno fatto cenno a riferimento a una convenzione firmata senza nessun limite temporale ma hanno anche condiviso questo aspetto assumendosi le responsabilità lo fanno loro non si capisce perché non dovrebbe non dovremmo come dirlo imporlo al Marchese Cattaneo Adorno e allora noi prendiamo spunto abbiamo preso spunto da una decisione assunta dalla direzione urbanistica da questa giunta da questo da questo consiglio e facciamo riferimento all'adozione di aggiornamento per quanto riguarda la rimodulazione nell'ambito dell'ambito con disciplina urbanistica rotonda di Carignano dove si dice che per perseguire tal obiettivo ovviamente riferito al progetto conseguita la piena di sicurità dell'area l'amministrazione ha attivato una procedura pubblica per la valutazione attraverso la concessione in diritto di superficie per anni 90 e allora noi proponiamo al punto 2 secondo capoverso nella frase della convenzione dovrà avere durata almeno ventennale di sostituire la parola almeno ventennale con novantennale 243 l'ultimo per quanto mi riguarda è riferito a un tema che credo sia caro a tutti sicuramente a me in particolare che è riferito a il secondo capoverso laddove nelle premesse dopo rilevato ad esclusione delle aree percorse dal fuoco noi chiediamo che si aggiunga si impegna in ogni caso la proprietà nel rispetto delle leggi vigenti ad assicurare la riforestazione la manutenzione del territorio e dei rivi velocemente lo ricordo a me stesso a tutti noi ma abbiamo fatto in più di occasione anche quest'oggi che in molti casi in questa città e non solo si ha difficoltà a trovare i frontisti capita anche naturalmente che i frontisti poi abbiano ereditato abbiano difficoltà a trovare le risorse non mi pare che sia il caso di questo proprietario per quanto riguarda le risorse le normative li avrebbero imposto e li imporrebbero naturalmente per quanto riguarda i rivi di garantire una manutenzione adeguata così per quanto riguarda le frani i versanti di frana e perché in altre circostanze urbanizzazione selvaggia condizioni climatiche tutto contribuisce naturalmente a creare queste criticità ma in questo caso le criticità sono state create perché il proprietario non è intervenuto per questo per i rivi per la forestazione e per tutto il resto quindi questa è la proposta per tanto vado a chiudere con il 240 242 249 e 245 molto è stato detto ovviamente sia degli ordini del giorno e degli emendamenti precedenti per cui diciamo che quello che noi vogliamo mantenere è un filo logico legato poi all'uso del territorio come sviluppo agricolo nel emendamento 240 al terzo paragrafo nelle premesse dove si dice sviluppo agricolo delle aree rurali del territorio genovese aggiungere la frase viene assunto l'impegno di mantenere quelle esistenti in particolare nella realtà di Vesima nell'emendamento 242 proprio anche alla luce di quanto poi è stato esposto dai contadini della Vesima durante le audizioni il legame poi dalla destinazione agricola per dire per noi diventa strategico anche il discorso dell'effettiva produzione agricola pertanto nell'elenco allegati parte integrante degli aspetti idraulici al punto 2 secondo capoverso sostituire la frase la destinazione agricola del fondo asservito con effettiva produzione agricola del fondo asservito sono puntualizzazioni che mirano a migliorare perlomeno il senso di indirizzo diciamo anche della delibera stessa nell'emendamento 245 nella valutazione ambientale strategica nella fase di scoping rapporto preliminare al punto 2 nelle caratteristiche del piano e contenuti della variante nella riqualificazione del sistema agroambientale al quinto punto dove si dice integrazione del sistema infrastrutturale per assicurare l'accesso carrabile aggiungere alla fase attraverso strade bianche per noi questo diventa diciamo un contributo proprio per dare anche una caratterizzazione finalizzata all'essenza diciamo agricola e il mantenimento diciamo di un piano paesaggistico ambientale adeguato dire a quello che noi riteniamo essere una peculiarità di quel territorio e da preservare quanto possibile grazie grazie a lei consigliera Fontana l'ultimo emendamento 246 grazie presidente ma la variante urbanistica consentirà la riqualificazione di un territorio che ad oggi è abbandonato e si introducono degli indici di edificabilità che già oggi sarebbero presenti se la proprietà fosse frazionata e non appartenente ad un unico soggetto proprio perché siamo attenti al territorio e alla delegazione di Vesima che siamo assolutamente consapevoli avere tutte le potenzialità per diventare ancora più eccellenza paesaggistica ambientale del ponente genovese abbiamo previsto con questo emendamento che la convenzione patto unilaterale d'obbligo dovrà essere sottoscritta dai futuri acquirenti e relativa all'impegno della conduzione agricola dei terreni con una durata almeno trentennale inoltre a garanzia della qualità degli interventi in essere abbiamo previsto l'obbligo di avvalersi per la coltivazione dei fondi asserviti esclusivamente di imprenditori agricoli professionali come definiti dalla norma dalle norme generali del PUC grazie bene grazie consigliera Fontana anche a lei abbiamo terminato l'illustrazione di tutti i documenti e quindi ora chiedo cortesemente un po' di silenzio un po' di attenzione a tutti i consiglieri per evitare di ripetere i pareri allora partiamo dagli ordini del giorno sono trentasette non ci sono state dichiarazioni di inammissibilità preventive allora assessore Cenci allora se vuole partiamo dai primi tre del consigliere Grillo numero uno chiediamo e viene accolta vista la complessità del lavoro richiesto si chiede di poter avere più tempo e quindi di mettere alla gara aprile duemilaventidue vicepresidente Grillo ascoltato l'assessore Cenci accolgo la proposta grazie grazie consigliere Grillo ordine del giorno numero due ordine del giorno numero due accolta tre accolta parere favorevole assessore Cenci scusi parere favorevole allora andiamo avanti il consigliere Terrile dal 4 al 9 allora in merito al al 4 parere non favorevole 5 parere non favorevole 6 ah scusi no 5 parere favorevole scusi 5 favorevole lo dico io scusi presidente 6 non favorevole 7 7 non favorevole 8 favorevole 9 non favorevole 10 non favorevole 11 non favorevole 12 non favorevole 13 non favorevole 14 14 non favorevole 15 non favorevole 16 non favorevole 17 non favorevole 18 non favorevole 19 favorevole 20 non favorevole 21 non favorevole 22 non favorevole 23 non favorevole 24 non favorevole 25 non favorevole 26 non favorevole 27 non favorevole 28 non favorevole 29 non favorevole 30 non favorevole 31 non favorevole 32 non favorevole 33 non favorevole 34 non favorevole 35 non favorevole 36 non favorevole 37 non favorevole grazie assessore cenci allora allora prima dei pareri sugli emendamenti la segreteria generale mi chiede di intervenire per alcuni rilievi da regolamento prego dottor viso cortesemente un po di silenzio in aula sì grazie grazie ma per quanto riguarda il discorso degli emendamenti ci troviamo su una serie di emendamenti che contemplano un meccanismo di cifre a scalare o a scendere o a salire questo tipo di meccanismo è previsto nel nostro regolamento del consiglio che all'articolo 24,4 dice che in questi casi la votazione viene diciamo ridotta perché vengono messi in votazione l'emendamento che si allontana di più come numero dal testo della delibera l'emendamento più vicino e sei emendamenti diciamo in mezzo che abbiamo cercato di individuare in base a un criterio di di rapporto diciamo abbastanza proporzionale questo fenomeno oggi riguarda tre blocchi di emendamenti che sono primo gli emendamenti dal numero 18 al numero 97 che riguardano la durata della convenzione e quindi si applica a questo meccanismo per cui andiamo a votarne 8 poi il secondo blocco riguarda gli emendamenti relativi al limite della superficie agibile degli edifici residenziali e sono quelli che vanno dal 98 al 147 il terzo blocco riguarda quelli relativi alle superfici del territorio agricolo in questo caso dal numero 148 al numero 201 quindi su questi tre blocchi di emendamenti viene applicato questo meccanismo riduttivo aggiungo che qualora uno poi degli emendamenti venisse approvato quelli successivi sulla stessa materia non vengono più votati e quindi risultano assorbiti da quello approvato grazie grazie dottor Bisso quindi allora assessore Cenci chiedo cortesemente di rimanere lì per coadiuvarmi che è un meccanismo abbastanza complesso per le votazioni assessore Cenci partiamo quindi da 1 a 17 i primi 17 emendamenti quindi singolarmente emendamento numero 1 contrario può anche andare per blocchi eh se non ci sono poi rilievi e specifiche che possiamo affrontare mi dica magari va da blocchi e poi io da 1 a 17 sono tutti consiglieri terrile allora da 1 a 17 sì infatti appunto allora in realtà sono da 1 a 11 parere contrario il 12 chiedo che diventi un ordine del giorno aspetta allora sul 12 c'è una richiesta del consiglio del periodo di trasformazione in ODG e chiedo che ci sia una precisazione cioè la realizzazione di reti elettriche e telefoniche e delle condutture elettriche di gas sifoniarie a servizio anche degli edifici esistenti senza onere di allaccio con la precisazione che gli oneri di allaccio siano a carico di coloro che attivano interventi in base alla variante quindi trasformato in ODG con questa aggiunta chiedo agli uffici se è chiara se non la facciamo rileggere all'assessore Cenci l'assessore Cenci rilegga un attimo questo documento cioè la sua aggiunta con la precisazione che gli oneri di allaccio siano a carico di coloro che attivano interventi in base alla variante grazie vada pure avanti allora dalla tredici alla diciotto parere contrario dalla diciannove scusate allora integro col numero di quelli compresi nei tre blocchi in base al criterio che abbiamo dato prima allora primo blocco dal diciotto al novantasei comprende il diciotto il ventotto il quarantatré il diciotto ventotto quarantatré cinquantasei settantuno ottantaquattro e il novantasette l'ultimo ok allora assessore Cenci numero diciotto aveva già detto no numero ventotto il ventotto è un sì favorevole quarantatré mi lasciate acceso grazie è un contrario cinquantasei contrario settantuno settantuno contrario ottantaquattro contrario e novantasette contrario allora dottor Bisso il secondo blocco abbiamo novantotto il centocinque cento centododici centoventi centoventotto centoventotto centotrentasei centoquarantasette quarantatré scusate e centoquarantasette grazie allora assessore Cenci abbiamo detto ecco dal novantotto prego novantotto novantotto contrario centocinque contrario centododici contrario centoventi contrario centoventotto contrario centotrentasei contrario centoquarantatré contrario centoquarantasette contrario dottor Bisso abbiamo il centoquarantotto poi terzo blocco il centocinquantasei centosessantaquattro centosessantaquattro centosettantadue centottanta centottantotto centoottantotto centovantasei duecentouno grazie allora assessore Cenci partiamo dal centoquarantotto contrario contnario centocinquantasei contnario centosessantaquattro contnario centosettantadue contnario centottanta contnario centottantotto contnario 196 contrario 201 contrario e ora dal 202 al 246 vuole dire prima i favorevoli così facciamo prima allora se viene bene no facciamo uno per uno no no faccio dal 202 al 212 contrari il 213 necessita di una rettifica in quanto c'è un mero errore materiale e chiediamo di cancellare conseguente all'assenza di corrette politiche di uso bensì ma si mantiene solo la sostituzione della parola abbondo con abbandono errore mero errore di battitura quindi il parere sul 213 il 213 è sia tenendo solo la parola rifiuta quindi il parere è contrario assessore sì a questo punto è contrario davanti grazie dal 14 al 16 parere contrario 217 favorevole quanti? 18 19 e 20 contrario 223 223 favorevole 224 al 235 contrari 236 236 favorevole 236 favorevole 237 fino al 240 contrario 242 242 243 243 245 contrario 246 favorevole grazie in merito alla 246 mi preme dire che la giunta da mandato agli uffici di adeguare gli atti istruttori agli ammendamenti approvati grazie grazie assessore Cenci allora iniziamo la votazione degli ordini del giorno quindi vorrei in votazione i primi tre ordini del giorno con parere favorevole della giunta si vota consigliere Pirondini scusi non avevo visto che si era pregottato prego consigliere Pirondini sicuro prego volevo far notare quindi vediamo il fatto che sono quattro ore che siamo in aula e capire se ci sono le condizioni di sicurezza per poter proseguire o se forse bisognerebbe sospenderla a seduta e eventualmente sanificare l'aula e poi riprendere abbiamo già qualche d'uno che sia come dire addetto a questo tipo di intervento ci dica se in aula sono le condizioni per poter proseguire più ore rispetto alle quattro ore perché sui treni dopo quattro ore bisogna cambiare la mascherina voglio sapere se qua dentro invece è previsto che si possa proseguire senza nessuna preclusione o se c'è un regolamento che prevede abbiamo sì le rispondo io consigliere Pirondini abbiamo cambiato l'aria alle sei cosa che faremo ogni due ore analogamente a quanto avviene in regione aprendo le porte tenendo aperto il fronte sala in modo che l'aria possa in modo che possa entrare anche quel tipo di di area esterna l'impianto è collaudato non ci sono preclusioni ora per sospendere la seduta quindi andiamo avanti tranquillo sì ma a quelle a quelle mi richiamo allora dicevo possiamo io ho problemi qui sul pc ma direi che questo è lo nostro alle votazioni pongo in votazione i primi tre ordini del giorno con parere favorevole della giunta si vota ma 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La votazione è annullata. Consigliere Terrile, partiamo dall'ordine del giorno numero 1. Con parere favorevole della Giunta si vota. Grazie a tutti. Esito votazione. Allora, chiedo a Liguria Digitale di contattare il consigliere Cassiba che ha problemi col microfono. Esito votazione sull'ordine del giorno numero 1. 29 consiglieri presenti e 28 voti favorevoli, 1 contrario. Consigliere Affenente. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Favorevole. Consigliere Cassibba. Favorevole. Consigliere Costa. Grazie. Consigliere Costa. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Consigliere Grillo. Favorevole. Consigliere Grillo. Favorevole. Consigliere Mordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 37 voti favorevoli, 1 contrario. Consiglio Comunale approva l'ordine del giorno numero 1. Pongo in votazione ora il numero 2. Sempre con parere favorevole della Giunta. Si vota. Si vota. Si vota. Sì. Esito, esito votazione in presenza, 29 consiglieri presenti, 28 favorevoli, 1 contrario da remoto. Consigliere Avveniente. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Consigliere Brucoleri. Consigliere Cassibba. Consigliere Cassibba. Favorevole. 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 Consigliere Ferrero. Campanelle non l'ho sentito ma favorevole. Scusi, grazie, abbia pazienza, ha ragione. Consigliere Ferrero. Favorevole. Consigliere Grillo. Favorevole. Consigliere Mordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 37 voti favorevoli, 1 contrario. Pongo ora in votazione l'ordine del giorno numero 3 con parere favorevole della Giunta. si vota. Allora chiamo sull'ordine del giorno numero 3 tanto il voto da remoto. L'ordine del giorno numero 3. Consigliere Avvenente. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Favorevole. Consigliere Cassibba. Favorevole. Consigliere Costa. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Consigliere Grillo. Favorevole. Consigliere Mordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 37 voti favorevoli 1 contrario consiglio comunale approva pongo ora in votazione l'ordine del giorno numero 4 con parere contrario della giunta si vota allora acquisisco il voto da remoto sull'ordine del giorno numero 4 con parere contrario della giunta consigliere avvenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 14 voti favorevoli 21 contrari consiglio comunale respinge pongo ora in votazione l'ordine del giorno numero 5 con parere favorevole della giunta si vota iscriviti per la sua l'avere di la luce e quindi vi 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 Esito votazione in presenza, 30 presenti, 30 voti favorevoli da remoto. Consigliere Avvenente? Favorevole. Consigliere Abrucoleri? Favorevole. Consigliere Campanella? Sì. Consigliere Cassibba? Favorevole. Consigliere Costa? Favorevole. Consigliere Ferrero? Favorevole. Consigliere Grillo? Favorevole. Consigliere Mordino? Favorevole. Consigliere Attini? Favorevole. 29 voti favorevoli. Consiglio Comunale approva l'ordine del giorno numero 5. Passiamo all'ordine del giorno numero 6 con parere contrario della Giunta. Si vota. Allora, da remoto, sull'ordine del giorno numero 6 con parere contrario. Consigliere Avvenente? Favorevole. Consigliere Abrucoleri? Favorevole. Consigliere Campanella? Favorevole. Consigliere Cassibba? Favorevole. Consigliere Contrario. Consigliere Costa? Favorevole. Consigliere Ferrero? Contrario. Consigliere Grillo? Contrario. Consigliere Immordino? Favorevole. Consigliere Attini? Favorevole. 16 voti favorevoli, 23 contrari. Il Consiglio Comunale respinge. Pongo ora in votazione l'ordine del giorno numero 7 con parere contrario della Giunta. Si vota. Allora, da remoto, sull'ordine del giorno numero 7, consigliere Avvenente? Favorevole. Favorevole. Consigliere Brucoleri, per contesia, fatevi sentire. Consigliere Brucoleri. Favorevole, favorevole. Consigliere Campanella? Sì. Contrario. Consigliere Cassibba? Contrario. Consigliere Costa? Contrario. Consigliere Ferrero? Contrario. Consigliere Grillo? Contrario. consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 23 contrari il consiglio comunale respinge pongono in votazione l'ordine del giorno numero 8 con parere favorevole della giunta si vota remoto sull'ordine del giorno numero 8 parere favorevole consigliere avvenente favorevole scusatemi consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella favorevole consigliere Cassibba favorevole consigliere Costa favorevole consigliere Ferrero favorevole consigliere Grillo favorevole consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 39 voti favorevoli il consiglio comunale approva ordine del giorno numero 10 in votazione parere contrario della giunta si vota usate il 9 ho detto il 9 in votazione il 9 parere contrario da remoto sull'ordine del giorno numero 9 con parere contrario consigliere avvenente favorevole consigliere avvenente consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevole la contrario e 23 col consigliere Campanella contrario il consiglio comunale respinge in votazione il numero 10 con parere contrario della giunta si vota da remoto sull'ordine del giorno 10 parere della giunta è contrario consigliere avvenente volevole consigliere Brucoleri volevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 contrari 16 favorevoli 23 contrari il consiglio comunale respinge il numero 10 pongo ora in votazione numero 11 con parere contrario della giunta si vota da remoto ordine del giorno numero 11 favorevole il parere della giunta è contrario favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 22 contrari il consiglio comunale respinge il numero 17 chiedo scusa favorevoli 22 contrari 16 favorevoli 22 contrari consigliere comunale respinge l'11 pongo ora in votazione il numero 12 parere della giunta è contrario si vota si vota si vota si vota ordine del giorno numero 12 parere contrario della giunta da remoto consigliere avverevole signore consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella no consigliere Campanella contrario consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario ieri Immordino consigliere Atsini 16 voti favorevoli 21 contrari il consiglio comunale respinge il numero 12 pongo in votazione il numero 13 il parere sempre contrario della giunta numero 13 si vota sul numero 13 il parere della giunta è contrario da remoto consigliere avvenente vorrevole consigliera brucoleri favorevole consigliere campanella contrario consigliere cassiba contrario consigliere costa contrario consigliere ferrero contrario consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Mordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 15 voti favorevoli, 23 contrari. Il Consiglio respinge il numero 13. Pongo ora in votazione il numero 14 con parere contrario della Giunta. Si vota. Da remoto sul numero 14 con parere della Giunta contrario. Consigliere Avvenenti. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Mordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 15 voti favorevoli, 23 contrari. Il Consiglio comunale respinge il numero 14. Pongo ora in votazione il numero 15 con parere contrario della Giunta. Si vota. Si vota. Da remoto sul numero 15. Consigliere Avvenente. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Mordino. Favorevole. Consigliere Attini. Contrario. Consigliere Attini. Favorevole. 15 voti favorevoli, 22 contrari. Sul documento numero 15. Il Consiglio respinge. Pongo ora in votazione il numero 16 con parere contrario della Giunta. Si vota da remoto sul numero 16. Consigliere Avvenente. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 15 favorevoli, 23 contrari. Il Consiglio Comunale respinge il numero 16. Pongo ora in votazione il 17. Parere della Giunta è contrario. Si vota da remoto sul 17. Consigliere Avvenente. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Io. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 15 voti favorevoli, 23 contrari. Il Consiglio Comunale respinge il numero 17. Pongo ora in votazione il numero 18. Parere contrario della Giunta. si vota da remoto sul 18. Parere giunta contrario. Favorevole Avvenente. Brucoleri. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Contrario. 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 Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 15 voti favorevoli, 24 contrari. Il Consiglio Comunale respinge. Pongo ora in votazione il numero 19. Parere favorevole della Giunta. Si vota favorevole giunta. Consigliere Avvenente. Favorevole. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Favorevole. Consigliere Campanella. Scusi, il documento 19. Scusate. Consigliere Campanella favorevole, ho capito bene? Consigliere Cassibba. Favorevole. Consigliere Costa. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Consigliere Grillo. Favorevole. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 38 voti favorevoli. Consiglio Comunale approva. Pongo ora in votazione l'ordine del giorno numero 20. Parere della Giunta è contrario. Si vota. La remoto sul numero... Favorevole. Grazie. Consigliere Avenente e consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Consigliere Costa. Cassibba, scusate. Consigliere Cassibba. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli, 22 contrari. Consiglio Comunale respinge il numero 20. Pongo ora in votazione il numero 21. Parere della Giunta è contrario. Da remoto sul 21. Consigliere Avenente. Parere Giunta è contrario. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Favorevole consigliere Attini. Esito votazione sul 21. 15 favorevoli, 22 contrari. Consiglio Comunale respinge. In votazione ora l'Odg numero 22. Il parere della Giunta è contrario. Si vota. Da remoto sul 22. Il parere è contrario. Dalla Giunta è consigliere Avenente. Favorevole. Grazie consigliere Avenente. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Consigliere Grillo. Contrario. Grazie. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli. 21. Contrario. Il Consiglio Comunale respinge il 22. Pongo ora in votazione l'Ordine del Giorno numero 23. Con parere contrario della Giunta. Si vota da remoto sul 23. Parere giunta contrario. Consigliere Avenente. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Consigliere Costa. Cassibba. Credo scusa. Consigliere Cassibba. Costa contrario. Consigliere Cassibba. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Esito sul 23. 15 voti favorevoli. 21. Contrari. Il Consiglio Comunale respinge. Pongo ora in votazione l'Ordine del Giorno numero 24. Con parere contrario della Giunta. si vota da remoto sul 24. Consigliere Avenente. Parere giunta. Favorevole. Favorevole. Consigliere Avenente. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli. 23 contrari. Il Consiglio Comunale respinge il 24. Pongo ora in votazione il numero 25. Parere della Giunta è contrario. Si vota da remoto sul numero 25. Parere giunta. Favorevole. Consigliere Avenente. Favorevole. Grazie. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli. 23 contrari. Il Consiglio Comunale respinge. Pongo ora in votazione il documento numero 26. Parere della Giunta è contrario. Si vota. Da remoto sul numero 26. Consigliere Avenente. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Avogliato. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli. 21 contrari. Il Consiglio Comunale respinge il numero 26. Pongo ora in votazione il numero 27. Il parere della Giunta è contrario. Numero 27. Si vota. Da remoto sul numero 27. Parere Giunta contrario. Consigliere Avenente. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. No. Contrario. Consigliere Campanella. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Consigliere Attini. Favorevole. Esito favorevole. Grazie. Esito votazione sul 27. 16 favorevoli. 23 contrari. Il Consiglio Comunale respinge. Pongo dunque in votazione il numero 28. Ordine del giorno. Parere giunta contrario. Si vota. Da remoto sul numero 28. Parere giunta contrario. Grazie. Consigliere Avenente. Consigliere Brucoleri. Consigliere Campanella. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Esito votazione. 16 voti favorevoli. 23 contrari. Il Consiglio Comunale respinge il numero 28. Pongo ora in votazione il numero 29. Parere della giunta è contrario. Si vota. Vieni tu puli. E vieni dai. Vieni qua su. Da remoto sul 29. Consigliere Avenente. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Io. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Mordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli. 23 contrari. Il Consiglio Comunale respinge. Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 30. Parere della giunta. Contrario. Esito votazione. Allora da remoto scusate sul numero 30. Consigliere Avenente. Vorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Consigliere Campanella. Contrario. Grazie. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Esito votazione sul numero 30. 16 voti favorevoli. 21 contrari. Consiglio Comunale respinge. Pongo in votazione il numero 31. Il parere della giunta è contrario. Si vota da remoto sul numero 31. Parere giunta. Vorevole. Grazie. Consigliere Avenente. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Vorevole. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Imordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 15 voti favorevoli. 22 contrari. Il Consiglio Comunale respinge il numero 31. Pongo ora in votazione il numero 32. Il parere della giunta è contrario. Da remoto sul numero 31. 32 chiedo scusa. Consigliere Avenente. Parere giunta. Contrario. 32. Vorevole. Consigliere Brucoleri. Vorevole. Consigliere Campanella. Sì. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. 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 Contrario. Consigliere Imordino. Favorevole. Consigliere Attini. Contrario. Esito votazione sul numero 32. 16 favorevoli. 22 contrari. Il Consiglio Comunale respinge. Pongo ora in votazione il numero 33. Parere della giunta è contrario. Si vota. Da remoto sul 33. Consigliere Avenente. Consigliere Avenente. Numero 33. Grazie. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Sì. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Imordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Esito votazione sul numero 33. 16 favorevoli. 22 contrari. Il Consiglio Comunale respinge. Pongo ora in votazione il numero 34. Parere della Giunta. Contrario. Si vota. Da remoto sul 34. Consigliere Avenente. Vorevole. Grazie. Consigliere Avenente. Consigliere Brucoleri. Vorevole. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Imordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Esito a votazione sul numero 34. 15 favorevoli. 22 contrari. Il Consiglio Comunale respinge. Vado a porre ora in votazione il numero 35. il parere della giunta è contrario. Si vota. Da remoto sul 35. Consigliere Avenente. Consigliere Brucoleri. Vorevole. Consigliere Campanella. Vado. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 15 voti favorevoli. 22 contrari. L'ordine del giorno numero 35 è respinto. Pongo ora in votazione il numero 36. Il parere della giunta è contrario. Si vota. Da remoto sul 36. Favorevole. Grazie. Consigliere Avenente. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Pio. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli. 23 contrari. Il Consiglio Comunale respinge il numero 36. Pongo ora in votazione il numero 37. Il parere della giunta è contrario. Contrario. Da remoto sul numero 37. Favorevole. Grazie consigliere Avenente. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 15 voti favorevoli. 23 contrari. Il Consiglio Comunale respinge il numero 37. Votiamo ora colleghi l'emendamento numero 28 trasformato in ordine del giorno del Partito Democratico. era il 28, chiedo conforto anche alla segretaria generale, che numero era, quello trasformato in ordine del giorno. Scusate, scusate, sono andata a memoria, mi sono fidato della mia memoria. Scusate, l'emendamento numero 12 diventa ordine del giorno, diventa numero 38, quindi in coda, parere della giunta era favorevole nella versione emendata. Si vota, si vota, parere favorevole. Da remoto, quindi, sull'ordine del giorno numero 38. Favorevole. Consigliere Avenente, favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Favorevole, consigliere Campanella. Non ho sentito. Favorevole. Grazie, consigliere Cassibba. Favorevole. Consigliere Costa. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Consigliere Grillo. Favorevole. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 39 voti favorevoli. Consiglio Comunale approva l'ordine del giorno numero 38. Allora, abbiamo terminato gli ordini del giorno. Iniziamo con gli emendamenti. Allora, c'è la possibilità di votare dall'1 all'11 insieme? No, consigliere Terrile? Allora, pongo in votazione. Scusate. Scusate. Il numero 1. Emendamento 1. Parere della Giunta. Contrario. Si vota. Da remoto. Consigliere Abbele. Emendamento 1. Grazie. Consigliere Brucoleri. Consigliere Campanella. Consigliere Cassiba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Esito votazione sul numero 1. 16 favorevoli. 23 contrari. Consiglio Comunale. Prespinge. Pongo ora in votazione il numero 2. Parere della Giunta. E contrario. Si vota. Da remoto sul numero 2. Consigliere Avenente. Grazie. Consigliere Avenente. Consigliere Brucoleri. Prevole. Consigliere Campanella. Arrivo. Consigliere Cassiba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli. 22 contrari. Il Consiglio Comunale. Respinge. Pongo ora in votazione il numero 3. Con parere contrario della Giunta. Si vota. Numero 3. Da remoto sul numero 3. Consigliere Avenente. Vorevole. Consigliere Brucoleri. Vorevole. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassiba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli. 22 contrari. Il Consiglio Comunale. Respinge il numero 3. Pongo ora in votazione il numero 4. un parere della Giunta. È contrario. Da remoto. Consigliere Avenente. Sul numero 4. Favorevole. Favorevole. Favorevole consigliere Avenente. Brucoleri. Consigliere. Favorevole. Consigliere Campanella. Arrivo. Consigliere Cassiba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli. 22. Contrario. Il Consiglio Comunale respinge. Pongo ora in votazione il numero 5. Il parere della Giunta è contrario. Si vota da remoto sul numero 5. Consigliere Avenente. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassiba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli. 21. Contrario. Il Consiglio Comunale respinge il numero 5. Pongo in votazione ora il numero 6. Il parere della Giunta è contrario. Si vota da remoto sul numero 6. Grazie. Consigliere Avenente. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassiba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Consigliere Grillo. Contrario. Grazie. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli, 20 contrari. Pongo ora in votazione il numero 7. Parere della Giunta è contrario. numero 7 si vota. Favorevole. Consigliere Avenente sul numero 7. Favorevole. Grazie. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassiba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli, 21 contrari. Sul numero 7 il Consiglio Comunale respinge. Pongo ora in votazione il numero 8. Il parere della Giunta è contrario. Si vota. Da remoto. Numero 8. Consigliere Avenente. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Consigliere Campanella. Consigliere Campanella. Primo. Consigliere Cassiba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Esito votazione sul numero 8. 15 voti favorevoli, 23 contrari. Consiglio Comunale respinge. Pongo ora in votazione il numero 9. Parere della Giunta è contrario. Si vota. Da remoto consigliere avvenente sul numero 9. Grazie consigliere Brucoleri. Favorevole consigliere Brucoleri. Sentiamo molto poco. Favorevole sì. Grazie consigliere Campanella. Arrivo. Consigliere Cassiba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Grazie. Favorevole. 20 contrari sul numero 9. Pongo ora in votazione l'emendamento numero 10. Parere della Giunta è contrario. Si vota. Allora chiedo scusa, un po' di silenzio in aula per favore. Che così procediamo con le votazioni perché se no gli uffici non riescono. Grazie a tutti per la collaborazione. Siamo al numero 10. Da remoto. Parere della Giunta è contrario. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. No. Contrario. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. Favorevole. 16 voti favorevoli, 23 contrario. Il Consiglio Comunale respinge il numero 10. Pongo ora in votazione il numero 11. Il parere della Giunta è contrario. Si vota da remoto sul numero 11. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Contrario. Consigliere Cassiba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Imordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli 23 contrari il consiglio respinge il numero 11 pongo ora in votazione il numero 13 perché il 12 è stato trasformato in ODG numero 13 parere della giunta contrario si vota numero 13 da remoto numero 13 consigliera Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 22 contrari il consiglio comunale respinge il numero 13 pongo ora in votazione l'emendamento numero 14 parere giunta contrario si vota da remoto vorrevole grazie consigliere Avenente consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 22 contrario il consiglio respinge il numero 14 pongo ora in votazione il numero 15 il parere della giunta è contrario si vota da remoto sul numero favorevole 15 favorevole il consigliere avvenente consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Campanella sul numero 15 consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario non funzionava l'audio contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 22 contrari consigliere il consiglio comunale respinge il numero 15 pongo ora in votazione il numero 16 parere giunta contrario si vota da remoto sul numero 16 grazie consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 14 voti favorevoli 20 contrari il consiglio comunale respinge pongo ora in votazione il numero 17 parere della giunta è contrario si vota da remoto sul numero 17 favorevole grazie consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario contrario consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole grazie 15 voti favorevoli 22 contrario il consiglio respinge il numero 17 pongo ora in votazione il numero 18 il numero 18 la norma è la allora i sensi di articolo 24 comma 4 regolamento consiglio comunale il primo dei tre blocchi su cui si espressa la segreteria generale va votato a ritroso se mi passate il termine quindi pongo ora in votazione il numero 97 con parere della giunta contrario emendamento numero 97 si vota grazie Grazie a tutti. Consigliere Brucoleri. Favorevole. Consigliere Campanella. Sì. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Attini. Favorevole. 16 voti favorevoli. 22 contrari. Consiglio respinge. No, no, no. È già quella pronta nuova. Gli errori li faccio io qui. Voi no. Per cortesia. Allora. Andiamo all'emendamento numero 84. Parere della Giunta è contrario. che io... Scusate. Ah no, dobbiamo andare a... Sì. Ho capito. Ora ho capito il meccanismo. Scusate. No, dobbiamo fare il 28. Il 18 l'abbiamo buttato. Allora. Ah, perché mi avete cambiato... No, no, comando io qua, signor Sindaco. Un attimo. Va in votazione l'84. Avevo... Avevo ragione io. Come... Avevo ragione io. Questo... Così rimane. Rimane. Per cortesia, però, per cortesia. Allora, anche perché da remoto non capiscono nulla. Sì. Abbiamo buttato l'84. Devo prendere il voto da remoto dell'84. E aggiungo il consigliere Villa. Così, con un po' d'ordine, procediamo. Quindi. Villa che è favorevole. E Fontana, anche? Grazie, consigliera. Allora, da remoto, emendamento 84. Volevole. Grazie, consigliere Avenente. Consigliera Brucoleri. Volevole. Consigliere Campanella. Volevole. Consigliere Cassibba. Volevole. Consigliere Costa. Consigliere Costa. Consigliere Costa. Consigliere Ferreiro. Contrario. Contrario. Grazie, consigliere Costa. Consigliere Villo. Contrario. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Tini. Quattordici voti favorevoli, diciannove contrari, il Consiglio respinge l'emendamento 84. Pongo ora in votazione l'emendamento numero 71, parere della Giunta, contrario. Si vota. Da remoto, su 71, consigliere Avenente. Volevole. Consigliere Brucoleri. Volevole. Consigliere Campanella. Consigliere Campanella. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Presidente Campanella, contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Consigliere Immordino. Consigliere Attini. Favorevole. Grazie. Quattordici voti favorevoli, ventitré contrari. Consiglio Comunale respinge l'emendamento 71. Abbiamo ora in votazione il numero 56. Parere della Giunta è contrario. Si vota. Da remoto, sul numero 56, consigliere Avvenente. Volevole. Consigliere Brucoleri. Consigliere Campanella. Pio. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Consigliere Attini. Favorevole. Quindici voti favorevoli, venti contrari. Consiglio Comunale respinge il numero 56. 43. Pongo in votazione il numero 43. Parere della Giunta è contrario. Si vota. Da remoto, sul 43, consigliere Avvenente. Volevole. Consigliere Brucoleri. Volevole. Consigliere Campanella. Volevole. Consigliere Cassibba. Contrario. Consigliere Costa. Contrario. Consigliere Ferrero. Contrario. Consigliere Grillo. Contrario. Consigliere Immordino. Consigliere Attini. Favorevole. Quindici voti favorevoli, ventiun contrari. Sul numero 43, il Consiglio Comunale respinge. Pongo ora in votazione il numero 28. 28, il parere della Giunta è favorevole. Quindi in votazione il numero 28. Parere favorevole. Si vota. Da remoto, sul 28. Volevole. Grazie. Consigliere Abrucoleri. Consigliere Abrucoleri, se riesce a rispondere in maniera un po' più forte, ci fa una cortesia. Grazie. Consigliere Campanella. Consigliere Cassiba. Favorevole. Consigliere Costa. Grazie. Consigliere Campanella. Consigliere Costa. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Consigliere Grillo. Favorevole. Consigliere Immordino. Consigliere Attini. Favorevole. quindi sull'emendamento 28 favorevoli 34 favorevoli 2 contrari Consiglio Comunale approva secondo blocco che va dal vedo anche qui conforto la Segreteria Generale dal 98 al 147 partiamo dal 147 che viene posto quindi in votazione con parere contrario della Giunta numero 147 si vota da remoto su 147 grazie consigliera Brucoleri consigliere Campanella consigliere Cassibba consigliere Costa consigliere Ferrero consigliere Grillo consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole quindi sul 147 16 favorevoli 23 contrari il Consiglio Comunale respinge pongo ora in votazione il 143 parere della Giunta è contrario si vota da remoto sul 143 grazie consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 23 contrari il Consiglio Comunale respinge il numero 143 pongo ora in votazione il numero 136 parere della Giunta è contrario contrario si vota da remoto favorevole sul 136 consigliere Avenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 23 contrari il Consiglio Comunale respinge il numero 136 votazione ora il numero 128 parere della Giunta è contrario si vota da remoto da remoto sul centro grazie consigliere Avenente consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 23 contrari il Consiglio Comunale respinge in votazione ora il numero 120 parere della Giunta contrario si vota numero 120 la remoto su 120 consigliere Avenente consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli voti 3 contrari il Consiglio Comunale respinge in votazione ora il numero 112 parere della Giunta è contrario si vota numero 112 da remoto sul 112 consigliere Avenente consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 22 contrari il Consiglio Comunale respinge in votazione ora il numero 105 parere della Giunta è contrario si vota da remoto sul 105 favorevole consigliere Avenente favorevole consigliere Brucoleri consigliere contrario consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole consigliere Attini favorevole la sentiamo favorevole consigliere Attini si favorevole ecco la sentiamo molto lontana ora prima era più accesa più squillante 15 voti favorevoli 23 16 scusate voti favorevoli 23 contrari sul 105 il Consiglio respinge andando a ritroso è il momento dell'emendamento numero 98 e viene posto in votazione con parere contrario della giunta si vota 98 da remoto sul 98 consigliere Brucoleri favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere contrario consigliere Cassiba contrario consigliere Costa consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Imordino favorevole consigliere Attini aggiungiamo consigliere Villa favorevole favorevole consigliere Attini favorevole grazie 15 voti favorevoli 22 voti contrari il consiglio comunale respinge il 98 ora abbiamo il blocco per intenderci terzo che va dal 148 al 201 si parte dal 201 sul 201 il parere della giunta è contrario viene posto in votazione 201 si vota allora da remoto sul 201 consigliere avvenente vorrevole consigliere Brucoleri vorrevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassiba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Imordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 23 contrario il consiglio comunale respinge il 201 in votazione ora il 196 parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 196 consigliere consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassiba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero consigliere Ferrero consigliere Grillo contrario consigliere Imordino favorevole consigliere Attini favorevole 13 voti favorevoli 23 contrari sul 196 in votazione ora il 188 parere della giunta è contrario numero 188 si vota da remoto sul 188 consigliere Avvenente favorevole consigliere Brucoleri 188 consigliere Campanella contrario consigliere Cassiba consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Imordino favorevole consigliere Attini favorevole 14 voti favorevoli 22 contrari il consiglio comunale respinge andiamo in votazione sul numero 180 parere della giunta è contrario numero 180 si vota da remoto sul 100 favorevole grazie consigliere Avvenente consigliere Brucoleri 180 favorevole consigliere Campanella consigliere Cassiba consigliere Costa contrario consigliere Ferrero consigliere Ferrero consigliere Grillo contrario consigliere Imordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 23 contrario il consiglio comunale respinge in votazione in votazione ora il documento numero 172 parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 172 consigliere Avvenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassiba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Imordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 23 contrario il consiglio comunale respinge il numero 172 in votazione ora l'emendamento numero 164 parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 164 consigliere Avvenente vorrevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassiba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Imordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 23 contrari il consiglio comunale respinge 22 usate i voti 22 voti contrari il consiglio comunale respinge il numero 164 in votazione ora l'emendamento numero 156 parere della giunta è contrario si vota da remoto su 156 consigliere Avvenente consigliere Avvenente consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Imordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 22 contrari in votazione ora il numero 148 il parere della giunta è contrario si vota da remoto sul documento numero 148 grazie consigliere Brucoleri consigliere Campanella consigliere Cassipa consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Imordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 22 contrario il consiglio comunale respinge il numero 148 allora ordine del giorno numero 202 parere della giunta è contrario 202 si vota parere contrario da remoto sul 202 consigliere Avvenente vorrevole consigliere Brucoleri consigliere Campanella contrario consigliere Cassiba consigliere Cassiba consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 21 contrario il consiglio comunale respinge in votazione ora l'emendamento numero 203 parere della giunta è contrario si vota da remoto consigliere Avvenente vorrevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella no consigliere Cassiba consigliere Cassiba consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 22 contrari sull'emendamento numero 203 pongo ora in votazione 21 21 favorevoli pongo ora in votazione allora consigliere Villa quindi ricapitolando sul 203 sono 16 a a 21 emendamento numero 204 parere della giunta contrario si vota da remoto sul 204 consigliere Avenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassiba consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole presidente Cassiba contrario grazie contrario quindi ho problemi di connessione favorevoli 22 contrari pongo ora in votazione il numero 205 il parere della giunta è contrario si vota da remoto su 205 consigliere Avenente consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere contrario Cassiba grazie consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario 5 205 grazie consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 22 contrario consiglio primale respingio 205 pongo in votazione l'emendamento 206 parere della giunta è contrario si vota da remoto su 206 consigliere Avenente consigliere Brucoleri consigliere Campanella contrario consigliere Cassiba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole la consigliere Attini 14 voti contrari 22 favorevoli il consiglio comunale respinge il 206 206 pongo ora in votazione il numero 207 parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 207 consigliere Avenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 22 contrari consiglio comunale respinge il 207 pongo ora in votazione il numero 208 il parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 200 favorevole grazie consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 21 contrari consiglio comunale respinge pongo ora in votazione il numero 209 parere della giunta è contrario si vota da remoto da remoto sul numero 209 grazie consigliere Brucoleri consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 14 voti favorevoli 23 contrari consigliere comunale respinge 209 pongo ora in votazione il numero il numero 210 parere della giunta è contrario si vota numero 210 da remoto 210 consigliere consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 23 contrari consigliere comunale respinge pongo ora in votazione il numero 211 parere della giunta è contrario si vota da remoto su 211 consigliere Avenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere in Mordino consigliere Attini favorevole 16 22 si aggiunge il consigliere Remuzzi 22 contrari 16 favorevoli su 211 pongo ora in votazione emendamento numero 212 parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 212 consigliere Brucoleri consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino prevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 22 contrario il consiglio comunale respinge in votazione va ora l'emendamento numero 213 parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 213 consigliere Avenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassibba consigliere Costa consigliere Ferrero consigliere Grillo consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 22 contrario il consiglio comunale respinge in votazione ora l'emendamento numero 214 parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 214 consigliere Avenente prevole consigliere Brucoleri consigliere Campanella consigliere Campanella consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino cuorevole consigliere Trattini favorevole 16 voti favorevoli 21 contrari consigliere consigliere comunale respinge pongo ora in votazione l'emendamento numero 215 parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 215 consigliere Avenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella io consigliere Cassibba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 22 contrari sul 215 il consiglio respinge pongo ora in votazione il 215 grazie allora in votazione l'emendamento 216 con parere negativo della giunta si vota numero 216 da remoto su 216 consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassiba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo consigliere Grillo consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 21 contrari il consiglio comunale respinge il numero 216 in votazione ora l'emendamento 217 parere della giunta è favorevole favorevole 217 da remoto sul 217 consigliera venente consigliera brucoleri consigliere campanella consigliere cassibba favorevole consigliere costa favorevole consigliere ferrero favorevole consigliere grillo consigliere in mordino favorevole consigliere consigliera tini favorevole 35 voti favorevoli il consiglio comunale approva in votazione ora il numero 218 con parere contrario della giunta si vota il 218 dare moto sul 218 consigliere avvenente vorrevole consigliera brucoleri favorevole consigliere campanella contrario consigliere cassiba contrario consigliere costa contrario consigliere ferrero contrario consigliere grillo consigliere imordino favorevole consigliere attini favorevole consigliere remuzzi favorevole scusi il contrario l'ha detto il presidente non va contrari 21 favorevoli 16 favorevoli 21 contrari su 218 in votazione il 219 parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 219 consigliere avvenente volevole consigliere brucoleri consigliere campanella consigliere cassiba consigliere costa contrario consigliere ferrero contrario consigliere grillo consigliere mordino consigliere attini si favorevole consigliere attini 16 favorevoli 20 contrari su 219 il consigliere spinge in votazione ora il numero 220 emendamento 220 parere della giunta contrario si vota allora da remoto sul 220 consigliere avvenente favorevole consigliere brucoleri favorevole consigliere campanella consigliere cassiba contrario consigliere costa contrario consigliere ferrero consigliere grillo consigliere imordino favorevole consigliere attini 16 voti favorevoli 20 contrari sull'emendamento 220 221 e 22 sono inammissibili proseguiamo con il 223 il parere della giunta è favorevole sul 223 si vota il 223 favorevole il parere della giunta sul 223 da remoto consigliere avvenente favorevole consigliere brucoleri favorevole consigliere campanella consigliere cassiba favorevole consigliere costa favorevole consigliere ferrero favorevole consigliere grillo favorevole mordino favorevole grillo consigliere mordino favorevole consigliera tini favorevole 39 voti favorevoli consiglio comunale approva 224 parere contrario della giunta si vota 224 da remoto su 224 consigliera venente consigliera brucoleri consigliere campanella e mi scusi mi puoi ripetere il parere della giunta 224 consigliere campanella il parere della giunta è contrario contrario grazie consigliere cassiba contrario consigliere costa contrario consigliere ferrero contrario consigliere grillo contrario consigliere mordino favorevole consigliera tini favorevole 16 voti favorevoli 23 contrario il consiglio comunale respinge emendamento numero 225 parere della giunta contrario si vota da remoto su 225 parerevole consigliere avvenente grazie consigliere bravole patrici aoscendo cattiva provo le ricvilizzate montoni si vota da remoto sull'organizzazione 19 tini e gara di ringhoi a works in pubblicità sull'organizzazione e consigliere campanella consigliere costa contrario consigliere costa contrario consigliere ferrero contraria consigliere grillo consigliere mordino favorevole consigliere attini favorevole esito votazione sul 225 16 voti favorevoli 22 contrari il consiglio respinge in votazione ora il numero 226 parere della giunta è contrario si vota 226 da remoto sul 226 consigliera Veneto consigliera Brucoleri consigliere Campanella consigliere Cassiba consigliere Costa consigliere Ferrero consigliere Grillo consigliere Mordino consigliere Attini 16 voti favorevoli 22 contrari su 226 consiglio respinge in votazione va ora il 227 parere contrario della giunta si vota da remoto su 227 consigliere Avvenente consigliere consigliere Brucoleri consigliere Campanella consigliere Cassiba consigliere Costa consigliere Ferrero consigliere Grillo consigliere Grillo consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 21 contrari il consiglio comunale respinge il 227 in votazione va ora il 228 con parere contrario della giunta si vota da remoto su 228 consigliere Avvenente consigliere Brucoleri consigliere Campanella consigliere Cassiba consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 13 voti favorevoli 23 contrari il consiglio comunale respinge in votazione vale emendamento numero 29 il parere 229 ovviamente il parere della giunta è contrario si vota da remoto su 229 consigliere favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Costa contrario consigliere Cassiba Cassiba contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevole 22 contrari sul 229 consiglio respinge in votazione in votazione in votazione va ora al 230 parere della giunta è contrario ordine del gioco emendamento scusate 230 si vota da remoto consigliere Avvenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella sì consigliere Cassiba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 21 contrari il consiglio comunale respinge in votazione va ora l'emendamento numero 231 parere della giunta è contrario si vota da remoto da remoto su 231 consigliere Avvenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassiba contrario consigliere Costa consigliere Costa consigliere Ferrero grazie consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 23 contrari su 231 consiglio respinge in votazione l'emendamento numero 232 con parere contrario della giunta si vota da remoto sul 232 consigliere Brucoleri consigliere Campanella consigliere Campanella consigliere Cassiba contrario consigliere Costa anche Campanella contrario ho sentito male è intervenuto consigliere Campanella no Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 22 contrari sul 232 il consiglio respinge in votazione ora 233 parere della giunta è contrario si vota da remoto da remoto 233 consigliere Veneno consigliere Brucoleri consigliere Campanella contrario contrario consigliere Cassiba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevole 23 contrario il consiglio comunale respinge in votazione ora il numero 234 parere della giunta è contrario si vota da remoto 234 consigliere Avenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassiba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 23 contrari il consiglio respinge l'emendamento numero 234 pongo ora in votazione il 235 parere della giunta è contrario si vota 235 da remoto consigliere Avvenente favorevole consigliere Brucoleri consigliere Villa su questo sì sul 235 allora consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella no consigliere Cassiba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevole 22 contrari su 235 il consiglio comunale respinge in votazione il 236 il parere della giunta è favorevole favorevole si vota parere favorevole da remoto sul 236 consigliere Avvenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere favorevole consigliere Cassibba favorevole consigliere Costa favorevole favorevole consigliere Ferrero favorevole consigliere Grillo favorevole consigliere Immordino favorevole consigliere consigliere Attini 38 voti favorevoli il consiglio comunale approva il 236 in votazione ora il 237 il parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 237 consigliere Avenente consigliere Brucoleri consigliere Campanella consigliere Cassimba consigliere Costa consigliere Ferrero consigliere Grillo consigliere Immordino consigliere Attini 16 voti favorevoli il 23 contrario il consiglio comunale respinge il 237 emendamento numero 238 parere della giunta contrario si vota da remoto il 238 consigliere Avenente vorrevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Campanella consigliere Cassimba consigliere Costa consigliere Ferrero consigliere Grillo consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevole 16 voti favorevoli 21 contrario il consiglio comunale respinge emendamento 239 lista Crivello parere della giunta è contrario viene posto in votazione si vota da remoto su 239 consigliere Brucoleri consigliere Campanella consigliere Cassimba consigliere Costa consigliere Ferrero consigliere Grillo consigliere Mordino favorevole consigliere Attini 15 voti favorevoli 22 contrario il consiglio comunale respinge il numero 239 in votazione 240 al parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 240 consigliere Volevole consigliere Brucoleri Volevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassimba contrario consigliere Costa contrari consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 22 contrari il consiglio comunale respinge in votazione in votazione all'emendamento 242 con parere contrario della giunta si vota da remoto sul 242 consigliere avvenente Volevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella consigliere Cassimba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 22 contrari il consiglio comunale respinge in votazione in votazione ora il 243 parere della giunta è contrario si vota da remoto sul 243 consigliere avvenente Volevole consigliere Brucoleri Volevole consigliere Campanella contrario consigliere Cassimba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Mordino favorevole consigliere Attini favorevole 16 voti favorevoli 22 contrari il consiglio comunale respinge emendamento numero 245 parere della giunta è contrario contrario viene posto in votazione 245 si vota da remoto consigliere avvenente finito tra uno Volevole consigliere Brucoleri Volevole consigliere Campanella Volevole consigliere Campanella contrario grazie consigliere Cassimba contrario consigliere Costa contrario consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 15 voti favorevoli 20 contrari il consiglio comunale respinge emendamento numero 246 ultimo della serie il parere della giunta è favorevole si vota da remoto consigliere Avvenente favorevole consigliere Brucoleri favorevole consigliere Campanella favorevole consigliere Cassimba favorevole consigliere Costa favorevole consigliere Ferrero favorevole consigliere Grillo favorevole consigliere Immordino favorevole consigliere Attini favorevole 34 voti favorevoli e 5 al contrario il Consiglio Comunale approva. Bene colleghi, procediamo con le dichiarazioni di voto sulla proposta. Allora vi invito a prenotarvi, vorrei dirvi che si era prenotato alle ore 16.40 per le dichiarazioni di voto il Consigliere, se non voglio fare battute ma abbiamo sentito tossire, il Consigliere Avvenente che era prenotato. Quindi il primo è il Consigliere Avvenente in dichiarazione di voto. Prego Consigliere Avvenente a lei la parola. Mi scuso con tutti per la voce ma è ben noto che mi sono dettato. Faccio il possibile, prego. Spero che mi sentiate. Allora, questa pratica porta con sé un peccato originale che ha ricordato in maniera molto precisa una consigliera del Municipio Ponente in una delle tante commissioni che abbiamo avuto occasione di affrontare per discutere di questa documentazione. E la ha tirato fuori degli articoli di giornale, dei ritagli di articoli di giornale risalenti agli affini degli anni settanta e primi anni ottanta. Da questi articoli si evince chiaramente che le famiglie dei coltivatori che erano presenti in allora nell'avesima furono allontanati dalle loro case coattivamente. E perché furono allontanati coattivamente? È un'ipotesi ovviamente. Probabilmente il soggetto proprietario dell'area già in allora sperava di poter realizzare qualcosa che non fosse direttamente allineato e coerente con l'attività agricola di quella zona. La zona aveva e ha ancora una sua evacuazione di carattere agricole perché in quegli anni era il più grande produttore italiano di fragoline di bosco, i cosiddetti merrelli per dirlo in genovese, che venivano raccolti e ogni mattina venivano portati alla stazione di Voltri e dagli instradati nei mercati del Nord Italia, Milano, Torino e quant'altro. Quindi insomma mandare via quei contadini lasciava presagire che prima o dopo ci potesse essere un'ipotesi di realizzazione di residenze, anche perché non molto lontano, qualche anno prima, nella pineta di Arenzano, una roba molto pesante, fortunatamente non sono più quegli anni, era stata edificata proprio su un terreno dello stesso proprietario. Nell'ambito della discussione che abbiamo avuto l'opportunità di proporre si è parlato spesso di edifici, di ruti e di edifici esistenti. Il Comune ci ha detto che per quanto riguarda questi ultimi possono essere oggetto di un incremento del 20% della superficie abitativa così come è previsto dalle norme di legge. E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto di poter avere un elemento un po' più preciso, perché i vetri quadri di superficie che verranno realizzati sono un po' ballerini in questo senso. Abbiamo chiesto, per adesso in vano, di avere una precisa mappatura di quali il Comune ritiene essere edifici di ruti che non hanno la possibilità dell'incremento del 20% e quali quelli vengono considerati edifici esistenti, quindi che possano avere questo incremento. Questo per avere un elemento di chiarezza in più e poter fornire ai cittadini che si stanno mobilitando per cercare di frenare questa iniziativa. Io credo che se si fa chiarezza su tutto, si fugano i dubbi che qualcuno può ancora avere sulla vera e reale intenzione del proprietario. Inoltre, nell'ultima commissione che abbiamo fatto, abbiamo avuto il piacere finalmente di poter audire la responsabile della soprintendenza alla quale è stato opportunamente chiesto di leggerci qual è stato il parere della soprintendenza in merito a questa operazione. Cosa che fino allora noi ne avevamo sentito parlare, ma non avevamo avuto l'occasione di poterlo vedere. Ebbene è emerso in maniera chiara che le osservazioni della soprintendenza stabiliscono che le costruzioni fanno essere davvero troppe parole della soprintendenza. Quindi, se anche un soggetto terzo che ha sempre avuto a cuore il tema del rispetto, della tutela ambientale, si esprime in questo senso, io credo che non si possa buttare a mare un parere di questo genere. Si ritiene pertanto di tenere conto di questa dichiarazione della soprintendenza, o si va comunque avanti con il progetto di cui si è parlato. Sono molto diversi, per esempio, i vincoli temporali che ci sono stati descritti che verranno posti in capo ai soggetti che acquisteranno queste nuove residenze sparse nel verde. Perché l'utilizzazione obbligatoria come coltivazione agricola è stata limitata nel tempo a 20 anni, che apparentemente possono sembrare davvero tanti, ma sono 20 anni... Consigliera Venente, la lascio terminare, le volevo solo segnalare perché lei è collegata da remoto che sono finiti 5 minuti per la dichiarazione di voto. Mi avvio velocissimamente alla conclusione, me ne scuso. Dicevo solo che attualmente ai residenti che davvero svolgono l'attività di agricoltori, il vincolo prevalente per attività agricola è in perituro. Non si capisce perché ci debba essere una disparità tra soggetti che magari vengono dalla Valpadana a comprarsi una casetta a vista mare, quelli che invece sono lì e che lo fanno da tanti anni il contadino. Troppi rimangono i dubbi che aleggiano circa la sincera volontà di realizzare a Vesima delle opere che possono in qualche modo davvero mirare a una riqualificazione con funzioni di carattere agricola e sorge con decisa evidenza la volontà di realizzare un'edificazione diffusa che risulta vanificare la prevalente attività del territorio. Chiudo dicendo che Vesima, a nostro modo di vedere, avrebbe bisogno di servizi tipo acquedotti pubblici, fognature, il depuratore di Cavalupara che sono 30 anni di cui se ne parla, strade adeguate, ad essere anche funzionali ad evitare il propagarsi degli incendi. Poi, ultimissima cosa, nella zona contigua c'è... Sì, sì, finisco. Grazie. C'è la tratta da completare, la strada creva di Campenave. Anche per rispetto di chi è presente in Aula, che qui da tanti e troppi anni. Le 14. La ringrazio, Presidente. Grazie, grazie. E mi scuso con lei. Consigliere Crivello, suo turno. Prego. Sì, grazie. Ma quando il proponente è proprietario, proprietario-proponente, insomma, viene definito erede di antica famiglia, da oltre mille anni ininterrottamente protagonista della città, ne ha voluto mantenere alti da queste e dall'altra sponda dell'oceano, soprattutto questo aspetto, sottolineiamo i valori del lavoro, dell'intraprendenza e della libertà, custodendo, promuovendo e innovando il patrimonio architettonico e culturale. Credo che il destino fosse già segnato di questa delibera, insomma. Altro che innovazioni. In questa circostanza diremmo che la delibera di questa variante va in una direzione esattamente opposta alla valorizzazione. Valorizzazione sicuramente, ma unicamente di un patrimonio privato. Attenzione, l'abbiamo sottolineato, molti fanno finta di non capirlo. Questa, oggi parliamo di Vesima, ma 647 mila metri quadrati sono in tutta la città. Quindi altro che rilanciare, valorizzare, incoraggiare lo sviluppo agricolo. Sono singolare riqualificazione, si costituisce, si edifica nella zona di pregio. 5.960 metri, recupero dei ruderi, 6.470 nuovi edifici. Chiamiamoli, chiamateli con il loro nome, che di fatto, prima o seconda casa per benestanti. Peraltro il messaggio che abbiamo anche ricordato ai nostri ordini del giorno, la ricerca, lo studio su quel territorio per l'agricoltura, si intuisce, si capisce che si farà veramente poco. E poi il tema della sicurezza, delle acque, del food. Insomma, è evidente il proprietario ha intenzione di spalmarla su altre, questi interventi. Il metodo, in più di una circostanza l'abbiamo detto in questa sala, il fatto che si rifiuti un sopraluogo, abbiamo anche qua l'elenco, si sono fatti sopraluogo a Certosa, Villa Serra, Villa Croce, Alcanile, Monte Conte, se ne sono fatti una quantità significativa. No, no, quello non era previsto, nonostante nella terza seduta si sia detto che si sarebbe fatto il sopraluogo. Gli auditi hanno dimostrato in maniera civile, preparata, argomentata, naturalmente tutte le loro osservazioni. Così ha fatto il municipio ponente, attivo e presente, ma escluso da questo punto di vista. I nostri interlocutori, lo voglio ricordare, sono stati l'architetto proponente, il direttore, la giunta, assente completamente, i municipi contrari su 9, 6, e laddove il municipio ha espresso perere contrario, il centro-destra si è astenuto. Nel medio levante hanno votato 12 consideri favorevoli, 11, 11 contrari. Quindi quattro commissioni, gli esponenti di maggioranza, sono stati di fatto muti. La sovraintendenza ha espresso altro che dubbi qualcosa di più e di fatto si ha dato una dimostrazione di un'idea di città che ogni buon amministratore dovrebbe respingere. La maggioranza si è presa la grande autonomia di tacere, di non parlare in ogni sede. Altro che green community o green economy, si tratta di, diciamo, cementificazione, in una parola. In questa sala, ho concluso, qualcuno ha ripetuto più di una volta, non solo in questa sala, i giornali, le territori, non sono un politico, sono un tecnico. E allora, come se ci si dovesse vergognare del fatto di essere un politico. No, io sottolineo, noi sottolineiamo che esiste la buona politica, esiste la cattiva politica. Oggi, ancora una volta, si scrive una pagina buia, buia, molto buia in questa città. E anche perché, naturalmente, quando si parla di buona e cattiva politica, approvando questa delibera, questa variante, si è fatto, si farà, sicuramente una pessima, pessima scelta politica. Consigliere Pirondini. Grazie, Presidente. Allora, oggi la giunta del Sindaco Bucci ci propone una delibera, che recita che in data 15 dicembre 2020, il legale rappresentante dell'azienda agricola individuale Cattaneo Adorno, Dottor Giacomo, ha presentato proposta di variante al PUC, al fine di poter avviare, cito, un complesso programma di recupero del territorio agricolo dell'avesima. Purtroppo, in realtà, a differenza di quello che c'è scritto nel testo della delibera, sappiamo perfettamente che oggi ci viene banalmente chiesto di esprimerci sulla chiarissima speculazione edilizia, sull'ennesima colata di cemento. Dalla breve parte del testo della delibera che vi ho letto, si potrebbe vincere che il Marchese Cattaneo Adorno sia un appassionato di agricoltura, un coltivatore diretto, un contadino, forse un fattore. In realtà non è proprio così. Secondo, e io citerò un articolo di Genova 24 del 3 giugno 2015, ma ce ne sono molti altri, Cattaneo Adorno è stato condannato con sentenza definitiva nel 2002 a quattro anni di reclusione, per concorso in concussione per i lavori legati alle celebrazioni colombiane del 92 a Genova. Si è rifugiato in Brasile ed è rientrato nel novembre 2006, beneficiando dell'indulto. Ora, prima di palesare il nostro voto su questa sciagurata delibera, vorremmo porci una domanda, ovvero qual è il rapporto tra la giunta del sindaco Bucci e questo signore? Per farlo facciamo una rapidissima cronistoria. Per prima cosa il sindaco Bucci, probabilmente appena venuto a conoscenza della condanna definitiva, lo nomina ambasciatore di Genova, così, per chiarire subito le cose. Cioè, ad una persona condannata a quattro anni di reclusione e che per presumibilmente non finire in galera si rifugia in Brasile, vuole non dargli una bella onorificenza, come dire, elevarlo a modello, in quella manifestazione noi proponemmo, perché fossero nominati ambasciatori di Genova nel mondo, tre musicisti genovesi di livello internazionale. Lei, sindaco, ha scelto un condannato a quattro anni di reclusione. Abbiamo gusti diversi ed orizzonti diversi. Tra l'altro, l'epica motivazione con cui lo premiaste fu questa. Erede di antica famiglia, da oltre mille anni protagonista della vita della città, ne ha voluto mantenere alti, da questa e da quell'altra sponda dell'oceano, forse in questo caso vi riferivate proprio al Brasile, i valori del lavoro, dell'intraprendenza, e questo probabilmente era vero, e della libertà, e forse anche questo. Custodendo, promuovendo e innovando il patrimonio architettonico e culturale. Cioè, promuovendo e innovando il patrimonio architettonico e culturale. Lui vi sta chiedendo di cementificare una zona meravigliosa della nostra città, e voi gli date pure il permesso. Cemento, bella innovazione. Oggi la maggioranza del sindaco Bucci sosterrà la possibilità da parte di questo signore di costruire decine di villette avesima, in collina, in una meravigliosa area agricola. Di fatto deturpandola e distruggendola. Questa sarà la prima volta da molti anni che il Comune di Genova si prenderà la nefasta responsabilità di riprendere a costruire, e quindi a cementificare le nostre colline. Perché evidentemente, il fatto che soltanto sabato scorso, dopo 30 minuti di pioggia, mezza città fosse allagata o oggetto di frane, non vi ha insegnato niente. Purtroppo non imparate mai niente. Come se non bastasse, ci preme segnalare il capitolo che riguarda i possibili conflitti di interesse di questa operazione. Un articolo del secolo del 15 dicembre 2020 segnalava che la variante urbanistica per l'area di Vesima è stata curata dall'architetto Silvia Rizzo, che condivide lo studio con il mio marito Luca Dolmetta. Proprio l'architetto Dolmetta è dal 14 settembre scorso dirigente del Comune di Genova, nell'ufficio di urbanistica, dove è stato assunto con procedura pubblica. L'assessore Cences ha dichiarato che non c'è conflitto di interesse in questo, ma penso che molte persone potrebbero pensare esattamente il contrario. Il secondo conflitto di interesse è possibile, lo riporta anche qua, il secolo XIX, il 21 maggio 2021, nel momento in cui l'assessore Campora esce dal voto della Giunta su questa variante, dichiarandolo, dichiara l'assessore, il mio studio ha seguito delle cause per società che hanno proprietà nella zona interessata dalla variante. Anche un bambino capirebbe che c'è un possibilissimo conflitto di interesse, dimostrato proprio dall'uscita stessa dell'assessore Campora, che sicuramente si è comportato con scrupolo in questo caso, ma il tema del conflitto di interesse rimane. Evidentemente il voto del gruppo del Movimento 5 Stelle sarà contrario a questa delibera, perché porta con sé rapporti a noi non chiari e che andrebbero approfonditi, perché porta con sé possibili conflitti di interesse, perché siamo contro il cemento, perché siamo per la difesa del territorio da nuove speculazioni miopi, e crediamo che quella parte del territorio debba essere preservata e realmente recuperata. Ne siamo così convinti che abbiamo presentato oggi la proposta alternativa che avete bocciato. Chiudo con una domanda, signor Sindaco. Vorremmo che lei oggi sgombrasse il campo dal dubbio che mi ha insinuato un cittadino questa mattina al bar, ovvero che il Marchese Cattaneo Adorno possa essere direttamente o indirettamente tra i finanziatori della fondazione Change, dalla quale lei ha ricevuto alcune decine di migliaia di euro per la scorsa campagna elettorale del 2017. Noi speriamo e crediamo di no. Noi speriamo che non sia così, e speriamo che non sia così nemmeno per la prossima campagna elettorale, che questa persona non sia tra i suoi finanziatori. Però credo che lei dovrebbe rispondere in modo netto ed inequivocabile. Concludo, Presidente. Se ci sarà, se lei risponderà, Sindaco farà semplicemente il proprio dovere di amministratore trasparente. Se invece non lo farà, e sceglierà quindi di avere una condotta torbida e poco chiara, ci vedremo costretti ad interpretare il suo silenzio come la più limpida delle risposte. Grazie. Consigliere Santi. Grazie. Io ho sempre pensato che una città come questa debba essere ispirata alla buona amministrazione. Penso che invece questo non abbia residenza e che la buona amministrazione qui non esista, ci sia solo arroganza, spesso falsità e prepotenza istituzionale. Una illiberalità costituzionale. Noi voteremo ovviamente contro, e parlo a nome del Partito Socialista Italiano. È una delibera oscena, una vera speculazione. È un'operazione di mero greenwashing, destinata al fallimento. Questa è un'operazione che fallirà. E mi domando, perché invece non si è scelto un'altra strada? Per esempio quella di espropriare i terreni del Marchese Catano d'Orno e magari investire lì diversamente creando un'operazione in piena green economy. Magari riportando in quel contesto finanziamenti che sono altrove e magari mal riposti. Ci chiediamo anche se effettivamente sono stati adottati tutti i criteri valutativi di trasparenza. E ci pare di comprendere che qualche sospetto ci sia e che verrà alla luce tra qualche tempo, ma verrà alla luce. E poi ci domandiamo se è morale, se è morale dire bisogna fare comunque anche se è male, ma bisogna fare. Per noi un buon amministratore deve fare il bene comune, non deve fare del male alla propria cittadinanza. Per questo non ci stupiamo e non mi stupisco che il sindaco Bucci abbrà Cirenzi come un compagnone di vecchie avventure. I due hanno decisamente delle affinità elettive che li accomunano. Intanto una che è indiscutibile, è indiscutibile una, la simpatia. La simpatia è una delle incontrovertibili certezze che noi abbiamo, nel senso che riteniamo che effettivamente siano due personaggi simpatici. E poi il fascino che provano verso i poteri forti e non mi si fraintenda. I poteri forti sono quelli che sottendono ad un sistema, e che lo direzionano, lo governano realmente al posto dell'istituzione. Entrambi non hanno un partito, ma solamente dei premurosi sottoposti. Entrambi perderanno le elezioni, o sicuramente uno dei due perderà le elezioni. E di questo ne sono certo. E questo, infatti, lo dico, anche se non auspico questo, ma auspico che perdiate entrambi. E non stupiamoci, quindi, di questa abominevole delibera, contraria al buonsenso, ai principi etici. Al primo posto bisogna che ci sia l'interesse comune, e non quello del privato. Mentre qui, invece, è l'esatto contrario. E questo ne è un esempio. Le lobby nella città si sono rafforzate, i cittadini debbono saperlo, è diminuito il lavoro, è diminuita la popolazione, e soprattutto la sicurezza dei cittadini. Le scelte che sono state fatte anche in termini infrastrutturali, danneggeranno enormemente la cittadinanza, soprattutto quella direttamente coinvolta nelle realtà di cui si tratta. Ma voi della maggioranza, e lo dico veramente con un atteggiamento educativo, perché sono un presuntuoso, o prima o dopo renderete conto di queste decisioni agli elettori, e sarà molto presto. Ed è veramente non piacevole constatare che voi vi siete prostrati a delle decisioni sbagliate che voi sapete benissimo che sono sbagliate. Non lo potete dire, per il momento non lo potete dire, ma quando arriveremo in prossimità della campagna elettorale, anche voi dovrete rendere conto a voi stessi e ai cittadini. Consigliere Terride, prego. Se ricordi, Noi siamo fermamente contrari a questa variante urbanistica. Abbiamo tentato di migliorarla con 238 emendamenti, tutti respinti, tranne uno, per altri identico dall'unico emendamento presentato dalla maggioranza. Ma era evidente fin dall'inizio che questa delibera non potesse essere modificata. L'abbiamo visto nelle commissioni, quattro commissioni celebrate, nelle quali nessun esponente della maggioranza ha preso mai la parola per esprimere la propria opinione. L'abbiamo visto nella discussione di oggi. Allora, perché non si può modificare questa variante che è la più grande cementificazione che la città ricorda negli ultimi 30 anni? Perché non abbiamo potuto neppure fare un sopralluogo con la commissione consigliare, come avevamo chiesto nell'ultima commissione di giovedì scorso. Noi crediamo perché questa variante non risponde all'interesse che ci ha scritto nel testo che oggi votiamo cioè sviluppare l'agricoltura l'avesima, ma risponde a interessi diversi, risponde a interessi sommersi che riguardano più che l'agricoltura la richiesta del proprietario che è il proprietario di Interacollina di rendere edificabili quelle aree. Non è una novità, è da decenni che ci prova. Ci ha provato con tutte le amministrazioni comunali prima della vostra. Ci ha provato quando faceva il costruttore di ILE, ci ha provato quando la sua impresa di costruzione è fallita, ci ha provato prima di fuggire dalla Titante in Sud America e ci ha provato anche quando è tornato in Italia subito dopo l'indulto. Ha sempre trovato di fronte a sia amministrazioni di centro e sinistra che gli dicevano di no. Dicevano la collina è zona agricola e resta zona agricola. Questo gli ha detto la pubblica amministrazione, questo gli ha detto il Comune di Genova finché non è arrivato la Giunta Bucci che gli ha risposto prego si accomodi. Prego. Perché dopo 30 anni di no questa amministrazione ha detto di sì al proprietario dell'Avesima? Allora, noi non lo sappiamo e l'unica cosa certa è che non possiamo credere a quello che ci ha scritto la delibera. Non possiamo credere che i problemi dello spopolamento dell'Avesima o di abbandono del territorio agricolo dipendano dal fatto che lì non si possono costruire villetti. E' questo quello che ci dice oggi la Giunta nascondendo a quest'Aula e alla città il vero motivo. E qual è il vero motivo? Ecco, noi pensiamo che abbia a che fare con l'enorme accrescimento di valore di cui godrà il proprietario privato. Parliamo di decine e decine di milioni di euro. Pensiamo abbia a che fare con quel groviglio di opacità che ci sono. Ci sono dal progettista della variante che prima è stato incaricato dal proprietario privato della collina e poi è stato assunto in comune come architetto alla rigenerazione urbana. Ai ringraziamenti al signor Catania Adorno che leggiamo sul sito di Genova Jeans quanto è costato quel contributo? Quanto è costato? Quante villette ci sono costate il contributo a Genova Jeans? Quante villette ci sono costate il contributo il ringraziamento che leggiamo sul sito di Genova Jeans che dice ringraziamo il primo nome. Signor sindaco vada a controllare il primo nome evento per questo evento ringraziamoci l'elenco di nuovo il primo è Giacomo Catania Adorno vada a vedere signor sindaco vada a vedere io ci sono andato vada anche lei il primo nome signor Giacomo Catania Adorno e dico signore perché sono fedele al 14esimo disposizione finale della Costituzione perché dice che i titoli immobiliari non sono riconosciuti ma non c'è solo questo c'è di peggio prima di tutto la ragione della stessa questa speculazione perché di speculazione si tratta è la rinuncia ad ogni volontà e ad ogni dovere di pianificare il territorio da parte di questa amministrazione comunale senza un'idea di città il comune non pianifica nulla ma si limita ad assecondare gli interessi particolari gli interessi privati che via via gli sono sottoposti e quindi abbiamo scelte senza armonia prive di un disegno complessivo spesso confliggenti tra loro spesso anzi quasi sempre in contrasto con gli strumenti di pianificazione approvati precedentemente la serie record di varianti aggiornamenti al PUC varati in 4 anni dimostra proprio questo continuiamo a cambiare il PUC e ci mettiamo a disposizione di ciascuno di ciascuno che ci porta una qualche idea un pezzettino che confligge con quell'altra che sia che sia i supermercati all'artondo di Carignano che sia la più grande struttura di vendita al centro del nodo stradale di San Benigno o una piscina sul tetto di un supermercato il comune non decide più la destinazione delle aree urbane non fa più quella scelta discrezionale politica approva le richieste che gli arrivano al grido di perché no il comune sta a guardare al limite regola al traffico degli interessi ma non imprime mai la visione di città la fanno i privati la visione della città oggi non avete neppure il coraggio delle vostre scelte perché se volete autorizzare una quarantina di villette alla vesima dovreste non nascondervi dietro lo spopolamento della collina o lo sviluppo dell'agricoltura e invece vi fate scudo dell'agricoltura per autorizzare nuovo cemento guardate un principio che dice nelle aree agricole la residenza ha una funzione essenziale se la vesima si spopola è perché non si possono costruire villette ecco ci dite che con le villette tutto tornerà rigoglioso con le villette con una quarantina di villette alla vesima torneranno le fragole i merelli di cui ci ricordavo il consigliere venete torneranno torneranno le colture locali sarà un tripudio di frutta di ortaggi bastavano 40 villette come mai non ci va pensato nessuno prima di voi perché non è vero perché non è vero e lo si capisce anche dal fatto che manca persino il vincolo di utilizzo delle residenze da parte degli imprenditori agricoli professionali cioè non ci andranno agricoltori ci andrà gente che comprerà a valori di mercato altissimo come è evidente perché sono sul mare case dal signor Catania Adorno il Catania Adorno ci farà un sacco di soldi e le zone agricole rimarranno incolte esattamente come lo sono oggi o forse peggio perché nel frattempo avremo cementificato la collina impermeabilizzandola lo spopolamento della Vesima non c'entra nulla con la necessità di costruire nuovi volumi lo spopolamento della Vesima è conseguenza degli sfratti che lo stesso proprietario ha intimato negli anni 80 e negli anni successivi oggi poi si lamenta che non ci abita più nessuno ma li ha mandati via lui bisognerebbe chiedere ma perché li ha mandati via lo spopolamento è frutta semmai dalla mancanza di servizi l'acquedotto le linee elettriche le fogne le reti telefoniche il problema della mobilità c'è l'unica strada la Vesima la maggior parte dei servizi essenziali alla Vesima non ci sono ma questo non viene in mente nera al proprietario e neppure al comune e invece vengono in mente le billette 6480 metri quadri di nuova costruzione residenze a cui sommiamo 2235 metri quadri di edifici di ruti che diventano anche queste residenze poi ci sono 960 metri quadri aumento del 20% dell'esistente il totale fa 9.675 metri quadri di nuova costruzione 9.675 metri quadri di nuova costruzione nella Vesima in area agricola in area di corridova paesaggistico una colata di cemento che trasforma un'area classificata ISMA-CPA in qualcos'altro non c'è più l'insediamento sparso non c'è diventa un insediamento diffuso l'ha detto anche la regione non c'è più il mantenimento della zona agricola non ci sono più i corridoi paesaggistici questa è una colata di cemento che arriva soprattutto vicino al mare perché è lì vicino al mare che il mercato immobiliare tira di più altra che agricoltura questo vuole costruire villette e voi lo lasciate fare noi votiamo contro questa variante che è un vero e proprio tradimento del piano urbanistico comunale calpesta ogni documento di pianificazione sovraordinata della città metropolitana e di regione Liguria dopo decenni in cui tutti gli urbanisti e tutti i comuni hanno condiviso il principio del costruire sul costruito e della riduzione del consumo del suolo il comune di Genova fa il contrario mentre il sindaco ha il coraggio di andare in giro a parlare di sviluppo ecosostenibile non potremmo fare più come si faceva i figli gli eredici no villette villette come negli anni 80 avrebbero ecco la residenza il comune ci dice che la residenza è libera cioè non soggetta ai vincoli ai vincoli in zona agricola non è più solo una funzione ammessa ma diventa funzione essenziale essenziale per il conseguimento della finalità del presidio territoriale agricolo per sviluppare l'agricoltura ci viene detto bisogna costruire le villette ecco avrebbero dovuto l'ho già detto e lo ripeto avrebbero dovuto invitare a Glasgow il sindaco e la sessore a spiegare questo principio perché saremo i primi nel mondo visto che ci piacciono i primati ecco siamo i primi nel mondo che dicono che per sviluppare l'agricoltura bisogna costruire villette sicuramente siamo i primi avreste dovuto andarci a Glasgow a confrontarvi con i più grandi esperti della tutela dell'ambiente nel mondo perché sareste stati con stupore non dico con favore ma con stupore ecco questo principio è una follia ve l'hanno detto tutti gli auditi che abbiamo ascoltato in commissione ma anche gli enti intervenuti in fase di valutazione ambientale ve l'ha detto la regione ve l'ha scritto la regione si rilevano criticità con riferimento sia al carattere episodico che al limite di complementarietà al recupero dell'esistente che la nuova edificazione deve garantire la regione sempre dice l'indice di edificabilità determina densità edilizie che cedono i limiti di consistenza dell'insediamento sparso risultando più proprio di un asset di tipo diffuso cioè dice voi tradite la regola che vi siete dati insediamento sparso e fate un insediamento diffuso lo ha detto la soprintendenza ai beni culturali l'intervento dice l'ha scritto l'intervento ancorché in fase preliminare presenta alcune criticità sotto molteplici profili in relazione alla normativa paesaggistica vigente l'incidenza delle nuove volumetrie dice la soprintendenza dovrà garantire il mantenimento della percezione dei corridoi tutelati e dovrà essere adeguatamente studiata una nuova quantità edificatoria i nuovi inserimenti appaiono quantitativamente troppi e in contrasto con la stessa ptcp lo dice la soprintendenza ve lo ha detto città metropolitana che ripeto non è un ente lontano politicamente a questo e ha detto con riferimento a tutti gli strumenti di pianificazione di livello metropolitano si segnala che particolare attenzione viene posta alla riduzione di consumo del suolo rispetto alla quale la variante non risulta tenere conto dovendosi in tal senso effettuare le opportune valutazioni e modificazioni da parte della civica amministrazione cioè la città metropolitana va detto dovete cambiare la variante dovete cambiarla perché è contraria all'idea di ridurre il consumo del suolo voi fate finta di nulla e tirate dritto approviamo la stessa variante che è uscita dalla giunta nonostante i pareri che ho letto prima di ora e in più volete applicare questo principio non solo all'avesima ma tutta la città in ogni zona agricola superiore ai 10 eteri noi siamo contrari a questa variante che non c'entra nulla lo ripeto con l'agricoltura e con lo sviluppo ambientale dell'avesima questa è una speculazione edilizia è una speculazione edilizia bella e buona una colata di 10.000 metri quadri di cemento sulla collina dell'avesima che sia infiocchettata con belle parole bei disegni i giardini dell'avesima i piani agronomici le cartine colorate i disegni degli alberi balle la realtà è altro è cemento in una zona agricola in un corrido paesaggistico e questo consiglio approverà la variante senza rete senza aver prima visto il contenuto della convenzione che dovrebbe stabilire gli obblighi per il costruttore e per chi abiterà nelle nuove residenze non abbiamo l'abbiamo chiesta in commissione di poter vedere la convenzione che stabilisce gli obblighi non c'è stato verso abbiamo chiesto di poter vedere gli allegati alla fase di scoping gli allegati presentati da sopravipendenza della metropolitana non c'è stato verso quello che votiamo oggi non è solo una variante è un vero e proprio tradimento della pianificazione urbanistica una pianificazione urbanistica che ha promesso di non consumare altro suolo e lo ha promesso la nostra città di non consumare altro suolo di fronte ai disastri ambientali davanti al dissesto idrogeologico davanti alla cementificazione dissennata negli anni 50 e negli anni 60 davanti ai muri che cedono alle frane all'esondazione dei fiumi voi vi assumete la responsabilità di far tornare la città indietro di decenni alle palazzine alla speculazione edilizia ci promettete alberi e tutela delle colline e le ha impermeabilizzate con un nuovo cemento oggi noi votiamo contro e da domani fuori di quest'aula continueremo a combattere per una Genova migliore una Genova più verde una Genova più moderna una Genova che non ha lo sguardo rivolto al passato alle villette in area agricola all'indulgenza all'interesse dei palazzinari tutto il mondo tutto il mondo ha capito che la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono fattori di sviluppo non sono vincoli sono fattori di sviluppo tutto il mondo tranne questa amministrazione dovreste sentire il dovere di spiegare il perché se non al mondo almeno alle genovesi e ai genovesi grazie consigliere Mascia beh io dopo questo intervento un po' bucolico mi verrebbe da girare lo sguardo alle alture di Genova e vedere poi il frutto di questa politica green in tutti questi anni di amministrazione di sinistra che è materializzato in tutte le in tutte le costruzioni e le cementificazioni che abbiamo alle spalle di Genova dei veri e propri obbrovri c'era addirittura la cultura ideologica dei falansteri di Dostoyevskiana memoria per cui bisognava mettere tutti insieme le classi popolari ammassate perché così nello stare fianco a fianco avere ognuno al fiato sul colo dell'altra evidentemente si stava meglio evidentemente si avvertiva di più la solidarietà ecco io penso che quando si è deturpato il territorio come è stato fatto nei decenni precedenti a questa amministrazione si dovrebbe avere quantomeno se non un minimo di pudore almeno un po' di obiettività in più perché questa tanto per cominciare non è una variante che da domani apre le porte alle ruspe e alla cementificazione di una collina questa è un'immagine che è stata fatta passare per ovviamente spaventare i residenti gli agricoltori tutti quelli che sono venuti spaventati poi durante le quattro commissioni che si sono svolte in questa in questo iter di approvazione della e di invio all'aula di questa di questa pratica ma francamente non si è detto che questo è solo un primo passo al quale ne seguiranno tanti altri nei quali sono delle vere e proprio forche caudine anche burocratiche che prevedono comunque delle osservazioni delle contradduzioni anche della modifica degli elaborati per recepimento di osservazioni e pareri prevedono un inter in ambito regionale con la VAS prevedono eventuali integrazioni prevedono il rapporto ambientale ci sarà anche la possibilità eventualmente di continuare ad avere un monitoraggio come è stato sollecitato a più voci di questa pratica perché non è che la perdiamo di vista ecco far passare l'idea che questa pratica si chiuda stasera e far di tutto per sottolinearlo francamente mi sembra anche un po' disonesto e anche poco rispettoso per chi ci ascolta probabilmente a quest'ora non lo so se ci ascoltano più le persone che sono interessate a questa pratica la verità è quella che è scritta nero su bianco anche nell'ambito dell'emendamento che abbiamo portato avanti come maggioranza e che combinazione come ha detto chi mi ha preceduto che coincide proprio alla lettera con un emendamento che è stato proposto dall'opposizione quindi recepisce a pieno delle modifiche dei suggerimenti che ci sono arrivati da parte degli auditi e che sono volti ad esempio a far sì che ci sia a carico degli acquirenti una convenzione un patto unilaterale d'obbligo che verrà sottoscritta con l'impegno alla conduzione agricola dei terreni con la durata almeno trentennale e poi l'obbligo di avvalersi per la coltivazione dei fondi asserviti esclusivamente di imprenditori agricoli professionali come definiti dalle norme generali del PUC quindi se proprio avevamo la preoccupazione di lasciar fuori gli imprenditori agricoli se proprio avevamo la preoccupazione di lasciare incolti i terreni lasciarli a se stessi questi sono aspetti che combinazione tra l'altro anche le opposizioni avevano proposto nell'emendamento che è stato recepito che sono volti proprio a cercare di evidenziare questo interesse che ha l'amministrazione è che questi terreni siano coltivati perché in questo momento lo sappiamo tutti che si siano spopolati per rispratti o si siano spopolati per altro motivo io non vedo francamente la corsa ad andare a abitare a Vesi ma comunque in questa fase a prescindere anche perché non mi sembra una zona poi particolarmente ricca di servizi alla fine dei conti in questo momento abbiamo di fronte un ambito che è completamente desolato e abbandonato quindi l'alternativa qual è? cercare di avvantaggiare fare in modo di far sì che questi terreni vengano messi comunque a frutto in qualche maniera oppure no questa è semplicemente l'alternativa che ci troviamo davanti e non finisce qui l'iter come dicevo io non ho condiviso e non condiviso e non condivido e posso dirlo anche a nome di tutti noi della maggioranza che interventi che trasudano di odio sociale nei confronti del Marchese perché io penso che la dimestichezza con i Marchesi forse ce l'ha più la sinistra in questa città visto che ha messo sullo scranno più alto di questo comune un sindaco Marchese e non mi risulta che il sindaco Bucci abbia dei quarti di nobiltà e in secondo luogo non ho condiviso e non condivido questo giustizialismo malettaro per cui alla fine dei conti i condannati non hanno più diritto di cittadinanza in una città alzi la mano chi anche nei partiti di opposizione non ha mai avuto a che fare con un condannato io non penso che ci siano leader che possano vantare delle fedine così vergini e una condotta anche illibata a me questa sorta di moralismo e andare a colpire una pratica di variante urbanistica solo perché solo perché si tenta di delegittimare in odio a tutti i principi costituzionali anche di riabilitazione perché esiste anche la riabilitazione e i condannati non esiste solo la contatta ecco io francamente non la condivido preferisco essere garantista e preferisco oltretutto credere nei principi costituzionali che sono anche principi di rieducazione e di riabilitazione e poi ripeto da che pulpito vengono le prediche grazie grazie consigliere Campanella grazie presidente io come penso alla maggior parte di genovesi che rappresentiamo in maggioranza non ne vogliamo prendere lezioni da coloro che fanno parte di un partito che ricorda i fatti del 1993 quando il sindaco di Genova il piedesino Burlando veniva arrestato per truffa e abuso di atti d'ufficio da un partito che sino a pochi decenni di anni fa hanno deturpato seriamente e gravemente non solo il cuore della città demolendo anche via madre di Dio per fare un eco mostro in una zona che era meravigliosa ma anche per costruire quartieri fattiscenti senza servizi e senza barriere architettoniche e mi riferisco a Vegato al Ceppe ma anche al Biscione dove ci sono tutt'oggi persone non abili rinchiuse nelle proprie abitazioni perché bloccate da scalinate questi sono i veri scempi e mi rifiuto di riprendere lezioni da coloro che hanno lasciato una collina abbandonata e mi riferisco a quella di Vesima dove ad oggi a detta di loro è ancora priva di fogne e di condutture di acque ma se loro fossero stati virtuosi innanzitutto non avrebbero perso le lezioni e seconda cosa avrebbero fatto l'impossibile per non far spopolare quella collina che adesso è abbandonata a se stessa e l'attacco e l'attacco sempre sociale che la sinistra fa e che tutti i genovesi hanno pociato nel 2017 è un attacco vergognoso e ben sa e ben sanno i nostri amici di sinistra e il compagno Bernini che era il vice sindaco di un marchese che era conosciuto come il sindaco del non fare come sindaco del non fare e oggi ci vengono a fare questa morale dopo aver vergognosamente fatto votare ogni singolo documento facendo pesare questo consiglio comunale con gli straordinari di tutti i dipendenti sulle tasche dei contribuenti genovesi e allora voi vi dovete veramente vergognare e poi avete detto una montagna di bugie noi abbiamo fatto ben quattro commissioni e a Vesima sono state fatte anche dei sopralluoghi con la partecipazione anche dei municipi e quel municipio non è di certo di centro-destra dopodiché avete detto anche che nelle quattro commissioni i consigli di maggioranza non hanno aperto bocca un'altra falsità perché io ho parlato in tutti i quattro le commissioni tutte le quattro le commissioni i cittadini vi conoscono e cittadini vi vogliono stare lontano perché sono stufi del vostro fare politica in modo pretestuoso e in modo davvero arrogante come abbiamo visto stasera dove teniamo bloccati nel palazzo di Tursi fino alle 22 di sera delle famiglie oneste dei cittadini lavoratori del comune di Genova abbiamo persone del comune di Genova che stanno lavorando alle 22 di sera per colpa di chi non vuole fare una votazione giusta e sensata raccorporando tutti i documenti e per questo vi dovete vergognare detto ciò la variante urbanistica consente quindi questo recupero di un territorio comunque abbandonato e pertanto noi siamo a favore per questa siamo a favore di votare questa delibera all'unanimità del nostro gruppo grazie buona serata grazie consigliere campanella per favore per favore per favore hanno parlato tutti tutti hanno diritto di esprimere il loro pensiero mi chiede la parola in conclusione prima di andare in votazione il signor sindaco prego questa lascio qui allora direi che in polemiche strumentali ne abbiamo sentite in quattro anni e mezzo ma come oggi forse abbiamo toccato record io invito solo a vedere quattro numeri 150 ettari a casa mia sono un milione e mezzo di metri quadrati su questo milione e mezzo di metri quadrati ci sono 650 mila che sono sotto la tutela quella che avete detto voi io non mi ricordo mai il nome contiamo questi 650 mila metri quadrati su questi verranno costruiti tra quello che c'è e quello che sarà aggiunto in più un totale di circa 13 mila metri quadrati che vuol dire un metro quadrato ogni 52 metri quadrati siccome sono a due piani se li mettiamo un piano solo sono un metro quadrato ogni 100 metri quadrati se questa per voi è una colata di cemento guardatevi attorno signori perché non sapete in che mondo vivete questo è niente rispetto a quello che è la situazione di Genova o anche la situazione di tutte le aree attorno a Genova e tutta la Liguria per cui dire una cosa del genere vuol dire non aver capito nulla di quello che vuol dire cementificazione poi ora può pensare come vuole ma i numeri signori sono numeri e su questi si può discutere poco si possono interpretare uno interpreta in un modo uno interpreta in un altro ma su questi numeri parlare di cementificazione ci vuole un bel coraggio poi aggiungo ora questo progetto che io considero una ottima rigenerazione urbana prevede acqua luce gas dati internet protezione idrogeologica e strade quello che oggi non c'è o se c'è è veramente ridotto male quindi queste sette cose sono sette servizi essenziali che vanno a mettersi in un'area che per noi è assolutamente importante della nostra città quindi anche solo dire no vuol dire secondo me non aver capito dove deve andare il mondo io vi dico questo come sapete sono stati tanti anni negli Stati Uniti negli Stati Uniti i parchi nazionali sono molto anziani sono stati i primi negli Stati Uniti ad avere i parchi nazionali verso il 1870 80 in quegli anni di John Mueller quello che li ha fondati e sono famosi per proteggere veramente il territorio ebbene i sentieri nei parchi nazionali nella diciamo in quelli più caldi quelli più che sono soggetti più all'erosione sono asfaltati e la gente può camminare solo sul sentiero asfaltato perché quelle persone lì non sono talebane sono intelligenti e quindi dicono che se no se non asfaltano poi si erodono completamente e sparisce il sentiero e sparisce la terra quindi c'è bisogno di un'opera chiamate la cementificazione asfaltatura chiamatelo come cavolo vi pare ma si deve fare perché altrimenti si distrugge si distrugge il territorio quindi voglio dire non si può fare discorsi talebani in questi casi qui si sta facendo di una legislazione urbana che secondo me dà molto valore al sistema e dà molto valore anche alla nostra città e come tale va mantenuta e questa è la nostra opinione per cui dire che non parliamo di queste cose è totalmente scorretta aggiungo al consigliere Terride che in termini di ecosostenibilità direi che siamo quelli che forse in tutta Italia come città metropolitana abbiamo il progetto migliore in assoluto dal porto ai trasporti urbane e alle rigenerazioni che stiamo facendo tra NBIC Waterfront di Levante e tutte le altre che facciamo anche sui monti incluso la telecabina che porterà su Assino Abbegato quindi su queste cose possiamo raccontarne direi molto orgogliosamente sentirmi dire che per questo motivo noi siamo in contraddizione proprio non ha nessun seno alla consigliera Lodi dico che l'ascolto noi l'abbiamo sempre fatto continueremo sempre a farlo ma ascoltare tutti è un dovere del sindaco e della giunta e prendere la decisione dopo aver ascoltato tutti è altrettanto dovere ascoltare tutti e non prendere alcuna decisione come hanno fatto tanti dietro di me nelle precedenti giunte è una cosa vergognosa e totalmente deleteria per la nostra città che assolutamente non voglio sia addossata alla nostra giunta al consigliere Pirondini di cui mi vergogno un po' di quello che ha detto come genovese rispondo in questo modo mi vergogno di lei consigliere Pirondini o di te e mi vergogno in questo modo per favore per favore signor sindaco e consigliere Pirondini entrambi 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 per favore consigliere Pirondini lei ha fatto affermazioni lei prima ha fatto affermazioni molto dure e io ho zittito il sindaco ora vale il contrario ora vale il contrario per cortesia per cortesia faccia finire il sindaco faccia finire il suo intervinto mi vergogno di chi fa affermazioni utilizzando la macchina del fango perché quando si vuole accusare si fa un esposto in procura e si va in procura a fare un esposto ognuno si deve prendere le responsabilità di quello che dice e io vorrei che i genovesi come hanno sempre fatto in tutta la loro storia si prendessero le responsabilità chi dice una cosa adesso per favore o lo fai smettere o lo mandi dire cosa devo fare io però per favore non mi costringa a farla uscire dall'aula consigliere Pirondini per cortesia per cortesia per cortesia consigliere Pirondini per cortesia faccia finire il sindaco che è l'unico che non ha parlato finora grazie devo ripetere o è chiaro quello che ho detto è chiaro? bene per cui chi ha delle accuse da fare va in procura e fa le accuse altrimenti la macchina del fango che è tipica di un certo tipo di di attività noi la rifiutiamo totalmente ma la rifiutano i genovesi la rifiuta la gente oramai queste cose non servono più e si vedono i risultati basta vedere basta vedere le statistiche di quello che pensa la gente queste cose non servono più cari miei andate in procura e fate le accuse che dovete fare e pensate che ci siano delle accuse ma farle così ha poco senso a me finanziamenti non sono mai arrivati da nessuno che io sappia quindi posso dirlo proprio onestamente andate a controllare i miei conti correnti e vedete quanti finanziamenti mi sono arrivati eh signori poi se magari qualcuno non lo so a qualcuno regalavano delle cose senza che lo sapessero beh non è mai successo ok? ecco dopodiché andiamo avanti per cui rifiuto totalmente questo modo di lavorare non soltanto nel concetto ma nel modo non si usa la macchina del fango chiaro? non si mettono se uno ha dei motivi per accusare va in procura e accusa se no se no non dovrebbe stare non dovrebbe dirlo soltanto perché tutti noi dobbiamo avere una dignità di persona vado avanti con la visione di città e concludo la visione di città ce l'abbiamo cari miei l'abbiamo avuta e quattro anni fa l'abbiamo data ai genovesi e i genovesi l'hanno accettata e continuiamo a far a metterla in pratica giorno dopo e continuiamo a far